alle 8 della sera il racconto delle cose e dei fatti la società dei ghetti di gustavo corni sarà creato un distritto ebreo nel quale dovranno risiedere sia gli ebrei che vivono a varsavia sia quelli che vi si trasferiranno l'ultima annotazione della cronaca del ghetto di uc il secondo più grande costruito sul suolo di polonia dalle autorità d'occupazione tedesche porta la data del 28 luglio 1944 l'annotazione ci dice che la popolazione del ghetto era di 68 mila 561 abitanti era stata una giornata di sole vi era stato un caso di suicidio ma nessuna minaccia di epidemia infine l'annotazione dice che era prevista la distribuzione di un chilogrammo di patate a testa questa era la normalità del ghetto la normalità che poche settimane dopo venne bruscamente interrotta attraverso una serie di convogli ferroviari gli ebrei rimasti nel secondo più grande ghetto dell'europa orientale vennero trasportati nel campo di sterminio di auschwitz dove quasi tutti loro passarono nelle settimane successive su per il camino come ironicamente dicevano i tedeschi secondo un testimone indiretto nel piazzale di auschwitz si svolse un'ultima sfilata degli ebrei sopravvissuti di fronte al capo del ghetto il re mordecai rumkowski colui che aveva costruito il ghetto come una comunità di lavoro e che lo aveva fatto sopravvivere fino a quel momento si chiudeva così nell'agosto del 1944 la vicenda delle centinaia di ghetti piccoli e grandi nei quali le autorità nazionalsocialiste d'occupazione e i loro alleati avevano costretto gli ebrei a vivere nei due tre anni precedenti i ghetti avevano una lunga tradizione storica dal dodicesimo tredicesimo secolo le comunità ebraiche sparse per l'europa erano state chiuse in quartieri in ambiti circoscritti dai quali potevano uscire soltanto in determinati momenti ed erano questi ambiti questi ghetti erano allo stesso tempo luoghi di segregazione ma anche luoghi di protezione in certa misura all'interno dei quali gli ebrei potevano vivere i loro riti e la loro religione dopo l'abolizione definitiva dei ghetti e l'emancipazione degli ebrei a seguito della l'evoluzione francese questi erano scomparsi non del tutto soprattutto in europa orientale era scomparsa la mentalità del ghetto come si diceva anche criticamente cioè quella idea di essere chiusi in se stessi ma anche allo stesso tempo di essere impotenti di fronte alle sfide del mondo moderno in germania hitler e il nazionalsocialismo erano andati al potere nel gennaio del 1933 sulla base di un forte consenso elettorale ma anche di un accordo politico con importanti settori delle classi dirigenti tedesche chiunque e non erano molti avesse letto le opere di hitler e in particolare il mein kampf non poteva non avere capito che hitler era un antisemita radicale e così lo erano anche molti dei suoi seguaci per lui gli ebrei erano un problema da risolvere che doveva essere risolto in qualunque modo non si può però dire credo che al momento della presa del potere hitler avesse già in mente lo sterminio degli ebrei in effetti la politica anti ebraica del regime fu messa in atto con molte oscillazioni e fu tutt'altro che lineare furono emanate una serie di norme di ordinanze che impedivano agli ebrei di lavorare che limitavano le loro possibilità di movimento che li espellevano dall'apparato pubblico ma furono però anche emanate delle leggi le cosiddette leggi di norimberga nel settembre del 1935 che collocavano gli ebrei in un rango di cittadini di seconda classe aprendo così la strada a qualunque ulteriore azione punitiva d'altro canto dopo il 1937 38 si favorina ogni modo la loro emigrazione anche se dopo averli spogliati di tutti i loro beni fu presa anche in considerazione la possibilità di chiuderli in ghetti dove sarebbero diventati innocui come hitler stesso disse sarebbe stato come andare allo zoo da dietro alla gabbia si sarebbe potuto guardare con curiosità come vivevano gli ebrei ma queste enunciazioni non fu mai dato seguito per gli ebrei residenti in germania non vennero mai costituiti dei ghetti veri e propri il primo settembre 1939 inizia la seconda guerra mondiale con l'invasione tedesca della polonia in polonia vivevano oltre 3 milioni di ebrei molti dei quali appartenevano a quella categoria più odiata dagli antisemiti la categoria degli ebrei tradizionali conformisti chiusi ad ogni forma di integrazione con il mondo esterno poche settimane dopo in base agli accordi siglati dai ministri degli molotov e ribbentrop il 23 agosto 1939 le truppe sovietiche entravano in polonia da est unione sovietica e germania si dividevano il paese sconfitto sotto il controllo tedesco rimasero poco più di 2 milioni di ebrei polacchi cosa farne l'idea più ovvia che poteva venire in mente era l'idea tradizionale radicata nella mentalità degli antisemiti chiuderli nei ghetti chiuderli nei danneggiare la politica germanica fu così che il 21 di settembre il vice capo delle ss hydrische emanò un'ordinanza generale secondo la quale tutti gli ebrei nella polonia occupata avrebbero dovuto essere concentrati entro breve tempo in grandi ghetti urbani i piani tedeschi per la polonia occupata erano in realtà molto confusi era abbastanza chiara l'idea di trasformare di annettere i territori più occidentali quelli che avevano un passato di appartenenza allo stato prussiano e nei quali erano vissute comunità tedesche ma per la parte centrale e orientale del paese occupato non si sapeva cosa fare i territori annessi che furono annessi nei mesi successivi sarebbero dovuti diventare judenfrei cioè privi di ebrei anzi l'idea era quella di liberarli anche della popolazione polacca per poterne fare dei luoghi di colonizzazione per i nuovi signori germanici gli ebrei dovevano quindi essere spostati ma dove certo verso oriente ma dove esattamente non si sapeva molto bene che fare soprattutto della parte centrale della polonia occupata che ora aveva come capitale cracovia e che venne denominata governatorato generale forse un mondezzaio etnico come si esprimevano le fonti nazionalsocialiste in attese che si aprissero nuovi spazi si liberassero nuove terre per poter spostare sempre più in là le popolazioni indesiderate e allo stesso tempo spostare sempre più verso oriente l'ambito di colonizzazione tedesca è quella che uno storico tedesco ha efficacemente chiamato una politica del domino etnico lo spostamento di una pedina cioè di un popolo avrebbe provocato lo spostamento delle successive pedine in una sorta di ciclo irrefrenabile l'ordinanza di heidrich del 21 di settembre che disponeva la chiusura degli ebrei nei ghetti non venne in realtà applicata subito rimase per lungo tempo lettera morta non c'erano i mezzi per spostare gli ebrei in massa e questi spostamenti avrebbero provocato danni al tessuto economico quindi la costruzione dei ghetti in polonia avvenne in tempi molto più lenti e con differenze notevoli da una zona all'altra per fare un esempio il ghetto di ucci venne costruito solo nel maggio del 1940 in effetti ucce ribattezzata litzmanstadt avrebbe dovuto essere liberata completamente della sua popolazione ebraica tuttavia l'importanza economica della comunità ebraica in quella città era tale che si decise di concentrare gli ebrei per sfruttarne la manodopera a varsavia vivevano circa 350.000 ebrei ovvero il 30 per cento della popolazione la decisione di costruire un ghetto fu molto lunga e tormentata nella capitale polacca le voci iniziarono a diffondersi all'inizio del 1940 ma tra gli ebrei molti pensavano fosse impossibile spostare una tal massa di popolazione in breve tempo altri erano contenti all'idea del ghetto da quando i tedeschi erano arrivati le violenze e i soprusi erano all'ordine del giorno in effetti l'annuncio ufficiale dello spostamento venne dato il 19 maggio ma lo spostamento reale si svolse soltanto in ottobre circa 130.000 ebrei furono spostati all'interno del quartiere loro destinato e quasi altrettanti polacchi furono invece spostati nella cosiddetta parte ariana si poteva così chiudere ai primi di novembre del 1940 il più grande ghetto nell'europa orientale occupata la chiusura degli ebrei nei ghetti in polonia fu un processo lungo che si svolse tra l'autunno il tardo autunno del 1939 e i primi mesi del 1941 gli ultimi ad essere costituiti furono i ghetti nel distretto orientale di lublino molti ghetti furono creati in pochi giorni o con un preavviso addirittura di poche ore costringendo così la popolazione ebraica che magari per lungo tempo si era cullata nella speranza che nulla cambiasse a spostamenti improvvisi e inaspettati inoltre in generale alla popolazione venne lasciato la possibilità di portare con sé soltanto il minimo indispensabile in molti casi poco più di un fagotto o al massimo un carretto sul quale caricare poche masserizie bisogna anche ricordare che non appena erano entrati in polonia i tedeschi avevano provveduto a spossessare gli ebrei di tutto delle loro case dei loro beni dei loro patrimoni bloccando anche i loro conti bancari la popolazione ebraica perciò venne costretta a spostarsi nei ghetti in condizioni tragiche generalmente tragiche con il minimo indispensabile per poter sopravvivere lo dimostrano i numerosi rastrellamenti che i tedeschi fecero nel corso del tempo tuttavia non pochi degli ebrei costretti a chiudersi nei ghetti furono invece in grado di salvare qualche bene prezioso gioielli pellicce denaro beni assolutamente fondamentali poi nel ghetto per potersi procurare cibo per potersi procurare combustibili quindi in realtà la ghettizzazione fu un processo che provocò una rivoluzione sociale terribile all'interno del ghetto modificando completamente la stratificazione sociale i ricchi di prima diventavano improvvisamente poveri e magari quel povero ebreo che però aveva a disposizione una casetta o che aveva a disposizione un qualche bene che diventava utile o fondamentale quando si era chiusi nel ghetto diventava improvvisamente una persona benestante o una persona relativamente benestante allo stesso tempo la chiusura dei ghetti provocò una trasformazione radicale nei rapporti sociali tra l'interno e l'esterno in moltissimi casi gli ebrei furono costretti ad abbandonare le loro belle case i loro appartamenti nei quartieri migliori delle città per trasferirsi in catapecche in casupole e scambiarle con persone che improvvisamente avevano a disposizione una casa un appartamento in ottime condizioni oppure non si può dimenticare la rapacità con la quale la popolazione circostante assistette partecipò allo spostamento degli ebrei nei ghetti si rubava per una valigia oppure un carretto fondamentale per poter trasportare qualche misera cosa all'interno del ghetto diventava un bene assolutamente prezioso come reagirono gli ebrei di fronte alla costituzione del ghetto è molto difficile dare delle valutazioni generali soprattutto perché ci mancano le testimonianze la gran parte degli ebrei chiusi nel ghetto sono morti sono stati sterminati assumono quindi un valore fondamentale le pochissime documentazioni diaristiche e memorialistiche che danno un'immagine o qualche sguardo della vita all'interno del ghetto e ci danno anche qualche indicazione su come reagirono gli ebrei nel momento in cui furono costretti a chiudersi nel ghetto beh per molti probabilmente il ghetto assunse il valore di sicurezza e in qualche modo di forza cito una testimonianza nel ghetto io ero stato in mezzo ad ebrei e con amici e parenti avevo qualcuno con cui parlare oppure il premio nobel per la pace elie weasel così descrive le sue prime sensazioni nel ghetto rumeno di siget pian pianino la vita ritornò normale il filo spinato che ci chiudeva non ci procurava un'effettiva paura anzi ritenevamo di stare bene eravamo pienamente autosufficienti pochi colsero in quel momento l'illusorietà di questa autosufficienza e di questa autonomia fu così che quasi dovunque le ordinanze di costituzione dei ghetti vennero accolte con paura panico ma senza reagire un tentativo di esponenti della sinistra ebraica varsavia di ribellarsi cadde nel vuoto e come ho detto per molti il ghetto era un luogo dove sfuggire alle violenze quotidiane nelle quali nei mesi e nelle settimane precedenti erano stati costretti sia dai tedeschi che anche dagli antisemiti locali non si può negare che la chiusura degli ebrei polacchi nei ghetti sia stata un'operazione di terribile violenza uno sradicamento dal loro contesto dalla loro vita dalla normalità e anche una terribile ferita al loro senso della dignità tuttavia in senso stretto la violenza fisicamente fu soltanto un fenomeno marginale le comunità polacche rinchiuse nei ghetti rimasero sostanzialmente intatte nelle loro dimensioni pur con quelle trasformazioni profonde che abbiamo ricordato che subirono al momento ad entrare nel ghetto e che poi si sarebbero approfondite all'interno del ghetto stesso una situazione completamente diversa è invece ciò che avviene in unione sovietica in unione sovietica vivevano più di tre milioni di ebrei probabilmente la metà di essi finirono per trovarsi nelle mani degli aggressori nel momento in cui a partire dal giugno 1941 le armate tedesche invasero l'unione sovietica l'attacco contro l'unione sovietica era considerato da hitler come una guerra completamente diversa da tutte le altre avrebbe dovuto essere una guerra assoluta di ideologie dalla quale sarebbe potuto uscire soltanto un vincitore assoluto lo sconfitto sarebbe dovuto sparire quindi hitler aveva una visione del comunismo e di quello che veniva chiamato giudeo bolscevismo come di un nemico assoluto da annientare completamente era una visione molto diversa rispetto a quella che si aveva degli ebrei polacchi che erano guardati piuttosto con disprezzo come un popolo sporco ma impotente e incapace di reagire degli ebrei sovietici dei giudeo bolscevichi si aveva invece allo stesso tempo disprezzo ma anche paura l'attuazione di questa guerra totale fu effettivamente del tutto conseguente alle premesse ideologiche date dal fuhrer furono istituite alcune unità speciali le cosiddette einsatzgruppen che in collaborazioni con le forze armate tedesche ma anche in collaborazione con milizie cosiddette nazionaliste che si costituirono spontaneamente nei territori conquistati tra giugno e luglio del 1941 iniziarono a sterminare la popolazione ebraica i comunisti ma più in generale tutti gli ebrei considerati dei nemici questi massacri che potremmo così definire sporadici portarono all'eliminazione nel giro di un paio di mesi di circa 5 600 mila ebrei questi furono generalmente massacrati in fosse comuni attraverso la fucilazione o con mitragliatrici il caso più noto è quello della fossa di babiar nelle vicinanze di kiev dove in poco più di un giorno furono annientati più di 32 mila ebrei per lo più donne e bambini nei territori sovietici occupati tra questi intendo naturalmente i paesi baltici conquistati dall'URSS nel settembre del 39 e poi riconquistati dalla germania nel giugno del 1941 la ghettizzazione fu perciò un processo residuale furono chiusi nei ghetti soltanto coloro che erano sopravvissuti a questi primi stermini di massa prendiamo l'esempio della città lituana di kaunas dove nelle prime settimane dell'invasione tedesca furono eliminati con fucilazioni sommarie circa 18 mila ebrei per lo più maschi maschi perché ritenuti più pericolosi i restanti 18 mila vennero chiusi in un ghetto solo alla metà di agosto e lo stesso avvenne più o meno in tutte le altre principali città dell'unione sovietica occupata e dei paesi baltici dove la chiusura nei ghetti avvenne solo dopo il massacro di una parte consistente della popolazione in parte questo massacro colpì soprattutto i maschi perché ritenuti più pericolosi in altri casi furono massacrate invece donne e bambini perché qualcuno pensava che fosse possibile comunque usare la mano d'opera maschile una delle caratteristiche più evidenti della vita dei ghetti ebraici costruiti dalle autorità tedesche d'occupazione nel corso della seconda guerra mondiale è rappresentata dalle pessime condizioni abitative che contribuirono in misura notevole al diffondersi di malattie di epidemie e quindi alla morte dei loro abitanti in molti casi nella maggior parte dei casi i ghetti furono ritagliati in aree particolarmente degradate delle varie città in case spesso senza luce senza acqua corrente senza servizi e senza fognature ma anche là dove queste infrastrutture esistevano almeno in una certa misura a causa del sovraffollamento e della mancanza di manutenzione ben presto queste collassarono nel ghetto di ucce il secondo più grande dopo varsavia si contavano oltre 31 mila appartamenti per circa 160 mila abitanti ma in appena 294 di questi appartamenti vi era una toilette interna e solo 613 erano dotati di acqua corrente nel ghetto lituano di kaunas venne calcolato che ciascun abitante avesse a disposizione non più di 1,7 metri quadrati di superficie abitabile a leopoli le statistiche ufficiali riportavano che a ciascun abitante del ghetto spettassero in media 2,6 metri quadrati di spazio abitabile e tutte queste sono cifre teoriche in realtà la vita quotidiana dei ghetti era rappresentata da un sovraffollamento e da un degrado insostenibile vorrei citare dal diario di una giovane varsaviana che con non poca ironia descrive così la propria nuova abitazione io abito in una stanza di passaggio sembra di vivere su di un autobus non solo la gente passa ininterrottamente ma entrano ed escono dalla porta tutti insieme come se stessero salendo sulla metropolitana è semplicemente disgustoso l'affollamento è forse peggio della fame in effetti il caso della capitale polacca è assolutamente in più macroscopico basti tenere presente che il ghetto occupava appena 4,6 per cento della superficie complessiva della città mentre arrivò ad ospitare ben più di 400.000 abitanti ovvero circa un terzo della popolazione complessiva si dormiva fra misti astrati in 5 8 10 persone per stanza senza nessuna possibilità di dialogo familiare men che meno di intimità in inverno si soffriva per il freddo a causa della mancanza di combustibile in primavera in estate il caldo era insopportabile e il caldo provocava con sé soprattutto la fermentazione e il marcire dell'immondizia e di tutto ciò che non poteva essere trasportato via da infrastrutture che non esistevano certo almeno all'inizio ci furono alcune famiglie che cercarono di mantenere per quanto possibile il decoro a cui erano abituate una tovaglia imbandita un minimo di organizzazione domestica ma ben presto questo decoro incominciò a cedere di fronte al sovraffollamento alla miseria alla fame nei ghetti sovraffollati nei quali solo di sera alla fine di una dura giornata di lavoro era possibile magari trarre qualche momento di respiro e scambiare un po di qualche chiacchiera fra vicini o fra parenti predominava un rumore di fondo che un testimone accoglieva con grande sensibilità e vorrei citare testualmente ogni mendicante ogni venditore ha il proprio canto poi c'è il martellante accompagnamento dei passi della folla che circolava e su tutto questo dominava il rumore del traffico un fortissimo sinfonico accanto al sovraffollamento era la fame l'elemento fondamentale che caratterizzava in modo indelebile la vita quotidiana nei ghetti ricordo che arrivati nei territori da occupare le autorità tedesche avevano tolto agli ebrei tutto ciò che possedevano e avevano almeno in un primo tempo tolto loro anche la possibilità di lavorare e com'era possibile quindi nutrirli secondo esponenti autorevole del regime nazionalsocialista la chiusura degli ebrei nei ghetti avrebbe rappresentato la soluzione del problema ebraico lasciati a se stessi senza cibo senza medicine senza combustibile senza nessuna possibilità di comunicare con il mondo esterno gli ebrei sarebbero poco alla volta morti si sarebbero estinti per usare la cinica espressione di goebbels il regista della propaganda hitleriana i ghetti erano delle casse della morte da cui non si sarebbe potuti uscire teoricamente questa soluzione avrebbe potuto anche funzionare tuttavia esistevano alcuni problemi strutturali che rendevano una soluzione di questo tipo impraticabile irrealizzabile ne ricordo soltanto alcuni a causa delle difficili condizioni di vita dentro ai ghetti vi si iniziarono a diffondere rapidamente malattie epidemie in particolare il tifo o la tubercolosi e sappiamo che nessun muro può fermare una malattia un'epidemia questo significava che i ghetti sarebbero diventati avrebbero potuto diventare ben presto dei focolai pericolosi per la sanità pubblica complessiva per non parlare del rischio di rivolte all'interno dei ghetti da parte della popolazione ebraica di cui certo si si sapeva o si pensava fosse impotente incapace di reagire ma che tuttavia si poteva sempre temere si sarebbe ribellata in particolare in unione sovietica vi è poi un ulteriore fattore importante che deve essere ricordato molti funzionari nei territori occupati vedevano le aree loro affidate le città le regioni come una creatura della quale occuparsi in modo organizzato in modo dirigente ed efficiente e quindi alcuni di essi iniziarono a ragionare sul fatto che gli ebrei chiusi nei ghetti rappresentavano una fonte di mano d'opera notevole una mano d'opera gratuita praticamente impotente che fra l'altro è adottata anche di una tradizione e di capacità lavorative notevoli quindi in molti ghetti a iniziare da quello già più volte ricordato di ucci furono create fabbriche o officine che lavoravano per l'economia di guerra tedesca ma per poter lavorare in modo efficiente occorreva che gli ebrei venisse data una sistemazione decente venissero date delle razioni adeguate magari un salario per almeno un anno e mezzo dopo l'occupazione della polonia le autorità d'occupazioni tennero un atteggiamento ambiguo e l'incerto tra questi due estremi quello dei cosiddetti logoramentisti cioè che avrebbero visto i ghetti come un luogo in cui gli ebrei si sarebbero logorati da sé e quello di coloro che invece pensavano di sfruttare la disponibilità di questa mano d'opera una posizione ambigua ed incerta dove tra l'altro giocavano anche un ruolo degli interessi privati ricordiamo l'esempio di Schindler diventato famoso per il libro e soprattutto per il film di Spielberg che era un imprenditore tedesco il quale seppe cogliere l'occasione di sfruttare per i propri fini in un primo tempo la disponibilità di mano d'opera ebraica quindi all'interno di questa ambiguità sostanziale dal punto di vista edilizio abitativo nulla venne fatto per migliorare le condizioni dei ghetti dal punto di vista alimentare neppure d'altra parte i responsabili della politica alimentare tedesca si giustificavano adducendo la difficile situazione alimentare complessiva in europa ma soprattutto le autorità nazionalsocialiste non erano disposte a cedere sul principio che agli ebrei inutili e inferiori sarebbe spettato del cibo solo se ne fosse avanzato all'interno della rigida piramide razziale e alimentare costruita nell'europa occupata in cima il popolo dei signori herrenfolk sotto con varie gradazioni gli altri popoli a seconda della loro collocazione politica e raziale la fame era la regina nel ghetto era l'elemento fondamentale il motivo decisivo della vita quotidiana e delle preoccupazioni e degli impegni quotidiani della popolazione ghettizzata il cui principale intento era quello di procurarsi del cibo che consentisse di sopravvivere o di la propria vita e lo vediamo molto bene nelle testimonianze diaristiche e memorialistiche dove la fame e l'affannosa ricerca di cibo da aggiungere a razioni del tutto insufficienti segnano i pensieri e le azioni di tutti i giorni scrive un diarista di ucci quanto meno cibo ricevevamo tanto più ne parlavamo e tanto più lasciavamo correre selvaggiamente la fantasia un'altra citazione che mi sembra molto significativa nel ghetto non avevamo bisogno di un calendario le nostre vite erano divise in periodi basati sulla distribuzione di cibo ogni giorno era diviso in due parti prima e dopo aver ricevuto la nostra zuppa la fame provocava lotte egoismi sopraffazioni persino all'interno delle famiglie ma accanto alle lotte e agli egoismi alle sopraffazioni vi erano anche molti elementi di solidarietà l'approvvigionamento dei ghetti era una questione cruciale che dipendeva sostanzialmente dall'arbitrio delle autorità d'occupazione erano loro le uniche che potevano fornire ai ghetti delle derrate alimentari oppure decidere di non farlo certo la tipica tradizione burocratica tedesca di fissare stabilire quantificare esattamente tutto fece sì che in numerose occasioni venissero stilate delle vere proprie razioni con indicazioni precise di grammi di calorie e di volta in volta riviste ma si trattava di enunciazioni completamente astratte puramente sulla carta in realtà l'approvvigionamento dipendeva dall'arbitrio di questo di quel funzionario dipendeva da una situazione congiunturale che poteva essere del tutto casuale i rifornimenti previsti non sempre arrivavano non sempre arrivavano con regolarità e poi quando anche arrivavano la qualità era pessima la carne ad esempio era per lo più carne di scarto equina la farina era spesso ammuffita inutilizzabile le verdure per lo più marce inoltre quando a causa della mancanza di adeguati sistemi di refrigerazione e di conservazione quando arrivava un rifornimento nel ghetto doveva essere per forza di cose distribuito e consumato quanto prima secondo stime effettuate all'interno del ghetto di varsavia dagli stessi medici ebrei che studiarono la fame che dedicarono ad essa grande attenzione grande preoccupazione le razioni reali giornaliere all'interno del ghetto nel 1941 erano inferiori alle 1300 calorie quotidiane ovvero un livello del tutto inadeguato per una normale attività lavorativa in molti ghetti i consigli ebraici di cui parleremo anche più avanti cioè che erano gli organi ai quali tedeschi avevano affidato per così dire un fittizio autogoverno dei ghetti cercarono di ovviare almeno in parte a questa difficilissima situazione attraverso la realizzazione l'istituzione di mense collettive in questo modo era possibile razionalizzare la distribuzione e la cottura del cibo anche qui il caso di uc è assolutamente cruciale in questa città dove tutta la popolazione ghettizzata di fatto lavorava le cucine collettive arrivarono a preparare circa 145 mila pasti caldi al giorno in altri ghetti in particolare nel ghetto di varsavia si lasciò invece spazio ad una sorta di fantomatico mercato la difficoltà di approfiggionamento dei ghetti era come abbiamo detto dovuta in primo luogo al fatto che questi erano chiusi nei confronti del mondo esterno la gran parte di essi erano ermeticamente chiusi ma vi erano anche alcuni casi in ghetti più piccoli o comunque in alcune situazioni in cui i ghetti in verità avevano qualche possibilità di interazione con il mondo esterno ad esempio nella romania settentrionale dove le autorità rumene e tedesche chiusero alcune centinaia di migliaia di ebrei nel 1941 42 molti dei ghetti erano in realtà delle aree nemmeno sorvegliate ai confini con le quali potevano avvenire scambi di mercato ma anche in questo caso i contadini che andavano a portare del cibo al recinto del ghetto erano ovviamente interessati soprattutto a trarre il massimo profitto a speculare sulle condizioni di inferiorità e di debolezza dei cittadini ebraici ghettizzati quindi anche là dove funzionavano scambi con l'esterno o forme anche rudimentali di mercato il problema fondamentale era rappresentato dal fatto che i prezzi tendevano inesorabilmente a crescere a salire e questo fece sì che se anche all'inizio una parte degli abitanti del ghetto avevano delle riserve avevano un qualche bene prezioso da scambiare con il passare del tempo queste disponibilità andarono calando fino a terminare completamente ciò fece sì che anche coloro che erano riusciti a mettere da parte qualcosa ben presto si trovarono con nulla in mano è particolarmente significativo da questo punto di vista il caso delle decine di migliaia di ebrei che a partire dall'autunno del 1941 furono deportati dalla Germania dall'Austria e dalla Bohemia Moravia verso i ghetti dell'Europa orientale in particolare verso i ghetti di Ucci di Riga e di Minsk la deportazione degli ebrei tedeschi rientrava all'interno del processo di sterminio che ormai era avviato e la chiusura nel ghetto era soltanto una prima breve tappa verso lo sterminio definitivo molti di questi ebrei deportati erano persone anziane non sapevano dove sarebbero andate molti di loro erano del tutto incapaci sia per l'età sia per le condizioni sociali dalle quali provenivano di svolgere lavori manuali soprattutto quei pesanti lavori manuali dai quali dipendeva una minima possibilità di sopravvivenza all'interno del ghetto. Quando arrivarono nei ghetti orientali essi ebbero perciò particolari difficoltà di adattamento furono visti in un primo tempo con grande diffidenza dagli ebrei ghettizzati d'altra parte avevano delle grosse difficoltà di comunicazione loro parlavano tedesco gli ebrei ghettizzati parlavano o il russo o il polacco o l'iddish e non erano capaci di lavorare. L'unica possibilità di sopravvivenza che si avevano era quella di usare i beni, i pochi beni, qualche gioiello, dell'oro, un qualche oggetto che potesse essere scambiato con il cibo visto che non potevano lavorare. Quindi beni preziosi in cambio di cibo ma ben presto questi beni preziosi finirono e anche questi deportati prima di essere inviati alla tappa definitiva dello sterminio finirono per essere miseri tra i miseri, i più poveri all'interno del ghetto e i più affamati all'interno del ghetto. La carenza di cibo all'interno dei ghetti che rappresentava come abbiamo già detto un elemento cruciale per la sopravvivenza della comunità poteva essere ovviata solo in minima parte attraverso alcuni strumenti, alcune possibilità molto marginali ed estremamente pericolose. Mi riferisco soprattutto al contrabbando. Data la carenza delle forniture alimentari ufficiali e data la sostanziale, anche se talvolta non completa, chiusura verso l'esterno, il contrabbando rappresentava l'unica possibilità per importare delle derrate alimentari all'interno del ghetto. Sostanzialmente possiamo distinguere tre tipi di contrabbando che hanno delle caratteristiche molto diverse l'uno dall'altro e che riflettono anche delle situazioni sociali molto diverse l'una dall'altra. Possiamo distinguere in primo luogo il contrabbando che veniva compiuto dagli operai ebrei che numerosi in molti ghetti venivano portati alla mattina fuori dal ghetto a lavorare in qualche fabbrica all'esterno oppure per qualche corvè imposta dalle autorità di occupazione. Non in tutti i ghetti infatti vi era la possibilità di dare lavoro a tutti gli abitanti ed in molti casi una parte dei lavoratori venivano costretti a lavorare all'esterno. Queste corvè esterne rappresentavano però un'importante possibilità di avere dei contatti con il mondo esterno, ad esempio per avere delle notizie, ma soprattutto per poter acquisire del cibo o comunque beni indispensabili per la sopravvivenza all'interno del ghetto. Ricordo per esempio le medicine, la cui disponibilità era assolutamente minima. Avveniva perciò molto spesso che al rientro dalla giornata di lavoro, dalla durissima giornata di lavoro, molti di questi operai ed operaie portassero con sé, nascosti nei cappotti o in qualche tasca, un pezzo di pane, un po' di cibo o qualche altro bene indispensabile per la sopravvivenza. E la durezza, maggiore o minore, dei controlli alle porte del ghetto, costituiva un elemento fondamentale e discriminante non solo per il singolo lavoratore che poteva venire perquisito e se gli si trovava addosso qualcosa veniva picchiato, frustato o addirittura poteva essere fucilato sul posto, ma rappresentava un elemento fondamentale per la vita della comunità nel suo insieme. Se i controlli erano severi, la sopravvivenza della comunità era messa a rischio. Una seconda modalità simile di contrabbando vedeva come protagonisti i bambini. I bambini sono un elemento fondamentale nella vita del ghetto, li ritroveremo anche in altri momenti. Erano veloci, abili, intelligenti, spregiudicati, capaci soprattutto di sfuggire più facilmente ai controlli da parte della polizia. Molto spesso perciò questi bambini cercavano di sgattaiolare dai recinti, dai muri che chiudevano i ghetti, per andare verso l'esterno e scambiare qualche bene prezioso o del denaro con un po' di cibo. E vi sono descrizioni diaristiche molto significative e molto interessanti su questa sorta di lotta del gatto col topo di questi ragazzini, bambini di 7, 8, 10 anni che cercavano a tutti i costi di evitare i controlli alle mura del ghetto e che molto spesso invece finivano vittime delle fucilate di qualche poliziotto che li collieva nel momento in cui cercavano di portare verso la propria famiglia, verso i propri cari, un po' di cibo in più per la sopravvivenza. Se il contrabbando effettuato dai lavoratori che giornalmente uscivano e entravano nel ghetto per andare a lavorare o dai bambini erano sostanzialmente mirati alla sopravvivenza della propria famiglia, del proprio nucleo familiare, vi era un'altra forma di contrabbando che aveva delle caratteristiche e delle finalità molto diverse. Era il contrabbando organizzato. Ne sappiamo abbastanza poco, abbiamo qualche testimonianza, qualche rara testimonianza, tuttavia è probabile che questo contrabbando venisse organizzato godendo di notevoli complicità all'esterno, sia da parte di privati cittadini, polacchi o russi che fossero, sia da parte di poliziotti, ma non è escluso che a questo contrabbando in qualche modo partecipassero come complici, e naturalmente anche sfruttandolo sul piano economico, poliziotti o funzionari tedeschi. Ed il contrabbando era una forma organizzata, ben organizzata, un attento osservatore parla di contrabbandieri che lavoravano come gli orologi svizzeri, tale era la loro puntualità e la loro perfetta organizzazione. Questo contrabbando era organizzato in modo massiccio da bande vere e proprie che avevano ramificazioni all'interno e dall'esterno del ghetto. È altrettanto certo che ben presto i contrabbandieri diventarono una nuova elite all'interno dei ghetti, una categoria di nuovi ricchi che potevano permettersi quei pochi lussi, tra virgolette, di cui la società nel ghetto era in qualche modo in grado di usufruire. È interessante vedere come i diaristi e coloro che hanno scritto memorie hanno valutato in quel momento dal vivo il ruolo dei contrabbandieri. Erano forse degli eroi o erano degli speculatori? Erano, come scrive lodandoli Emmanuel Ringelblum, il diarista del ghetto di Varsavia, invincibili come l'Inghilterra? Erano coloro ai quali il ghetto tutto doveva delle possibilità di sopravvivenza? O non erano invece dei cinici speculatori e sfruttatori delle altrui miserie? Certamente i contrabbandieri lavoravano per il proprio profitto. È indiscutibile che i contrabbandieri costituissero un elemento fondamentale per la sopravvivenza del ghetto. Erano loro che riuscivano a portare all'interno del ghetto derrate alimentari supplementari in grado di sostenere o di aiutare una parte della popolazione. È altrettanto vero però che i prezzi che essi chiedevano per le derrate che riuscivano a portare nel ghetto erano alti, molto alti, per lo più insostenibili per la maggior parte degli abitanti nel ghetto. Questa ambiguità di posizione, di ruolo dei contrabbandieri è riflettuta dai giudizi che abbiamo prima ricordato e costituisce un elemento cruciale per capire quanto ambigua e quanto sfaccettata fosse la realtà all'interno del ghetto, nel quale bene e male, giusto e ingiusto, si mescolavano, si intrecciavano in modo inesorabile. Lo speculatore poteva diventare il salvatore, lo sfruttatore poteva diventare colui che dava un contributo fondamentale per la sopravvivenza del ghetto. Il ghetto di Varsavia aveva il suo matto, come spesso accade, un tal Rubinstein, il quale passava il suo tempo chiedendo l'elemosina ma in cambio suonando un organetto e canticchiando in qualche modo delle canzonette in giro per le strade del ghetto e uno dei motivi che ripeteva più volte era alle gleiche, alle gleiche, tutti uguali. Rubinstein voleva presentare la società del ghetto come una società fatta di uguali, la leggeva così nella sua ingenuità, di persone uguali verso il basso, tutte povere uguali. Abbiamo appena visto però, parlando dei contrabbandieri e parlando dell'articolata organizzazione con cui i contrabbandieri gestivano anche con complicità dall'esterno e sfruttavano la difficile situazione della maggioranza della popolazione ghettizzata, abbiamo visto, dicevo, come in realtà la società del ghetto sia fortemente articolata al suo interno. Non è possibile vedere la società del ghetto come una società omogenea, verso il basso, costituita tutte da persone sull'orlo della fame e sull'orlo della miseria. Almeno in un primo tempo, ma questo primo tempo dura talvolta a lungo, almeno in un primo tempo la società del ghetto è rappresentata da una articolazione sociale che è molto interessante al suo interno. È un'articolazione nella quale assistiamo da un lato a dei forti declini sociali, per esempio gli intellettuali che nella società ebraica prebellica godevano di una posizione di privilegio grazie alla loro sapienza, grazie alla loro cultura. Gli intellettuali, dicevano, smettono di svolgere questo ruolo nel ghetto, le autorità tedesche chiudono tutte le scuole, impediscono la gran parte delle attività intellettuali e quindi la classe degli intellettuali crolla dalla posizione di privilegio che godeva ad una posizione infima. Molti di loro sono costretti a fare i portinai nelle case del ghetto, moltissimi di loro finiranno per fare i mendicanti e saranno tra i primi a morire, perché incapaci, fisicamente incapaci e culturalmente incapaci, di lavorare manualmente. Ma anche i religiosi, altra colonna portante della società ebraica prebellica, vengono a trovarsi in una profonda crisi. E va in crisi anche la borghesia ebraica. Certo è una crisi abbastanza lenta, è una crisi che non avviene dall'oggi al domani e soprattutto quella espropriazione che le autorità d'occupazione avevano voluto realizzare nella fase iniziale della ghettizzazione, si dimostra in realtà illusoria, non realizzata. Come mostrano chiaramente i rastrellamenti e le operazioni di sequestri che le autorità di quando in quando fanno all'interno dei ghetti, nei ghetti continuavano ad esistere delle situazioni di ricchezza o di relativa ricchezza. È significativo da questo punto di vista ciò che avviene nell'inverno del 1942, quando per poter aiutare i soldati impegnati nell'inverno russo, le autorità tedesche realizzano quella che viene chiamata l'operazione delle pellicce. Cioè vengono compiuti dei rastrellamenti all'interno dei ghetti per rastrellare tutti i cappotti, le pellicce che erano rimaste nei ghetti. E le cifre che attestano il numero di pellicce sequestrate mostrano con assoluta chiarezza come all'interno dei ghetti continuassero ad esserci persone benestanti, apparentemente benestanti. A Varsavia, ancora una volta, furono consegnate complessivamente 690 pellicce da uomo, 2541 pellicce da donna, 4441 cappotti imbottiti da uomo e 4120 da donna, 122 volpi argentate, 872 volpi rosse, 5118 martore, 39556 colli di pelo. E così via. E se i vecchi ricchi, le vecchie borghesia, andarono gradualmente perdendo di importanza e di ricchezza, naturalmente questi termini devono essere presi in modo estremamente relativo, assistiamo invece all'interno dei ghetti all'ascesa di nuove categorie di ricchi. E vorrei mettere in evidenza in particolare due. Una è rappresentata dai contrabbandieri, ai quali abbiamo già fatto cenno prima, e l'altra è quella del personale e soprattutto dei gruppi dirigenti dei consigli ebraici, gli Judenrete. Torniamo indietro, anzi scendiamo adesso in fondo alla scala di questa società del ghetto, che indiscutibilmente era una società povera che si andava impoverendo con grande rapidità. Tuttavia povera ma con differenze tra i poveri, e soprattutto con profonde, laceranti contraddizioni. Ad esempio, a Varsavia, ma anche altrove, funzionarono a lungo dei ristoranti. Uno di essi si chiamava Allah Furchette, ed un testimone così lo descrive. Pile di oca arrosto e al forno, ricche torte di mele ed altre specialità della cucina ebraica. Non solo ristoranti ma anche negozi. In un altro diario di Varsavia troviamo questa descrizione di ciò che si poteva vedere in una delle strade centrali del ghetto. Le vetrine sono piene del meglio, ma chi è in grado di poterselo permettere? È caratteristico del nostro tempo che accanto a vetrine colme di dolci vi siano bambini morti, coperti soltanto con fogli di giornale. Al fondo, dicevo, di questa gerarchia sociale troviamo alcune categorie molto significative e anche molto definite. Troviamo ad esempio i profughi. Profughi erano quegli ebrei che non vivevano nel ghetto e che furono costretti nel corso del tempo dalle autorità d'occupazione a spostarsi all'interno dei ghetti. Ciò avvenne soprattutto nei confronti delle piccole e piccolissime comunità rurali ebraiche che le autorità non erano in grado di controllare. Perciò costrinsero questi ebrei a trasferirsi coattivamente all'interno dei ghetti. E questi profughi rappresentavano una parte notevole della popolazione del ghetto. A Varsavia, alla fine del dicembre 1940, secondo una statistica ufficiale, erano un quinto della popolazione. La loro situazione era particolarmente difficile perché non disponevano nemmeno di quella modesta rete di amicizie, di parentele, insomma di quella modesta rete di sicurezza sociale di cui in qualche modo potevano disporre gli abitanti, diciamo così, residenziali nel ghetto. I profughi erano completamente sraticati, non avevano nessun punto di riferimento e non è un caso che fra i profughi troviamo poi i più alti tassi di mortalità. E un'altra categoria particolarmente sradicata e particolarmente incapace di adattarsi alle difficilissime situazioni di vita nel ghetti era quella che abbiamo già ricordato dei deportati dal Reich, dalla Germania e dall'Austria. Questi tedeschi che erano per lo più persone di una certa età, molti dei quali provenivano da ambienti urbani e da attività del tutto aliene, dall'attività manuali, da impegni di tipo manuale, si vennero a trovare nei ghetti dell'Europa orientale nell'inverno 1941-42 in una situazione particolarmente difficile per motivi di difficoltà di adattamento, di incapacità di comunicazione e finirono per cadere ben presto ai gradini più bassi della gerarchia sociale all'interno del ghetto. E infine bisogna ricordare l'enorme marea dei mendicanti, mendicanti fra i quali spiccavano naturalmente i bambini, i ragazzi, moltissimi dei quali erano orfani, se non orfani in senso stretto, orfani perché avevano perduto qualsiasi contatto con i loro genitori. Decine e decine di migliaia di mendicanti che pullavano nelle strade del ghetto alla ricerca, solitamente vana, di un minimo aiuto e di un minimo sostegno. Abbiamo visto come la società del ghetto al suo interno sia fortemente articolata e frammentata e questa articolazione cambia sia rispetto a specifiche situazioni regionali sia rispetto al tempo che è a sua volta condizionato dalle politiche degli occupatori. Sono gli occupatori ad avere il coltello dalla parte del manico e di questo gli ebrei chiusi nei ghetti iniziano ad accorgersi quasi subito o perlomeno se ne rendono conto chiaramente con il passare del tempo in modo assolutamente evidente. Dal punto di vista della sua struttura e articolazione interna la società del ghetto è in qualche modo una società di transizione possiamo così dire tra la struttura tradizionale della società ebraica come si era andata sviluppando e cristallizzando nei secoli precedenti soprattutto nell'Europa orientale e quella società anonima e amorfa per certi aspetti completamente eterodiretta che è la società del campo di concentramento e del campo di sterminio. Il ghetto è una società di mezzo che ha alcuni elementi della società tradizionale prebellica e che via via va assumendo altri elementi invece che poi troveranno il loro trionfo che troveranno la loro macabra realizzazione nel campo di concentramento dove tutti sono almeno apparentemente uguali gli uni agli altri. Abbiamo visto anche come i giovani siano una componente fondamentale della vita del ghetto. Sono una componente fondamentale anche perché una parte notevole dei diari e delle testimonianze di cui noi disponiamo oggi sono state proprio scritte da giovani. Ragazzi e ragazze poco più che adolescenti, Mary Berg a Varsavia aveva 15 anni, David Seryakovak a Lodz aveva 15 anni, Halina Nelken a Cracovia altrettanto, e scrivono diari toccanti, spesso privati, sulla vita, sulle esperienze che fanno all'interno del ghetto. Abbiamo anche alcuni dati quantitativi sulla numero dei giovani presenti all'interno dei ghetti e queste cifre, perlomeno per quanto ci sono note, ci dicono che circa un quarto, un quinto della popolazione del ghetto era al di sotto dei 15 anni. Certamente questa quota percentuale andò poi calando con il passare del tempo a causa del sostanziale crollo delle nascite. Perché crollo delle nascite? In parte per motivi fisiologici dovuti alla carenza di cibo, alla carenza di risorse che rendeva molto difficile portare avanti delle gravidanze, ma anche in parte e direi soprattutto a causa dei divieti emanati dalle autorità d'occupazione alle donne che stavano nei ghetti di partorire. Vi erano delle minacce molto severe che in molti casi noti sono state anche applicate di imporre l'aborto a tutte le donne che venissero trovate in gravidanza. Ed abbiamo non poche testimonianze che ci attestano come una nascita nel ghetto fosse una specie di miracolo. Un bambino che nasce nel ghetto di Leopoli viene battezzato con il nome di David proprio a celebrare questa specie di miracolo. Ancora una volta le testimonianze e i censimenti provenienti dal ghetto di Ucce, in cui l'apparato di conteggio della vita interna del ghetto era molto ben funzionante, ci mostrano questa enorme situazione di divario tra le nascite e le morti. Nei primi dieci mesi del 1942, stando alle statistiche ufficiali, abbiamo 19.302 decessi ed appena 480 nascite. Qual è il ruolo? Quale sono le funzioni sociali che svolgono bambini ed adolescenti all'interno del ghetto? In primo luogo dobbiamo ricordare l'elemento fondamentale che era rappresentato dalla mancanza completa o quasi completa dell'istruzione. All'interno dei ghetti non era propriamente vietato costituire o far funzionare delle scuole o mandare avanti in qualche modo un apparato educativo, tuttavia le condizioni di vita all'interno del ghetto stesso, la situazione materiale, rendeva il funzionamento delle scuole molto molto difficile. È interessante notare come vi sia una differenza fondamentale nel comportamento delle autorità tedesche verso gli ebrei da una parte e gli abitanti della Polonia dall'altra per quanto riguarda la questione scuole. Nei confronti degli ebrei possiamo cogliere sicuramente una serie di divieti, se non formali di fatto informali, ad esempio il rendere impossibile la costituzione di aule, il rendere impossibile la fornitura di quaderni, di libri e naturalmente anche il creare enormi difficoltà per gli insegnanti, che nessuno pagava, tuttavia in qualche modo le autorità tedesche lasciano correre, almeno in Polonia, o spesso lasciano correre sul funzionamento delle scuole. Nei confronti della popolazione polacca in generale invece troviamo una politica assolutamente diversa, molto più severa e molto più rigorosa nei confronti dei polacchi vengono emanate delle precise e severe ordinanze per vietare qualunque forma di istruzione al di sopra dell'istruzione elementare. Come diceva cinicamente Hitler in una delle sue conversazioni notturne, gli bastava che i polacchi sapessero contare fino a 500, conoscessero l'alfabeto e soprattutto sapessero capire quali erano gli ordini dei tedeschi. Ma torniamo all'interno del ghetto. Le difficoltà di funzionamento delle scuole erano soprattutto di natura materiale. Mancavano le aule, mancava il mobilio, mancavano quaderni, libri, altre attrezzature. Gli insegnanti non mancavano. Sappiamo che le comunità ebraiche tradizionalmente attribuivano una grande importanza, un grande rilievo all'istruzione e alla cultura e nelle comunità dell'Europa orientale vi era un gran numero di insegnanti di ogni livello. Tuttavia nessuno li poteva pagare e quindi molti degli insegnanti, seppur disponibili o desiderosi di continuare il loro lavoro, erano in realtà costretti prima di tutto a cercare un qualche lavoro che consentisse loro di sopravvivere. Il risultato complessivo di tutti questi elementi di tipo materiale era che l'apparato scolastico funzionava, ma funzionava a singhiozzo e funzionava in modo abbastanza rudimentale e poco ordinato. Ancora un dato quantitativo che ci può in qualche modo dare un'idea della situazione viene da Varsavia. Vi erano all'interno del ghetto della capitale polacca circa 50.000 bambini e bambine in età scolare elementare. Ebbene risulta che di questi 50.000 poco più di 7.000 abbiano potuto frequentare, anche se in modo intermittente e con molti ostacoli, un ciclo scolastico per almeno uno o due anni. Tuttavia l'attenzione e la preoccupazione per la scuola e per l'istruzione era molto forte all'interno dei ghetti. Nei ghetti che si stavano dedicando alle attività produttive, al lavoro, visto come unica possibilità di sopravvivenza, l'interesse della comunità era quello di far funzionare almeno delle scuole di formazione professionale, per dare a ragazzi e ragazze qualche rudimento di attività professionali manuali che consentissero quindi di sfruttarne in modo più efficiente l'attività lavorativa. Ma vorrei sottolineare soprattutto l'interesse che vi è da parte di molti dei giovani stessi. Uno degli autori dei diari che abbiamo preso in considerazione, Isaac Rudacevsky da Vilnius, scrive una frase molto importante nel suo diario in cui una parte notevole dello spazio è dedicata proprio alla scuola. Egli scrive «Io vivrò per il domani, non per l'oggi. Studiare è diventato per me un fatto prezioso assai più che in passato». Ed un suo coetaneo, David Sierakovic da Uc, riflette nelle pagine del suo diario il terribile dilemma quando ad un certo punto, a causa della difficile situazione della famiglia, è costretto ad abbandonare la scuola, nella quale fra l'altro otteneva degli ottimi risultati, per andarsi a cercare un lavoro in una delle manifatture all'interno del ghetto. Accanto alla difficoltà per i giovani e gli adolescenti all'interno dei ghetti di frequentare la scuola e di vivere quindi nelle scuole quel fondamentale momento di socializzazione, vi è un altro elemento molto importante. La struttura della famiglia all'interno del ghetto subisce profondi mutamenti e questi mutamenti sono ovviamente dovuti ai fortissimi condizionamenti provocati dall'esterno, dalla politica degli occupatori. È difficile trarre valutazioni generali, soprattutto perché le fonti che abbiamo a disposizione sono poche, sono sparse. Tuttavia mi sembra di poter cogliere alcuni elementi caratteristici di trasformazione, di mutamento della struttura familiare. La famiglia ebraica tradizionale, soprattutto nell'Europa orientale, aveva due centri. Un centro era il padre e un centro era la madre, come forse in tutte le famiglie di tutte le culture del mondo, con in qualche modo dei ruoli che erano divisi tra l'uno e l'altro. Ma certamente il ruolo del capofamiglia, del padre capofamiglia, era molto importante nella tradizione ebraica. Ebbene all'interno del ghetto, questo ruolo del capofamiglia subisce profondi mutamenti che a mio avviso vanno nella direzione di un appannamento e di un indebolimento della figura paterna. Il padre non è più in grado, in molti casi, di svolgere il ruolo di capo della famiglia perché è anziano, non può lavorare e quindi quella centralità che nel ghetto è costituita dal portare a casa una zuppa, dal portare a casa un pezzo di pane o un po' di denaro con cui comprare del pane, quella centralità viene molto spesso meno. La figura paterna si appanna, si attenua, si impoverisce all'interno del ghetto di fronte alle tremende condizioni materiali cui i padri sono costretti a far fronte. Abbiamo molti casi in cui padri abdicano al loro ruolo di capofamiglia, al loro ruolo di colui che determina, che governa il funzionamento della famiglia. Abbiamo casi nei quali i padri si chiudono in se stessi, magari nella lettura, nello studio, incapaci di decidere. È molto toccante quanto scrive un ragazzo, è un adulto che però ricorda in una memoria, ricorda le sue sensazioni di ragazzo, quando per la prima volta si rende conto che suo padre è debole, che suo padre è incapace di reagire. E lo descrive così, annaspa per respirare, così bagnato, così impotente e quasi morto dalla stanchezza come tutti gli altri. Il padre perde questa aura sacrale, questa centralità e diventa per il giovane che scrive questa memoria un poveraccio come tutti gli altri, stanco e incapace di reagire come tutti gli altri. A fronte dell'appannamento del ruolo del padre emerge, si staglia con tutta forza invece il ruolo della madre. Anche qui naturalmente ci sono delle eccezioni, tuttavia mi pare di poter cogliere questi aspetti significativi. La madre assume una centralità nella famiglia che ancora di più è imperniata sul governare l'economia della famiglia, perché questo governare l'economia della famiglia all'interno del ghetto è diventato sempre più difficile, sempre più arduo. Emmanuel Ringelblum, il grande diarista del ghetto di Varsavia, ha dedicato molte pagine al ruolo delle donne all'interno del ghetto, soprattutto al ruolo delle madri. Ad esempio scrive, Dobbiamo al coraggio e alla bregazione delle nostre donne che migliaia di famiglie siano riuscite a sopportare questi tempi duri. In alcuni comitati di caseggiato si fanno avanti per sostituire gli uomini che crollano esausti. E questa differenza la cogliamo anche se andiamo a vedere i dati sulla mortalità, sulla mortalità prima delle grandi deportazioni. All'interno dei ghetti muoiono proporzionalmente molto più gli uomini di quanto non muoiono le donne. Nella situazione di vuoto e di indebolimento delle due colonne portanti della vita per i giovani, per i bambini, per gli adolescenti, la famiglia da una parte e la scuola dall'altra, all'interno dei ghetti possiamo cogliere un fenomeno molto evidente, molto netto. I bambini, i ragazzi, le ragazze, anche giovanissimi, in qualche modo cercano di fare la propria strada, cercano di assumere le proprie responsabilità, sono costretti ad assumere le proprie responsabilità, perché in molti casi sono loro gli unici in grado di poter gestire la famiglia, di poter portare grazie alla loro maggiore prestanza fisica, alla loro salute migliore, sono in grado di portare nella famiglia un minimo di salario e quindi un minimo di cibo. Certo, questa conquista di autonomia porta con sé, se vogliamo, anche un degradare della moralità dei bambini e dei ragazzi. Molte testimonianze dell'epoca attestano come bambini e anche giovanissimi passassero alla loro giornata a rubare, a vagabondare, a mendicare, a cercare di uscire dal ghetto, tra molti pericoli, per rientrarvi portando un po' di cibo. Molti osservatori hanno anche colto all'accentuarsi del cinismo di questi bambini e di questi ragazzi, che a 12-13 anni sono ormai diventati, sono stati costretti a diventare degli adulti. E in qualche modo assistiamo ad una specie di promozione sociale dei giovani e dei giovanissimi. Per esempio, nel caso di un giovane contrabbandiere, la sua promozione sociale come elemento fondamentale all'interno della famiglia viene così descritta da una delle nostre fonti. A cena, l'unico pasto caldo, Hoppi, questo è il nome del ragazzo, 14enne, sedeva al posto d'onore, la poltrona a capotavola. Cinismo, amoralità, grande libertà di cui i bambini e i ragazzi godevano, non da ultimo anche libertà sessuale. Molti osservatori individuano, colgono una significativa accelerazione dei processi di maturazione sessuale. Ragazzini e ragazzine a 12-13 anni sono già pienamente a conoscenza dei segreti del rapporto con l'altro sesso. E c'è una miscela tra elementi di cinismo e di amoralità e di elementi invece di forte moralità e di forte senso di responsabilità da parte di questi giovani. Ricordiamo che poi, nella fase conclusiva della vita dei ghetti, furono soprattutto giovani, giovanissimi, quindicenni, diciottenni, ventenni al massimo, a prendere il coraggio a due mani e a decidere di reagire in qualche modo al soppruso, alla violenza, per salvare almeno la dignità della popolazione ebraica. Quindi una crescita e una maturazione rapida, forse troppo rapida, ma allo stesso tempo anche i ragazzi e i bambini che assumono una nuova centralità all'interno della società del ghetto. Di questa nuova centralità erano consapevoli non soltanto i giovani e i giovanissimi, che ne scrivono ampiamente nei loro diari e poi successivamente nelle loro memorie, ma ne erano consapevoli anche le comunità e soprattutto i consigli ebraici, quegli organismi di cui parleremo più avanti, ai quali gli occupatori affidarono la gestione del ghetto. In effetti le comunità ebraiche e i consigli diedero grande importanza alla cura della gioventù e dell'infanzia. Nonostante le difficilissime condizioni, cercarono di mettere in piedi una serie di strutture, da giardini ad asili a centri di accoglienza diurni per accogliere i bambini mentre le loro madri erano al lavoro, con l'intento di aiutare questi giovani e giovanissimi a crescere in qualche modo in un ambiente protetto, pur in una situazione molto difficile. Pensiamo soltanto al giardino, un elemento per noi assolutamente ovvio, assolutamente normale per i nostri bambini. Dobbiamo renderci conto che nei ghetti non c'erano praticamente spazi verdi e questo appositamente perché i ghetti, come abbiamo visto, erano stati ritagliati proprio nei quartieri più degradati e più malsani dei centri urbani. Quindi la disponibilità di un minimo di verde diventava un elemento assolutamente cruciale per poter dare ai bambini un po' di sollievo e un po' di socializzazione. Uno dei motivi fondamentali, degli obiettivi fondamentali nei confronti dell'infanzia all'interno dei ghetti era quello di fornirle momenti e luoghi di socializzazione e di svago, vista la difficoltà di fornirle dei momenti di istruzione. Abbiamo così il tentativo sia da parte delle organizzazioni tradizionali di tipo umanitario, così forti e radicate nella mentalità e nella tradizione ebraica prebellica, sia da parte dei consigli ebraici nei ghetti di istituire centri per aiutare i bambini, i ragazzi, per dare loro dei passatempi. Ad esempio l'istituzione di un centro sportivo nel ghetto baltico di Vilnius viene celebrata con una sorta di olimpiade, una serie di gare sportive che si svolgono ai margini del ghetto in un prato spellacchiato, l'unica area relativamente verde di cui il ghetto disponeva. Un testimone ci ha ricordato la strana situazione di persone che vivevano fuori dal ghetto, che guardavano al di là del recinto, piuttosto stupiti, questi ragazzini correre, saltare e divertirsi. Il gioco, dicevamo, è un elemento cruciale nella vita del ghetto, avendo una funzione di stabilizzazione emotiva assolutamente fondamentale, ma anche una funzione di protezione che gli adulti offrono ai bambini, ai ragazzi, ma soprattutto direi che i ragazzi e i bambini si ricavano, costruiscono per sé. E vi sono da questo punto di vista molte testimonianze significative, che sono state anche studiate a livello poi di studi psicologici, della capacità, per certi versi straordinaria, dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nei ghetti, di trovare comunque delle forme di gioco, di crearsi comunque la possibilità di giocare come tutti gli altri bambini al mondo. Certo era molto difficile, era molto difficile e la vita, il mondo che questi bambini vedevano attorno a sé, le immagini che avevano avuto nei loro occhi, che avevano tutti i giorni nei loro occhi, immagini di violenza, immagini di sopraffazione, giocavano un ruolo molto importante, influenzavano e determinavano i giochi dei bambini. Con un amaro sorriso potremmo ricordare alcune testimonianze del tempo, di giochi tipici del ghetto, caratteristici del ghetto, che solo lì in realtà qualcuno poteva inventare. Una testimone ci racconta di un gioco che si chiamava Espulsione. Uno di loro, il più grandicello, faceva l'SS e usava il tono burbero e brusco del poliziotto, mentre altri facevano finta di essere delle SS che gli obbedivano e picchiavano altri bambini, o fingevano di picchiare altri bambini, che passavano in mezzo. E così veniva in qualche modo mimato, per certi versi anche si cercava di esorcizzare il terribile momento della chiusura degli ebrei all'interno del ghetto. Ma possiamo ricordare anche un altro tipico gioco del ghetto, che era quello di bambini che facevano appunto la vece dei tedeschi e ad altri bambini imponevano di lavorare, urlando loro, ebreo, lavora, ebreo, maledetto, lavora. Un'altra testimonianza agghiacciante viene da Ringelblum e ci parla di bambini che giocavano facendo il sollettico ad un cadavere. Molto più raro è trovare testimonianze di giochi normali. Una testimone annota in inverno. Talvolta i bambini giocano a lanciare palle di neve come altrove fanno gli altri bambini liberi. E parrebbe quasi inventata di sana pianta la notizia riportata dalla cronaca del ghetto di Ucce nel luglio del 43. Pochi metri al di là del filo spinato, nella parte ariana della città, era stato allestito un carosello con i cavallini per i bambini ariani. E i bambini del ghetto correvano in gran numero dietro al recinto a guardare ad occhi sgranati quello che avveniva pochi metri più in là, come si divertivano i bambini fuori dal ghetto. Quando all'interno dei ghetti ci si rese conto che la situazione stava peggiorando e che le possibilità di sopravvivenza si riducevano, molti genitori furono costretti a compiere una scelta che mai nessun genitore vorrebbe compiere, liberarsi dei propri figli, darli via, farli uscire dal ghetto per poter dare loro almeno una possibilità di salvezza. Un testimone da Kaunas, in Lituania, scrive la gente cedette i propri figli ai lituani, i quali chiedevano somme molto alte di denaro e dopo aver ricevuto il denaro passavano i bambini alla Gestapo, ma in molti casi l'aiuto fu sincero. In effetti noi non sappiamo che dimensioni abbia questo fenomeno, del quale per lunghissimo tempo non si è parlato, anche perché la gran parte di questi bambini, fatti uscire clandestinamente dal ghetto, erano talmente piccoli che non avevano alcun ricordo della loro primissima infanzia all'interno di quel ghetto, oppure forse lo avevano rimosso. Del tema comunque si è tornato a parlare con un certo clamore alla metà degli anni 90, quando è uscita la pubblicazione autobiografica di un cittadino svizzero che dichiarava di chiamarsi Benjamin Wilkomirsky. Questo libro, intitolato Fragmente, è uscito nel 1995 in tedesco, poi nel 1996 in inglese e in francese, la traduzione italiana da Mondadori era in via di preparazione. Questo libro, dicevo, raccontava la difficile e tormentata vicenda di questo ragazzo, un trovatello allevato da una famiglia svizzera della buona borghesia che egli aveva in fondo rifiutato, che era andato faticosamente e dolorosamente a ricostruire il proprio passato, e aveva ritrovato il proprio passato in un bambino di nome Binyamin, portato fuori da un ghetto polacco all'età di due o tre anni, presso una famiglia polacca e da questa poi attraverso molte traversie arrivato in Svizzera. La vicenda ha suscitato grande scalpore perché ad una più attenta analisi del volume, molto ricco di pathos e molto coinvolgente nella scrittura, si è dimostrato che il suo autore si era inventato tutto. Binyamin non era affatto Binyamin, non era affatto un bambino ebreo adottato, portato fuori dal ghetto da una famiglia polacca e poi arrivato chissà come in Svizzera, ma era semplicemente un trovatello svizzero, probabilmente insicuro e insoddisfatto della propria vita presente. Il libro è stato ritirato dalla circolazione, l'edizione italiana non è mai uscita e Wilkomirsky è sparito, a mia conoscenza, dall'attenzione internazionale. Tuttavia la vicenda mi pare particolarmente interessante per due aspetti. Il primo ha a che fare con l'attendibilità e il valore delle testimonianze memorialistiche in generale e più specificatamente legate a quella terribile e drammatica vicenda dello sterminio delle popolazioni ebraiche in Europa. Noi non siamo nella maggior parte dei casi in grado di controllare e di verificare l'attendibilità di queste testimonianze, siano esse diaristiche e siano ancora di più esse scritte a posteriori, perché non abbiamo la possibilità di incrociarle con altri dati. E quindi quando abbiamo a che fare con queste fonti dobbiamo essere molto attenti e molto cauti nel usarle. Il secondo aspetto, che mi pare significativo, ha un valore più generale. Binyamin, o come altrimenti si chiama, ha cercato di darsi un'identità ebraica. E questo naturalmente è in qualche modo un fatto piuttosto eccentrico, considerato che nel mondo e nella cultura occidentale gli ebrei eventualmente hanno cercato di darsi un'identità non ebraica, visto che loro erano considerati alieni diversi o addirittura ostili nei confronti della cultura occidentale. E questo tentativo di Binyamin di darsi un'identità ebraica mi pare significativo degli effetti di lungo periodo delle ricadute psicologiche, sociali e culturali che lo sterminio degli ebrei ha avuto sulla cultura occidentale. Tanto da indurre in questo caso un giovane svizzero, probabilmente non molto stabile dal punto di vista psicologico, a costruire un passato che non era suo, ma in qualche modo a far proprio un passato di tante altre vittime, come forse lui stesso lo era, una vittima. L'altra faccia della medaglia della condizione giovanile e infantile nei ghetti era rappresentata dal lavoro. Soprattutto in quei ghetti, che col passare del tempo divennero la maggioranza, nei quali ci si rese conto che l'unica possibilità di sperare in una salvezza, almeno per una parte della comunità, era quella di lavorare, di lavorare indefessamente e incessantemente per i propri occupatori e per i propri torturatori. Ancora una volta il caso di Huch è, da questo punto di vista, il caso più emblematico, anche perché qui il lavoro venne organizzato in modo pianificato. Si cercò di mettere al lavoro quante più persone possibili, sia anziane e sia giovani. Un lavoro che era un lavoro durissimo anche per le condizioni di alimentazione, per le condizioni abitative della stragrande maggioranza della popolazione nel ghetto, ed era un lavoro durissimo soprattutto per bambini ed adolescenti non abituati a simili ritmi e a simili fatiche. D'altro canto il capo del consiglio ebraico di Huch, Rumkowski, era consapevole che occorreva sfruttare tutte le forze a disposizione, tutte le risorse a disposizione per produrre quanto più possibile e mettere quindi gli occupatori tedeschi di fronte alla constatazione che in fondo il ghetto era efficiente, era produttivo e che quindi era utile, opportuno farlo sopravvivere. Ben presto però, da parte tedesca, facendo i conti in modo dettagliato e in modo preciso come soltanto le burocrazie sanno fare, ci si iniziò a rendere conto che l'efficienza lavorativa nel ghetto di Huch era un'efficienza molto bassa, non poteva essere che così, considerata la carenza di cibo, la mancanza di una preparazione professionale, la mancanza di attrezzature adatte per poter lavorare. E quindi nei confronti di Rumkowski, come anche in altri casi, fu operata una forte pressione affinché si liberasse della popolazione eccedente. Come abbiamo visto in Unione Sovietica questo era avvenuto preliminarmente. In Polonia e soprattutto a Huch, questo avvenne invece dopo la chiusura del ghetto e avvenne attraverso una serie ripetuta di selezioni. Queste selezioni vennero affidate a Rumkowski e al suo apparato. I tedeschi si lavarono le mani, diedero a lui l'incarico di stilare le liste e di rastrellare le persone elencate in queste liste. E dentro a queste liste c'erano le persone considerate improduttive o considerate più improduttive dal punto di vista dell'efficienza e della sopravvivenza del ghetto. A partire dalla fine del 1941 furono così messe in atto una serie di selezioni e di rastrellamenti ad opera della polizia del ghetto e decine di convogli furono avviati verso i campi, verso l'Oriente. Tra le categorie selezionate, delinquenti, malati, prostitute, anziani, furono anche evidenziati e selezionati i bambini. Ciò avvenne soprattutto in occasione della cosiddetta spera, una parola polacca tratta dal tedesco Schperren, chiudere. Si trattava di un coprifuoco rigoroso attuato a partire dal 4 settembre 1942. In tutto il ghetto furono bloccate le attività lavorative e iniziò una selezione durissima, soprattutto rivolta ai bambini. In quell'occasione l'anziano capo del Consiglio ebraico rivolse alla popolazione un discorso, di cui abbiamo il testo. Ne vorrei citare un breve brano. Alla mia tarda età sono costretto a pregarvi. Fratelli e sorelle, consegnatemeli. Padri e madri, datemi i vostri bambini. Con ogni mezzo ho cercato di far revocare l'ordine. Ho tentato. Dinanzi a voi sta un ebreo disperato. Non invidiatemi. Questo è l'ordine più difficile che ho abbia mai dovuto impartire. E in effetti con estrema durezza la polizia del ghetto operò un rastrellamento che durò ben sei giorni, al termine del quale 16.000 persone vennero caricate su convogli ferroviari e deportate verso Oriente. Di queste 16.000, più di 7.000, forse 8.000, erano bambini al di sotto dei dieci anni. Era una pura illusione quella di un diarista del ghetto che riportava la voce secondo la quale questi bambini erano stati portati a est e affidati ad altre donne ebraiche o per un'altra versione che erano stati trasportati a Posen per trasfusione di sangue. La realtà era molto diversa e l'avrebbero scoperta ben presto i superstiti del ghetto. I bambini erano andati anche loro su per il cammino. I bambini, i giovani, i giovanissimi rappresentavano agli occhi della comunità ebraica nel ghetto il futuro. È il tentativo loro, dei loro genitori e della comunità di trovare sorriso, serenità, normalità, di costruire normalità. Contrastavano nettamente con la realtà della vita quotidiana nei ghetti, che era caratterizzata da molteplici fattori negativi. Abbiamo parlato di molti di essi, ma dobbiamo per forza di cose terminare parlando con il fattore cruciale e decisivo, la malattia e la morte. Dal punto di vista delle autorità d'occupazione, per Antonomasia gli ebrei erano portatori di malattie, di epidemie, di elementi negativi per la salute pubblica. Questo linguaggio crudo tratto in parte dalla parassitologia o da discipline del genere era caratteristico di Hitler e degli altri esponenti del regime nazionalsocialista che consideravano appunto gli ebrei come dei dei bacilli, delle pesti, dei portatori di malattie incurabili. La chiusura degli ebrei nei ghetti rappresentava quindi un inveramento dei pregiudizi anti-ebraici dal punto di vista sanitario. Gli ebrei per Antonomasia erano considerati inferiori per cultura, sporchi, incapaci di disciplinarsi e di organizzarsi e conseguentemente il loro status naturale, per così dire, agli occhi delle autorità nazionalsocialiste e anche delle autorità sanitarie, era quello di essere malati e di ammalarsi. Non è casuale che il ghetto di Varsavia venisse definito nei documenti ufficiali anche come luogo di quarantena, luogo di quarantena dalle epidemie, proprio perché vi era nel sottofondo della visione culturale delle autorità d'occupazione l'idea che gli ebrei, in quanto inferiori culturalmente, fossero portatori di malattie. E abbiamo da questo punto di vista un tipico caso in cui una profezia si autorealizza, un pregiudizio finisce per concretizzarsi, ma certamente non perché il pregiudizio è fondato, bensì perché le condizioni nelle quali poi le comunità vennero tenute, vennero lasciate a vivere, erano tali che non potevano non crearsi le peggiori condizioni possibili per lo sviluppo di malattie e di epidemie. In effetti se noi andiamo a vedere la vicenda sanitaria dei principali ghetti, almeno di quelli per i quali abbiamo informazioni, noi vedremo una poderosa, una terribile incidenza di malattie epidemiche. In particolare il tifo, la tubercolosi, il tifo assai più temuto della seconda, anche se in realtà le cifre che abbiamo mostrano come il tifo colpisse in misura molto più ridotta della tubercolosi. Erano malattie legate alle difficili condizioni abitative, alla mancanza di biancheria pulita e asciutta, alla difficoltà di potersi nutrire in modo adeguato dal punto di vista vitaminico. Erano malattie dovute alla carenza di sistemi di riscaldamento nei lunghi e freddi inverni dell'Europa orientale e settentrionale. A queste si aggiungevano numerose altre malattie legate sempre a queste condizioni complessive di vita, in particolare le malattie all'apparato digerente. Vi era poi un altro specifico campo di patologie all'interno del ghetto che riguardavano l'apparato genitale e in particolare i medici del tempo e le testimonianze del tempo fanno riferimento alla amenorrea. Una gran parte di donne, probabilmente il 50-70% delle donne adulte, perdette il proprio ciclo mestruale e quindi perdette anche la propria capacità di procreare a causa di un insieme di fenomeni sia di natura fisica che di natura psicologica. Questo insieme di malattie, più molte altre legate al durissimo lavoro a cui gli ebrei erano sottoposti per lo più all'aperto senza vestiario adeguato, fecero sì che la morbidità e la mortalità all'interno dei ghetti diventassero molto molto alte, fino a arrivare al punto quasi di realizzare l'aspettativa di Goebbels e di altri che speravano che chiusi nei ghetti gli ebrei si sarebbero estinti naturalmente, naturalmente fra virgolette. I ghetti nell'Europa orientale, o almeno i principali di essi, divennero ben presto, dopo la loro costituzione, una sorta di laboratorio a cielo aperto dove si poteva osservare il diffondersi delle più terribili epidemie e soprattutto si potevano osservare gli effetti clinici del fattore dominante nella vita del ghetto, la fame. Addirittura i medici ebraici del ghetto di Varsavia, all'interno del quale continuava a funzionare una struttura sanitaria abbastanza efficiente, dedicarono a questo tema uno studio, uno studio purtroppo empiricamente fondato, perché questi medici avevano a loro disposizione centinaia e centinaia di casi, uno studio che poi negli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale è diventato una sorta di punto di riferimento per la letteratura specializzata nel settore. Con amare ironia dobbiamo dire che ben raramente medici hanno potuto esercitare la loro analisi e la loro ricerca su un campione così vasto a disposizione. In effetti le cifre complessive sulla mortalità che potremmo definire normale all'interno dei ghetti, per normale quindi intendiamo non provocata da uccisioni e da violenze compiute dagli occupanti, queste cifre complessive dicevo sono impressionanti. Se noi teniamo conto che il ghetto di Varsavia aveva a grosso modo 400-420 mila abitanti, le statistiche piuttosto dettagliate e quindi probabilmente piuttosto credibili relativi ai decessi attestano che tra il settembre del 1939, quindi quando il ghetto ancora non era stato costituito, e il luglio del 1942, quando iniziò il rastrellamento finale, morirono complessivamente 98 mila persone, cioè poco meno di un quarto degli abitanti complessivi del ghetto. Le statistiche ci dicono anche che per oltre la metà dei casi di decesso non esistevano cause certificate. Per gli altri la causa principale accreditata dalle stime era la tubercolosi, per la quale erano attribuibili oltre il 30% dei decessi, seguita a distanza dalla fame e dalle sue patologie, con il 18,7% dei decessi, e a distanza ancora più grande dal tifo, al quale andavano imputati il 2,8% dei decessi. Ciò nonostante è interessante rilevare come agli occhi dei tedeschi il tifo fosse la preoccupazione più importante, tanto che al primo segnalarsi di casi di questo genere le autorità d'occupazione accentuarono i controlli sul ghetto e vietarono soprattutto quel cosiddetto turismo del ghetto, così amato da ufficiali funzionari civili tedeschi a Varsavia, che amavano entrare all'interno del ghetto, spesso con la macchina fotografica, per scattare qualche immagine particolarmente pittoresca. Nel caso del secondo più grande ghetto ebraico, il ghetto di Ucce, la cui popolazione grossomodo arrivò a 160-180 mila abitanti, si è stimato che i decessi per cause naturali siano stati circa 50 mila, quindi anche qui ci troviamo all'incirca di fronte a un 30% o poco meno di mortalità. Nel caso di questo ghetto abbiamo dei dati piuttosto precisi anche sulla mortalità annua, e questi ci mostrano con assoluta chiarezza come la situazione della mortalità andò aggravandosi di anno in anno. Se nel 1940 la mortalità era del 23,5 per mille, l'anno dopo essa era quadruplicata salendo al 90 per mille e infine nel 1942, l'ultimo dato disponibile, addirittura al 140 per mille. In effetti lo statistico delle SS Korher, in un suo rapporto inviato a Himmler, non era molto lontano dal vero nello stimare che, stante questi livelli di mortalità, entro cinque anni tutti gli ebrei chiusi nei ghetti polacchi sarebbero morti di morte naturale. In effetti la mortalità nei ghetti di Varsavia e di Ucce, che raggiunse punte del 25, 30, 40% della popolazione complessiva, con ogni probabilità non è uguale in tutte le situazioni. I due ghetti principali, soprattutto per l'altissimo affollamento, il grandissimo numero di persone che vi abitavano, mostrano dei livelli di mortalità probabilmente molto più alti che altre situazioni. Sappiamo, infatti, di altri ghetti, ad esempio i ghetti baltici di Kaunas e di Vilnius, nei quali la mortalità, pur raddoppiando o triplicando rispetto al periodo prebellico, era in realtà relativamente moderata e rimase relativamente moderata fino alla fine. I motivi di questa forte discrepanza tra ciò che avvenne nei due più grandi e più famosi ghetti, Varsavia e Ucce, ed in altri, sono molteplici e non sono tutti chiaramente identificabili. Probabilmente da un certo punto di vista si può valutare che soprattutto nelle regioni orientali, sovietiche e baltiche, una parte della popolazione, forse quella più debole, per esempio donne e bambini, era già stata eliminata nella primissima fase attraverso rastrellamenti e fucilazioni sommarie e quindi coloro che erano rimasti in vita in qualche modo erano generalmente più sani. Questo fattore può forse avere avuto un certo ruolo, così come può forse essere stato rilevante il fatto che in alcuni di questi ghetti si sia dedicata una particolare attenzione alla prevenzione sanitaria. Così una delle principali attività della polizia nel ghetto di Vilnius, della polizia ebraica, era quello di verificare che le case, i cortili, gli androni, le scale fossero puliti e che nei limiti del possibile la spazzatura e tutto ciò che residuava dalla vita collettiva venisse in qualche modo eliminata o messa in condizioni di non nuocere. E la polizia che compiva rigorosi e costanti controlli casa per casa, strada per strada, aveva il potere di emanare forti multe nei confronti di coloro che venissero trovati in fallo dal punto di vista dell'igiene e della pulizia collettiva. Certo gli sforzi per venire incontro a questa situazione di morbidità e di mortalità furono sforzi enormi e naturalmente degni di grande attenzione. Non dimentichiamo che in tutte le comunità ebraiche la presenza di medici era tradizionalmente molto forte, i medici erano sovra rappresentati tra gli ebrei rispetto alle popolazioni degli stati in cui vivevano, ma nonostante la presenza di medici e in alcuni casi anche di strutture ospedaliere ben funzionanti, come Varsavia e anche altrove, le condizioni generali in cui i medici e i presidi sanitari potevano operare erano pessime. Mancavano medicine, mancavano tutte le forme di profilassi più elementari e quindi, nonostante gli sforzi dei medici e del personale sanitario, la mortalità, soprattutto nei grandi ghetti non accennava a calare. E di fronte alla carenza di medicine e di altri presidi medici farmaceutici c'era naturalmente dato ampio spazio alla fantasia, al tentativo di costruire delle medicine rudimentali. Si diffusa a un certo punto la leggenda che le bucce di patata andassero molto bene per sostituire le vitamine assenti nella alimentazione normale, o addirittura in un altro ghetto, nel ghetto di Ucce, si diffuse a un certo punto quasi il miracolo di una medicina, una medicina che era vitamina D di sintesi, che si chiamava Vigantol e alla quale improvvisamente e per breve tempo si pensò di affidare degli effetti miracolosi. Naturalmente in poche settimane ci si rese conto che questi surrogati non erano assolutamente in grado di risolvere il problema della morbidità e della mortalità nei ghetti. Nelle nostre precedenti conversazioni abbiamo più volte incontrato i consigli ebraici, è quindi opportuno trattare specificatamente di questo tema che assume un valore molto importante nella storia delle comunità ebraiche ghettizzate nell'Europa orientale. In effetti nella tradizione dell'ebraismo della diaspora l'autogoverno è una componente fondamentale ed ancora oggi, ad esempio in Italia, l'unione delle comunità israelitiche gestisce in proprio aspetti importanti della vita di comunità come la scuola, l'assistenza ed altri e naturalmente gli aspetti religiosi. Questa tradizione di autogoverno era molto forte nell'Europa orientale proprio perché lì vi era un contesto di diffidenza e di ostilità nei confronti degli ebrei e delle loro comunità. In tutte le comunità ebraiche della Polonia, piccole e grandi, esistevano dei consigli di autogoverno che si chiamavano Kehilla. In Unione Sovietica la situazione era cambiata dopo il 1917, dopo la rivoluzione, perché il governo bolshevico ovviamente non accettava nessuna forma di autogoverno delle comunità. Tuttavia le tradizioni continuavano ad esistere. Qual è il legame tra queste tradizioni di autogoverno e i consigli ebraici denominati Judenrete che le autorità d'occupazione tedesca imposero alle comunità a partire dall'occupazione del 1939-40 e negli anni seguenti in tutte le aree dove esse giunsero? Vi è una continuità o vi è una discontinuità. Il tema è un tema fortemente discusso e fortemente controverso, soprattutto nel mondo ebraico. In Israele, nel neonato stato di Israele dopo il 1948, tutti coloro che anche minimamente erano sospettati di avere avuto a che fare con i consigli ebraici, furono sospettati, messi da parte, processati. In alcuni casi furono operate delle vendette nei loro confronti. Erano considerati dei traditori, dei collaborazionisti. Una delle voci più autorevoli di critica nei confronti degli Judenrete venne da parte di Hannah Arendt, la filosofa ebraea tedesca che in occasione dei reportage che scrisse durante il processo ad Eichmann nel 1961, reportage poi raccolti nel famoso libro Eichmann a Gerusalemme, attaccò con grande durezza e con assoluta radicalità i consigli ebraici. L'argomento della Arendt era che l'istituzione e il funzionamento efficienti dei consigli ebraici avevano favorito lo sterminio degli ebrei. Cito, la verità vera era che se il popolo ebraico fosse stato realmente disorganizzato e senza capi, dappertutto ci sarebbe stato caos e disperazione, ma le vittime non sarebbero state quasi sei milioni. A queste durissime critiche della Arendt risposero in molti nel mondo ebraico e soprattutto in Israele. Fra i tanti ricordo una delle voci più autorevoli, quella del filosofo Gershom Scholem, il quale in una lettera aperta ribatté alla Arendt. In alcuni Judenrete c'erano persone spregevoli, in altre dei Santi. Ho letto moltissimo sugli uni e sugli altri. Vi appartenevano anche molte persone del tutto simili a noi, che erano obbligate a prendere decisioni terribili in circostanze difficilmente ricostruibili a posteriori. Non so se avessero ragione o torto, né ho la pretesa di giudicare. Questi sono soltanto due dei punti di vista di un dibattito che ha caratterizzato e lacerato la società israeliana e il mondo ebraico più in generale almeno fino agli anni 70-80. In quegli anni hanno iniziato ad essere pubblicati alcuni studi che hanno cercato di mettere in luce il fenomeno di analizzarlo da un punto di vista più freddo, prendendo in considerazione le fonti disponibili. Tuttavia, per ricordare ancora una voce dell'ebraismo italiano, quella di Primo Levi, vorrei ricordare come Primo Levi ha giudicato il capo del ghetto di Uc, Rumkowski. La sindrome del potere protratto e incontrastato, la visione distorta del mondo, l'arroganza dogmatica, il bisogno di adulazione, l'aggrapparsi convulso alle leve del comando, il disprezzo delle leggi. La storia di Rumkowski, scrive Levi, è la storia incresciosa e inquietante dei capò e dei funzionari dei lager, dei gerarchetti che servono un regime alla cui colpe sono volutamente ciechi. In effetti la valutazione che è stata data del comportamento dei consigli ebraici in quelle difficili situazioni è una valutazione molto difficile e delicata e gli studi a cui abbiamo fatto prima riferimento, che poi richiameremo, ci offrono soltanto qualche elemento, qualche labile elemento di un'analisi più approfondita. Sta di fatto che le autorità tedesche fin dal primo momento capirono che era opportuno attribuire agli ebrei il loro autogoverno. L'ordinanza del 21 settembre del 1939 di Heidrich, che abbiamo ricordato in una delle nostre prime puntate, attribuiva decisamente ed esplicitamente a consigli ebraici da costituire immediatamente alcune funzioni fondamentali per la gestione dei ghetti e in particolare tre. I consigli ebraici avrebbero dovuto fungere da ostaggi nell'eventualità che non venissero eseguiti gli ordini emessi dai tedeschi. I consigli avrebbero dovuto premurarsi di svolgere censimenti all'interno dei ghetti e soprattutto di organizzare gli spostamenti della popolazione ebraica e il suo insediamento all'interno del ghetto. A questa ordinanza generale, cui fece seguito in modo quasi simile, poco meno di due anni dopo, un'ordinanza generale emanata nel luglio del 1941 per i territori sovietici occupati, di volta in volta nei singoli casi locali furono aggiunte nuove e ulteriori attribuzioni e responsabilità. Ad esempio, a Ucce, a Rumkowski venne attribuito esplicitamente l'incarico di distribuire i prodotti alimentari all'interno del ghetto e soprattutto l'incarico di controllare la suddivisione e la distribuzione delle abitazioni e degli spazi abitativi per la popolazione chiusa nel ghetto. L'intento dei tedeschi era molto chiaro, governare il territorio occupato con il minimo delle risorse possibili. Questo lo fecero sia nei confronti delle popolazioni, diciamo così, ariane, e sia a maggior ragione nei confronti degli ebrei. In tutta l'Europa, sia occidentale che orientale, le autorità tedesche erano consapevoli di non avere le risorse umane e materiali per governare in tutti i loro aspetti l'immenso territorio conquistato, dal punto di vista economico, sociale, residenziale, militare, culturale, eccetera. Si riservarono quindi ovviamente le decisioni e gli ambiti più importanti, lasciando a apparati burocratici di vario tipo, o quelli preesistenti, o apparati costituiti ad hoc, ad opera di collaborazionisti, l'onere di gestire la vita quotidiana con tutti i suoi aspetti minuti, ma fondamentali per le condizioni della popolazione e fondamentali anche per il buon funzionamento complessivo delle società occupate. Perché questo era l'obiettivo fondamentale delle autorità tedesche, tenere l'Europa sotto controllo, ma quieta, senza disordini e soprattutto poterla sfruttare pienamente, dal punto di vista economico e militare, senza doversi assumere i conseguenti oneri. I consigli ebraici vennero istituiti per volontà delle autorità tedesche d'occupazione in tutti i ghetti costruiti nell'Europa orientale durante la Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo, le funzioni di questi consigli di autogoverno, di autoamministrazione dei ghetti sono stati oggetto di fortissime polemiche nel mondo ebraico e poi soprattutto in Israele dopo il 1948. Con il tema dei consigli ebraici entriamo nella questione estremamente delicata e complessa dei rapporti tra gli occupanti e gli occupati, tra i carnefici e le loro vittime. E cercheremo di analizzare quanto il confine tra vittima e carnefice, un confine apparentemente chiaro, apparentemente netto in realtà, sia un confine sbriciolato, sfrangiato, non chiaro nei suoi aspetti più specifici. E entreremo anche nel merito della questione assolutamente cruciale della collaborazione che i consigli ebraici, gli Judenrethe, avrebbero prestato o addirittura come affermò nei primi anni Sessanta la filosofa ebrea tedesca Hannah Arendt della aperta complicità dei consigli che organizzando i ghetti, organizzando le comunità, avrebbero in qualche modo facilitato l'azione dei carnefici. Vediamo innanzitutto come vennero istituiti i consigli ebraici nei ghetti che di volta in volta vennero creati nell'Europa orientale. Ci troviamo di fronte ad una grande varietà di situazioni, nelle quali in molti casi la nomina è da parte tedesca, le autorità d'occupazione arrivano e nominano delle persone, in altri casi invece le autorità tedesche si rivolgono alla comunità ed hanno mandato alla comunità di nominare dal suo seno, di scegliere dal suo interno dei rappresentanti. Questo secondo caso ad esempio avviene nel ghetto di Kaunas in Lituania, dove le autorità tedesche, dopo i grandi massacri, i terribili massacri dei primi giorni dell'occupazione della città, convocano i maggiorenti della comunità ebraica e danno loro l'incarico di scegliere al loro interno alcuni rappresentanti che vadano a svolgere le funzioni di consiglieri dello Judenrat. Vi è anche un caso, ed è naturalmente un caso molto importante perché stiamo parlando di Varsavia, in cui le autorità d'occupazione si trovarono di fronte a un fatto compiuto e lo accettarono. Infatti il presidente del consiglio ebraico nel ghetto, Adam Cerniakov, in realtà venne nominato già nei primissimi giorni di guerra, quando le truppe tedesche si stavano avvicinando alla capitale polacca, dal sindaco di Varsavia e venne nominato con l'incarico di organizzare la comunità ebraica che, come abbiamo visto più volte, costituiva circa un quarto, un terzo della popolazione della capitale. Quindi Cerniakov è di nomina polacca e quando le truppe tedesche occuparono Varsavia si trovarono la comunità con alla sua testa una persona già nominata e la accettarono. In altri casi invece la nomina venne effettuata direttamente dalle autorità tedesche. Credo che questi siano la maggior parte, le autorità tedesche arrivarono e scelsero. Come scelsero? Anche qui la varietà di casi è molto, molto variegata. Troviamo situazioni casuali. Ad esempio a Vilnius il primo capo del Consiglio ebraico venne scelto nella persona del vice rabbino, Gordon, perché in quel momento il rabbino era assente e il vice rabbino, contattato e ovviamente pressato dalle autorità tedesche, dovete assumere l'incarico. In molti altri casi erano le conoscenze linguistiche ad essere decisive o il fatto che le persone scelte avessero un passato nell'apparato civile o militare dell'ex impero austro-ungarico. Alcune di quelle aree avevano fatto parte dell'impero austro-ungarico fino al 1918. Così molti capi dei consigli ebraici vennero scelti semplicemente perché sapevano il tedesco o perché, come Mark Alten, scelto alla guida del Consiglio di Ljublino, era stato ufficiale nell'impero asburgico. Dopo la nomina, il consiglio, o per meglio dire il capo del consiglio, perché il ruolo del capo del Juden-Elteste, dell'anziano, era cruciale dal punto di vista tedesco, dopo la nomina da parte delle autorità d'occupazione, in moltissimi casi assistiamo ad un fortissimo turnover, potremmo dire così, ad una fortissima instabilità dei consigli stessi. Ci troviamo, infatti, in moltissimi casi di fronte alla eliminazione, spesso addirittura dopo pochi giorni o dopo poche settimane, di una parte o dell'intero consiglio nominato dai tedeschi. Perché questo? Perché evidentemente il consiglio non era considerato affidabile. Bastava una minima reazione, una minima resistenza, bastava segnalare anche in modo superficiale di non volersi adeguare agli ordini emanati dai tedeschi per suscitare l'immediata, spietata reazione e quindi l'eliminazione. Uno dei casi più significativi e più tragici è rappresentato dalla città di Leopoli, una più importante città della Polonia e anche uno dei più grandi ghetti con circa centomila abitanti. A Leopoli, nell'arco di poco più di un anno e mezzo, furono nominati e poi eliminati ben tre consigli ebraici, uno dopo l'altro. Il primo venne liquidato dopo poche settimane dalla sua nomina. Il secondo, guidato dall'avvocato Hendrik Landsberg, durò un po' di più, ma fu anch'esso brutalmente eliminato per rappresaglia allorché un soldato tedesco venne trovato morto vicino al muro periferico del ghetto e Landsberg venne impiccato davanti al porticato di casa sua. La nomina del Terzo Consiglio fu naturalmente molto difficile perché, come ci ricorda un testimone, nessuno aveva coraggio di accettare un incarico del genere. In effetti abbiamo anche casi, come per esempio quello del ghetto galiziano di Drogobic in Galizia, ma ve ne sono altri, in cui di fronte alla nomina da parte tedesca alcuni esponenti della comunità hanno rifiutato, ma non hanno subito alcuna conseguenza negativa, semplicemente se sono stati scelti degli altri. Un'altra situazione abbastanza interessante, molto peculiare, è rappresentata da quei ghetti come Minsk, nei quali nell'autunno-inverno 1941-42 alla popolazione ebraica, diremmo così, indigena, si aggiunse, e in parte si sovrappose, l'immigrazione di migliaia, in alcuni casi decine di migliaia di ebrei provenienti dal Reich, dalla Germania, dall'Austria, dalla Bohemia-Moravia. In questi casi, ma non in tutti, alla comunità appena deportata nel ghetto, venne consentito o imposto un Judenrat proprio. Così ci troviamo nella situazione, per esempio, di Minsk, in cui abbiamo due consigli ebraici, uno che si occupa degli ebrei bielorussi e l'altro che si occupa degli ebrei tedeschi. Abbastanza, credo, sintomatico è il fatto che a quest'ultimo venne attribuito dalle autorità tedesche quello che nei documenti viene chiamato il Prügelrecht, cioè il diritto di bastonare tutti gli ebrei che in qualche modo non obbedissero ai suoi ordini. L'intento tedesco appare essere quello di scegliere delle persone che sono affidabili e quindi di attiggere alla classe dirigente ebraica preesistente. Leggiamo in una testimonianza significativa proveniente dalla cittadina polacca di Ploch. Hanno disegnato il dottor Bromberger, perché è dottore, e tutti i vecchi impiegati del municipio a causa delle loro passate funzioni. Non era sempre così che tedeschi si premurassero di scegliere le persone che già svolgevano un ruolo, detenevano un'autorevolezza all'interno della comunità. Abbiamo già detto, e lo ribadisco, che in moltissimi casi queste nomine erano legate alla casualità, erano legate a fattori occidentali e questo non sempre corrispondeva gli interessi tedeschi. Interessi che erano quelli di avere un ghetto tranquillo, un ghetto nel quale non ci fosse disordine, ma nel quale ci fosse ordine e nel quale le disposizioni emanate dall'esterno nei confronti della popolazione chiusa nel ghetto venissero attuate, messe in atto, senza opposizione. Ma che qualche volta questo meccanismo non funzionasse è dimostrato ancora una volta, mi sembra, dal ghetto di Minsk, dal ghetto bielorusso di Minsk, dove la nomina del tutto casuale di un ebreo di cui non sappiamo nulla, se non il nome, Ilia Muschkin, e di cui sappiamo che sapeva il tedesco, e probabilmente questo è il motivo della sua scelta, questa nomina non fu affatto funzionale agli interessi tedeschi perché Muschkin poi negli anni successivi fu in stretto collegamento con i partigiani, non solo ebrei, con il movimento partigiano sovietico e quindi cercò, certamente nei limiti molto forti che aveva, di andare contro, di opporre qualche ostacolo alla politica dello sterminio. Abbiamo anche, grazie a studi che sono stati fatti negli anni 70, alcuni tentativi di analisi quantitativa su qual era la composizione dei consigli ebraici e dei loro capi, e alcuni aspetti, alcune caratteristiche di questi campioni sono, a mio parere, particolarmente significativi. Stando a uno studio compiuto negli anni 70, soltanto il 6% dei membri dei consigli presi in considerazione, soltanto il 6% rimase al suo posto e rimase in vita per più di due anni, due anni e mezzo, soltanto il 6%. Invece quasi il 20%, quindi quasi un quinto del campione, furono eliminati, per lo più entro i primi sei mesi dalla loro nomina, e soltanto l'11% di questi è sopravvissuto alla guerra e allo sterminio. Altri dati che emergono sono che soltanto una parte minoritaria, un 30-40% dei membri dei consigli, avevano svolto attività politica prima della guerra. Ricordo che la vita politica nelle comunità ebraiche era straordinariamente vivace in tutta l'Europa orientale prima del conflitto. Vi era una quantità di partiti con una vivacissima stampa di partito e con una vita politica molto forte e piena di dibattiti e di discussioni. E questa varietà e questi fermenti della vita politica ebraica prebellica non furono del tutto spazzati via, in parte rimasero anche all'interno dei consigli che le autorità tedesche avevano costituito e che avevano imposto alle comunità stesse. Certamente però l'elemento significativo che emerge è che quanto più passava il tempo, cioè dopo l'eliminazione massiccia di una parte cospicua dei membri dei primi consigli nominati, tanto più aumentava la percentuale di coloro che erano uomini nuovi, che non avevano mai svolto un ruolo politico prima e che forse non erano nemmeno conosciuti all'interno della comunità per una qualche loro autorevolezza, per un qualche loro ruolo. E ciò che è significativo è che molti di questi uomini nuovi arrivarono poi a detenere all'interno della comunità un potere molto forte. Un potere molto forte all'interno a cui però si opponeva una assoluta impotenza nei confronti dell'esterno. Dentro al ghetto il capo del consiglio ebraico era una sorta di dio in terra, ma appena era fuori dal ghetto non era nessuno o all'interno del ghetto stesso qualunque soldato o funzionario tedesco poteva fare di lui ciò che voleva, picchiarlo, incarcerarlo o ucciderlo, per un minimo motivo o senza alcun motivo. Gli incarichi attribuiti ai consigli ebraici dalle autorità d'occupazione erano all'inizio relativamente circoscritti ed elimitati. Con il passare del tempo, con l'aggravarsi della situazione e soprattutto con la politica tedesca volta a lasciare che i ghetti si autogovernassero, lasciarli a se stessi, le funzioni dei consigli ebraici aumentarono, aumentarono rapidamente e in misura praticamente illimitata. Ciò non era dovuto però soltanto a una dinamica interna, perché c'erano molti problemi da affrontare, molti gravi problemi da affrontare, problemi abitativi e soprattutto i problemi del rifornimento alimentare e i problemi del lavoro, ma ciò era dovuto anche al fatto che la burocrazia tedesca, la burocrazia delle autorità di occupazione, inondava i ghetti con norme, ordinanze, divieti, imposizioni. Si è calcolato che il consiglio ebraico del ghetto di Kaunas abbia ricevuto ben 2500 norme, ordinanze in pochi mesi di vita, a cui doveva in qualche modo dare seguito, a cui doveva in qualche modo dare atto. Una delle conseguenze di questa ipertrofia delle attribuzioni, delle funzioni dei ghetti fu quella che l'apparato dei consigli ebraici andò sempre più crescendo. Ruoli crescenti, funzioni crescenti, crescita dell'apparato. Certo, anche prima della guerra, gli organismi di autogoverno ebraici avevano un loro apparato di funzionari, di dipendenti, che però era formato da poche decine o al massimo da poche centinaia di persone. Nel corso della guerra, all'interno dei ghetti, noi ci troviamo di fronte ad una moltiplicazione quasi incontrollata degli apparati. Si calcola che il consiglio ebraico di Varsavia alla fine abbia avuto circa 6000 dipendenti e in più ad essi oltre 2000 poliziotti della polizia ebraica, parleremo in un secondo tempo. E in altri ghetti un terzo, un quarto, un quinto degli abitanti del ghetto dipendevano per il loro sostentamento dal consiglio ebraico perché ne facevano parte, erano membri della burocrazia del consiglio ebraico. Due sono i motivi fondamentali per cui la gente cercava di entrare nell'apparato del consiglio, nella burocrazia del consiglio. Questo offriva un minimo di organizzazione sociale, un modesto stipendio, delle mense riservate, in alcuni casi anche dei negozi nei quali era possibile acquistare o ottenere delle merci altrimenti introvabili all'interno del ghetto. Ma soprattutto la pressione per essere assunti, per essere reclutati nell'apparato del ghetto dipendeva dal fatto che vi era la convinzione, che poi si dimostrò un'illusione, che essendo funzionari civili o poliziotti dello Judenrat fosse possibile essere esentati dal lavoro, dalle deportazioni e poi in ultima istanza dall'eliminazione. Ed è evidente che questa era un'illusione contro la quale si dovettero poi scontrare, scoprendo che a nulla serviva essere funzionari del ghetto, a nulla serviva essere a capo del consiglio ebraico, tutti gli ebrei da questo punto di vista finirono per essere uguali agli occhi dei loro carnefici. Una fonte molto importante per conoscere la vita interna negli apparati degli Judenrethe nei ghetti è rappresentata dalla memoria scritta da Stanislav Adler a Varsavia. Si tratta di una memoria molto ravvicinata perché Adler la scrisse in realtà nel 1943-44, pochi mesi dopo la chiusura del ghetto e prima di suicidarsi. E da questa memoria emergono alcuni elementi utili per capire qual era la composizione di questo apparato del consiglio ebraico che stava crescendo incessantemente e che diventava via più ipertrofico. Adler scrive fra l'altro nella sua memoria che il suo stipendio era di 150 sloti. Se noi confrontiamo questo stipendio con il fatto che una zuppa nella mensa della polizia costava 5 sloti, noi capiamo che Adler avrebbe potuto al massimo consumare una zuppa al giorno con il suo salario. In verità Adler non si lamenta più di tanto perché ammette che essere membro del consiglio ebraico offriva altri benefici, piccoli benefici, come la possibilità di accedere a combustibile a prezzi ridotti o addirittura gratuito, di scambiare favori in cambio di cibo o di qualche altra prestazione e quindi la sua valutazione molto franca è quella di essere un privilegiato. D'altro canto Adler, che era un funzionario di basso livello, ammette che i capi del consiglio ebraico arrivavano addirittura a guadagnare 800, 1000 sloti al mese. E questa era una cifra che all'interno del ghetto nella società immiserita del ghetto rappresentava una specie di piccola fortuna. In effetti la vita interna del ghetto di Varsavia è contraddistinta da una incessante, martellante critica nei confronti dello Judenrat. Questa critica è molto ben documentata, per nostra fortuna, perché nel ghetto di Varsavia, come anche in altri ghetti, esisteva una vivace stampa clandestina, di cui alcune parti ci sono rimaste. Era una stampa che naturalmente veniva prodotta con mezzi di fortuna, su ciclostilati, su fogliettini che venivano passati di mano in mano, ma che avevano, a quanto sembra, una notevole diffusione. Abbiamo informazione dell'esistenza di una stampa di questo tipo anche negli altri ghetti più grandi, però è per Varsavia che la documentazione è più ricca. E questa documentazione è costruita in larga misura sulla critica nei confronti della corruzione e nei confronti delle speculazioni e del cinismo che caratterizzerebbero la politica del Consiglio ebraico della capitale varsaviana. Corruzione, speculazione, egoismo, nei confronti dei quali la stampa clandestina, che è per lo più di impostazione sionista o di sinistra, esprime una critica particolarmente forte, una critica devastante. E che casi di corruzione fossero all'ordine del giorno è dimostrato da molti esempi, da molti documenti di cui disponiamo. Ad un certo punto, ad esempio, nel ghetto di Ucce, Runkowski, il presidente del ghetto, diede ordine di dare un segno, un giro di vite nei confronti della corruzione allineante all'interno dell'apparato. Si trattava di una politica a volta a mantenere e a conquistare consenso da parte della popolazione del ghetto, lo vedremo meglio più avanti. Ma questa politica, questo giro di vite, diede subito dei risultati clamorosi. La polizia fece perquisizioni, tra cui anche nella casa del direttore del carcere Herzberg. E stando alla documentazione, ecco cosa fu trovato nella sua casa. 70 kg di carne salata, sacchi di farina, varie decine di chilogrammi di zucchero, un grande numero di bottiglie di liquori, tre cappotti di pelliccia e oltre mezzo milione di marchi in banconote tedesche. Una fortuna che stredeva tanto più in confronto con la miseria generale che regnava nel ghetto. Le feroci critiche della stampa clandestina nel ghetto di Varsavia nei confronti della politica del Consiglio Ebraico non erano ingiustificate. Riflettiamo un attimo su quanto costava un apparato burocratico di questo tipo, formato da migliaia di persone. Costava molti soldi e se noi andiamo a vedere i dati del bilancio, ne abbiamo alcuni, per alcuni ghetti possiamo farcene un'idea, ci accorgiamo che una parte cospicua del bilancio complessivo dello Judenrat era coperta o doveva coprire le spese di personale, le spese di funzionamento del Consiglio stesso. Rimaneva quindi molto poco delle briciole per svolgere tutti gli altri fondamentali impegni che gli Judenrette dovevano svolgere, soprattutto relativi all'approvvigionamento e all'assistenza di una popolazione ridotta sull'orlo della fame. D'altro canto sappiamo che tutte le burocrazie a tutte le latitudini tendono a crescere naturalmente, è la legge della burocrazia, quella di diventare sempre più grande, sempre più articolata e complicata e di creare i problemi da risolvere in maniera da potersi a sua volta, da poter crescere nuovamente. E a questa legge della burocrazia non sfuggirono neppure i consigli ebraci e i loro apparati e nei ghetti. Un'altra questione naturalmente molto importante è da dove venivano tratte le risorse di cui abbiamo appena detto e con quali fonti venivano alimentati i bilanci dei consigli ebraici. Va detto subito che i tedeschi non davano nulla, non davano un marco. La politica tedesca era quella che i ghetti non dovevano costare praticamente nulla. E quindi la gran parte delle entrate dei consigli, che poi appunto venivano in larga misura spese per mantenere gli apparati stessi, venivano da una serie fitta di tasse e di esazioni che soprattutto nel caso di Varsavia erano delle esazioni che andavano a colpire gli elementi vitali all'interno del ghetto. Per avere una tessera annonaria bisognava pagare una piccola tassa, per essere seppelliti bisognava pagare una piccola tassa, per avere un permesso di lavoro bisognava pagare una piccola tassa e così via. Si prese una per una erano sostanzialmente molto basse, ma che messe insieme e confrontate con le disponibilità minime di cui poteva godere la gran parte della popolazione del ghetto rischiamano di diventare molto pesanti per la vita, per i bilanci familiari, per così dire. E questo è particolarmente evidente a Varsavia, perché a Varsavia Adam Zerniakov, il capo del ghetto, realizzò, attuò, una politica che, come diceva criticamente la stampa clandestina, era una politica di aperto liberismo. Zerniakov in sostanza lasciò o cercò di lasciare che in qualche modo il mercato, per così dire, governasse il ghetto. Per quali motivi? Dobbiamo ricordare che nella capitale polacca, nel momento antecedente all'invasione tedesca, ci fu una fuga massiccia di popolazione. E soprattutto fuggirono coloro che avevano i mezzi per mettersi in salvo e in tempo. E a questa fuga tempestiva delle classi dirigenti non furono esenti neppure molti esponenti delle classi dirigenti ebraiche nella capitale. La gran parte degli esponenti di primo piano dei partiti ebraici varsaviani, ma anche molti esponenti del mondo religioso, fuggirono prima che i tedeschi arrivassero in città. E quindi Zerniakov e i pochi esponenti della classe dirigente ebraica rimasti si dovettero trovare di fronte ad una situazione molto difficile, senza avere la legittimazione, senza avere l'autorità per poter gestire, diremmo, il ghetto con il pugno di ferro. Invece diversa fu la strategia, per così dire, politica, in altri ghetti, e qui il caso di Ucch è il caso opposto rispetto a Varsavia, in cui al posto di un liberismo, per così dire, sfrenato, si cercò di attuare una politica fortemente dirigistica. Qualcuno poi la chiamò anche una dittatura. Critiche, critiche feroci nei confronti dei capi dei consigli ebraici, nei confronti del loro cinismo, nei confronti della loro corruzione, nei confronti del loro strapotere dispotico. Molte di queste critiche hanno trovato rispecchiamento nei diari, nelle memorie, ed hanno lasciato un segno molto forte anche nella memoria collettiva, soprattutto naturalmente ebraica, dopo il 1945. Tuttavia le fonti ci attestano anche come, in moltissimi casi, i capi. Quanto più erano autoritari e quanto più erano dispotici, quanto più davano il segno di essere in grado di governare con mano ferma, suscitassero anche consenso e fiducia in molti dei loro coreligionari. Certo, questa fiducia e questo consenso erano in gran parte motivati dal fatto che la gente si rendeva conto di non avere alternative, se non affidarsi al capo del ghetto, al presidente dello Judenrath. Tuttavia, credo che questo aspetto non possa essere sottovalutato, soprattutto se lo confrontiamo con la feroce denigrazione e distruzione del ruolo e delle funzioni degli Judenrath che poi venne fatta dopo il 1945, nel loro ricordo, come dei collaborazionisti, come dei complici dei carnefici. Ancora una volta il caso di Ucce è estremamente significativo. Numerose fonti diaristiche e memorialistiche ci attestano come i movimenti quasi quotidiani di Rumkowski venissero seguiti con apprensione e con attenzione da parte della popolazione, che nutriva in generale una forte fiducia nei suoi confronti. Quando per una notte Rumkowski sparisce dal ghetto, era stato portato nella parte ariana della città per consultazioni con autorità tedesche, nel ghetto si diffonde il panico, si diffonde la sensazione che senza Rumkowski la popolazione del ghetto, 140-150 mila persone, sia impotente, sia inerme. E la stessa sensazione di affidare fiducia e di temere che possa succedere qualcosa al capo del ghetto, noi la troviamo anche in altri casi. Piuttosto significativo mi sembra il caso di un ghetto della Bessarabia, il ghetto di Kisinau. Questo ghetto aveva un consiglio ebraico composto da medici, avvocati, insegnanti. Molti di essi appartenevano al movimento sionista. Di fronte all'ennesima richiesta da parte delle autorità, in questo caso sono le autorità d'occupazione rumene, di fornire persone per corvè lavorative, lo Judenrat non fu in grado di applicare pienamente quanto era stato richiesto e quindi tutti i membri dello Judenrat vennero imprigionati come ostaggi. Ebbene nelle ore seguenti a questo assistiamo ad una vera e propria corsa. Quegli stessi ebrei che si erano rifiutati poche ore prima di andare a lavorare su richiesta dello Judenrat, adesso si offrono volontari per la corvè con l'intento di liberare i capi dello Judenrat. Quindi abbiamo una oscillazione molto forte e abbiamo una instabilità molto forte tra i due poli del consenso e della fiducia nei confronti dei capi e l'altro polo della sfiducia e della critica nei confronti del loro dispotismo. D'altra parte noi non possiamo dimenticare che questo dispotismo e questo potere che sembravano in qualche modo assoluti e illimitati all'interno del Ghetto in realtà erano completamente vani nei confronti di chi davvero deteneva il potere, i tedeschi. Il capo del Ghetto poteva essere al suo interno una sorta di Dio in terra, ma nei confronti dei tedeschi non era nessuno, nei suoi confronti c'era disprezzo assoluto, era un ebreo come tutti gli altri. E così Zerniakov viene bastonato per strada da un soldato che passa per caso semplicemente perché non si è tolto il cappello come tutti gli ebrei erano tenuti a fare dentro al Ghetto quando vedevano da lontano passare un funzionario o un soldato tedesco. Non solo si dovevano togliere il cappello, ma dovevano anche scendere dal marciapiede e lasciargli il passo. Quali furono le strategie, se così possiamo dire, che i consigli ebraici cercarono di mettere in atto nei confronti delle autorità d'occupazione per mantenere in qualche modo l'autonomia del Ghetto e poi soprattutto per salvarlo? Possiamo individuare sostanzialmente due linee fondamentali. Entrambe derivano dalla tradizione ebraica, dalla tradizione plurisecolare delle comunità che soprattutto nell'Europa orientale erano confrontate con un mondo ostile, con delle autorità politiche che avevano diffidenza nei loro confronti, che avevano disprezzo nei loro confronti. La prima strategia che fu in qualche modo messa in atto fin da subito e che sembra quasi riflettere una reazione istintiva della tradizione ebraica fu la strategia dell'adattamento e della corruzione. Era una strategia che aveva funzionato molto spesso, che funzionava nella tradizione ebraica, cercare di trattare con singoli funzionari, con singoli ufficiali, con singoli esponenti del potere che ti stava opprimendo, sperando di poter così attenuare, addolcire il loro comportamento attraverso doni, attraverso la concessione di qualche cosa che loro desideravano. C'è un'espressione iddish molto significativa che descrive questo atteggiamento, statlanut, che vuol dire gestire la città. Quindi l'adattamento cercando di corrompere era quasi sinonimo di politica, di amministrazione. E questa strategia la troviamo molto frequentemente nei ghetti dell'Europa orientale. Addirittura nel caso del ghetto di Leopoli il Consiglio ebraico istituì un vero e proprio ufficio che si chiamava pomposamente ufficio forniture, ma che poi nel gergo del ghetto iniziò a venire chiamato ufficio depredazione. Quando un funzionario, un ufficiale, un sotto ufficiale, un esponente della potenza occupante desiderava qualcosa, esprimeva il desiderio di avere qualche cosa, un mobile, un pianoforte, del cibo particolare, una pelliccia, un qualche servizio particolare, beh l'ufficio del ghetto se ne doveva occupare. In qualsiasi modo doveva procurare ciò che il tedesco chiedeva in quel momento. A esprimere con molta chiarezza, direi, la politica dell'adattamento e del tentativo di corruzione, vorrei ricordare una breve citazione da una testimonianza relativa al ghetto polacco di Racin. Solo una persona in città poteva assumere il ruolo di anziano, ed era David Liechtenstein. Era ricco e stimato. Un anziano davvero come si conviene. Grazie alla sua abilità è riuscito ad addomesticare i sadici tedeschi in uniforme. Questa citazione riflette molto chiaramente la tradizione che sta dietro a questo tentativo di addolcire i comportamenti dei propri oppressori e dei propri carnefici. Ho detto che questa strategia fu applicata prevalentemente in una prima fase e quanto più ci si accorse che addolcire non serviva a nulla, che corrompere non serviva a nulla, che la situazione andava via via peggiorando, tanto più questa strategia in qualche modo venne abbandonata. Tuttavia non venne abbandonata del tutto. Anche qui il momento significativo ci porta al luglio del 1944. Nel luglio del 1944 il responsabile del ghetto di Kaunas, che era un anziano medico molto stimato nella comunità di nome Elkes, si rivolse al funzionario tedesco che aveva in amministrazione il ghetto. Siamo, ripeto, nel luglio del 1944. Elkes sa che il ghetto è di fronte all'ultima deportazione. Ed Elkes sa o teme che l'ultima deportazione significhi la distruzione della comunità. Ebbene anche in quest'ultimo momento Elkes, in un drammatico colloquio, tenta di convincere il funzionario tedesco a non effettuare la deportazione. E tenta di convincerlo con due argomenti. Uno è quello di offrirgli dell'oro, e quindi evidentemente nel ghetto c'erano ancora delle riserve di beni preziosi. E l'altro è quello di offrirgli una dichiarazione di buona condotta. Cioè di dargli una sorta di lascia passare per il futuro, quando la guerra sarebbe finita e la Germania probabilmente l'avrebbe persa, Goethe avrebbe potuto trovarsi in mano una sorta di dichiarazione che si era ben comportato nei confronti degli ebrei. Ma questo tentativo fallì. La strategia messa in atto dai consigli ebraici nei confronti delle autorità tedesche di ingraziarsele, magari attraverso la corruzione o la fornitura di servizi da loro richiesti, era una strategia che nel lungo periodo non aveva la possibilità di funzionare. E ben presto ci si rese conto che esisteva una ed una sola strategia, obbedire ed eseguire. Non esisteva altra possibilità se non quella di eseguire tutto ciò che le autorità tedesche imponevano. E mi sembra interessante ricordare come venisse giustificata da parte dei consigli ebraici questa strategia dell'obbedienza. Veniva giustificata con un argomento a cui in quella particolare situazione non si poteva opporre granché. In fondo era meglio che ad attuare le disposizioni dei tedeschi fossero gli ebrei stessi, piuttosto che lasciare che i tedeschi entrassero nel ghetto e facessero a modo loro, sicuramente con un tasso di violenza e di brutalità molto più alto. Con questa motivazione veniva giustificato anche il momento estremo dell'obbedienza e dell'esecuzione degli ordini tedeschi, che era quello della redazione delle liste delle persone che dovevano essere deportate. Quando le autorità tedesche chiedevano dei contingenti di persone da deportare, in moltissimi casi erano i consigli ebraici stessi ad applicare questo ordine, stilando essi stessi le liste. Abbiamo visto che Rumkowski-Auch stilava le liste di prostitute, di anziani, di vecchi, poi a un certo punto di bambini, cercava in qualche modo di scremare, scremare, scremare all'interno della società del ghetto, prendendo ai suoi margini, prendendo i meno produttivi, prendendo i meno utili alla vita del ghetto. Ma il ragionamento che Rumkowski e molti altri come lui facevano era «è meglio che siamo noi, al nostro interno, a stilare queste liste e consegnare noi stessi, gli ebrei e i tedeschi, piuttosto che lasciare che i tedeschi entrino nel ghetto, distruggendo tutto e facendo violenza». Questa obbedienza veniva anche giustificata sul piano religioso. Non dimentichiamo mai che nella vita politica delle comunità ebraiche il fattore religioso era un fattore molto importante. La religione nella cultura ebraica non è un fatto meramente personale e spirituale, ma la religione permia tutta la vita collettiva, la vita individuale e la vita collettiva, e quindi anche la vita politica. E anche se all'interno dei ghetti il ruolo dei rabbini, di coloro che esprimevano la saggezza della religione, era un ruolo sicuramente inferiore, più ridotto rispetto al passato, rispetto alla tradizione, tuttavia il loro parere era molto spesso richiesto dagli stessi capi del Consiglio ebraico per giustificare e per legittimare le scelte che compivano. L'autorevole rabbino del ghetto di Kaunas Shapiro, richiesto dal capo del Consiglio ebraico nell'ottobre del 1941 di un autorevole parere, se fosse opportuno o se fosse lecito eseguire gli ordini emanati dai tedeschi, espresse appunto la sua opinione che in una situazione di emergenza, in una situazione critica, fosse necessario e fosse opportuno obbedire. Vorrei citare la dichiarazione di Shapiro. Se una comunità ebraica è stata condannata alla distruzione fisica e vi sono possibilità per salvarne almeno una parte, i capi della comunità debbono avere il coraggio di assumersi la responsabilità e di agire per salvare il possibile. Il regime nazionalsocialista era fondato sul principio del capo, come tutti i regimi dittatoriali del Novecento, il capo assoluto che deteneva un potere supremo, al di sotto del quale stava una gerarchia di capi e sotto capi, a loro volta detentori di poteri parziali e limitati. Le autorità tedesche d'occupazione applicarono quasi istintivamente, quasi senza volerlo, il medesimo principio gerarchico in tutta l'Europa occupata e soprattutto lo applicarono all'interno nei confronti dei ghetti ebraici che in quella Europa occupata erano in qualche modo l'elemento più debole, l'elemento più fragile. Non stupisce quindi che rompendo brutalmente con la tradizione della gestione comunitaria della vita politica delle comunità, le autorità tedesche dessero la priorità a individui, a singoli, ai capi. Erano i capi i referenti delle autorità tedesche, erano i capi coloro a cui queste attribuivano gli incarichi e anche naturalmente le responsabilità di mettere in atto i loro ordini. E quindi diventa particolarmente importante soffermarsi, anche se brevemente, su alcune delle personalità più significative di coloro che gestirono, che guidarono i consigli ebraici nei ghetti dell'Europa orientale. Iniziamo da Adam Cerniakov, il capo, il presidente del Consiglio ebraico di Varsavia. Abbiamo già ricordato come Cerniakov venne nominato già dalle autorità polacche, prima ancora dell'occupazione tedesca, e come poi i tedeschi abbiano confermato il suo ruolo. Egli venne a trovarsi a governare un ghetto di 300-400 mila abitanti, in una situazione particolarmente difficile, non solo per i motivi generali che valgono per tutti i ghetti, ma in particolare nel caso della capitale polacca, perché una parte consistente della vecchia classe dirigente ebraica si era messa in salvo prima che i tedeschi arrivassero. Cerniakov faceva parte della classe dirigente prebellica, anche se in una posizione di secondo piano. Era un ingegnere, si era formato in Germania, parlava molto bene il tedesco e aveva all'interno della comunità ebraica prebellica una tradizione nella gestione e nella organizzazione del mondo artigianale, che era una componente molto importante della vita della comunità. Adam Cerniakov ci ha lasciato un diario, un diario nel quale giorno per giorno annotava ciò che avveniva all'interno del ghetto. In effetti questo diario è un diario estremamente sibillino, assai più ricco di silenzi e di omissioni piuttosto che di informazioni. Lo storico che si aspettasse da un diario scritto da una persona così importante in quel momento, in quella posizione così nevralgica, rimarrebbe sicuramente delusa. Tuttavia in questo diario, che è sicuramente così sibillino a causa dell'autocensura che Cerniakov fa, egli aveva paura che il diario potesse cadere nelle mani dei tedeschi e che quindi egli potesse nuocere a sé o ad altri, scrivendo effettivamente ciò che avveniva. All'interno delle pagine del diario, dicevo, Cerniakov si presenta come una sorta di martire, come una persona sola che in un contesto difficilissimo è costretta a combattere non soltanto contro i tedeschi, ma anche contro i suoi stessi correligionari, la gran parte dei quali non lo amano e non rispettano la sua autorità. In effetti non sembra che Cerniakov fosse poi così solo e così debole sul piano politico, era un uomo che aveva svolto un ruolo nella Varsavia ebraica prebellica e quindi non era del tutto ignaro di ciò che avviene nella vita politica. Certo è che il suo potere venne duramente criticato. Ringelblum, l'autore di uno dei più importanti diari varsaviani, lo critica così. Cerniakov è considerato un idolo, i suoi editti non devono essere messi in discussione, si può dire che in generale abbiamo adottato i principi del Führer. Anche l'ultimo atto compiuto da Cerniakov, capo del Consiglio ebraico di Varsavia, è stato sottoposto a critiche feroci ed è stato comunque valutato e commentato in modo molto diverso e divergente all'interno del ghetto stesso. Il 23 luglio del 1942 Cerniakov scriveva la sua ultima annotazione nel diario, che suona così. «Hanno preteso che per domani sia pronto un trasporto di bambini. In tal modo il mio amaro calice è colmo. Non posso consegnare dei bambini indifesi perché siano uccisi. Ho deciso di andarmene. Non considerate questo mio gesto come vigliaccheria o come una fuga. Io sono impotente. Il cuore mi si spezza per il dolore e la compassione. Era iniziata l'ultima grande operazione di rastrellamento nel ghetto di Varsavia, che fino a quel momento era stato lasciato sostanzialmente intatto a morire poco alla volta. E Cerniakov, di fronte alla richiesta delle autorità tedesche di stilare la lista dei bambini per una deportazione, si ribella e si suicida. Non dimentichiamo mai che non è possibile sapere in che misura Cerniakov o gli altri fossero consapevoli che queste liste, che queste deportazioni significavano, come effettivamente significavano lo sterminio. Non abbiamo alcun elemento preciso per capire il grado della conoscenza che costoro avevano. Chiusi dentro al ghetto avevano certamente una visione molto parziale, minima, di ciò che avveniva della politica tedesca nel suo complesso. Tuttavia, detto questo, il suicidio di Cerniakov venne valutato in modi molto diversi e molto contraddittori all'interno del ghetto stesso. Era un atto di fuga o era un atto di eroismo? D'altra parte, lo stesso capo del ghetto ne era consapevole. Come abbiamo visto, l'annotazione chiaramente invita i posteri a non considerarlo un vigliacco. E in effetti però questo è il giudizio che è rimasto più saliente nella visione dei posteri e anche dei suoi contemporanei. Addirittura uno dei più grandi poeti ebraici del tempo, Isaac Katnelson, scrisse un poema durissimo contro Cerniakov, accusandolo di essere scappato per paura. E delle testimonianze di cui disponiamo, la grande maggioranza propendono per valutare il comportamento di Cerniakov anche in quest'ultimo supremo momento come un comportamento di vigliaccheria e di debolezza. Nessuno può ergersi a giudice, moralizzatore o moralistico di situazioni così difficili e così drammatiche. Certo che Cerniakov appare complessivamente come un personaggio debole che ha cercato, probabilmente senza riuscirvi, di navigare e in qualche modo di mantenere funzionante un ghetto così grande in una situazione così difficile e soprattutto una società ebraica varsaviana così ribollente, così complessa e così intricata, nei confronti della quale Cerniakov non aveva probabilmente la legittimità e non aveva probabilmente la statura adatta. Se l'immagine di Cerniakov è quindi l'immagine di un mediatore forse, di un debole, ben diversa invece l'immagine prevalente in altri esponenti di primo piano dei consigli ebraici, in altri capi che paiono corrispondere pienamente a quel principio del Führer di cui abbiamo detto prima. Uomini forti, uomini decisi che sembravano avere chiaro in mente cosa fosse necessario fare per far sopravvivere il ghetto. Il tipo più significativo di capi dei ghetti ebraici è il tipo del uomo forte e deciso, che corrispondeva pienamente alle esigenze tedesche, alle aspettative tedesche. Uno storico ebreo, lui stesso testimone dei ghetti, poi fuggito negli Stati Uniti, ha cognato una definizione, io credo, molto importante, molto interessante per definire queste figure. Li ha chiamati degli pseudo messia. La figura del messia, che deve sempre arrivare, è una figura centrale nella cultura ebraica e effettivamente con questa espressione si può ben cogliere il ruolo che questi uomini forti svolgevano o cercavano di svolgere all'interno del ghetto. Ci soffermeremo in particolare su tre di essi. Rumkowski, già più volte incontrato, capo del ghetto di Uc, Jakob Gens, capo del ghetto di Vilnius, in Littuania, e Moses Merin, capo di una serie di ghetti che furono istituiti dalle autorità tedesche nell'Alta Slesia, nel distretto di Zaglenbie. Forse Merin è quello che più di tutti riflette l'idea del pseudo messia, perché nella sua posizione politica vi sono degli accenti religiosi molto forti. Mentre all'opposto, Chaim Mordechai Rumkowski è il messia laico, in qualche modo. E ci soffermiamo dapprima su di lui. Rumkowski era settantenne quando le autorità tedesche occuparono la Polonia e costituirono il ghetto di Uc. Aveva un passato commissionista, ma di seconda fila o addirittura di terza fila, ed era stato per molti anni attivo nel mondo dell'istruzione. In particolare aveva gestito, prima della guerra, dei collegi per bambini ebraici. Solo per inciso ricordo che una testimone del ghetto di Uc, Lucille Eichengreen, poi emigrata negli Stati Uniti, ha scritto due libri sulla vita nel ghetto e soprattutto su Rumkowski, soprattutto nel secondo dei quali la Eichengreen attacca duramente il capo del ghetto per le sue qualità morali e insinua molto chiaramente che Rumkowski fosse un pedofilo. Noi non possiamo naturalmente verificare questo e lo lasciamo quindi come un inciso che riflette in qualche modo la valutazione morale, spesso diffusa nei confronti dei capi ebraici. Rumkowski viene scelto dalle autorità tedesche, non sappiamo per quale motivo, però molti nel ghetto pensano che Rumkowski venga scelto perché è un uomo di bel portamento, è un anziano, con una bella massa di capelli candidi, degli occhiali molto professorali, un volto dai tratti decisi ed è anche un abile oratore, abbiamo molti testi dei suoi discorsi. Secondo alcuni testimoni irradia energia dal suo corpo. Rumkowski propone un programma molto chiaro e molto semplice, pane per gli affamati, lavoro per i lavoratori, la cura dei malati, preoccuparsi per i bambini e tranquillità nel ghetto. E come tutti gli altri pseudo messia, egli si preoccupa principalmente di gestire il ghetto nel modo più ordinato possibile, gestire le mense, gli asili, il lavoro, la cultura, ma allo stesso tempo di intervenire con la massima severità e con la massima durezza nei confronti di qualunque espressione di rivolta o anche di qualunque espressione di delinquenza o di uscire fuor dalle regole, abbiamo ricordato prima le perquisizioni contro i corrotti. La figura di Rumkowski è forse l'espressione più alta o più perversa di quella miscela di autoritarismo e di paternalismo con la quale i capi dei consigli ebraici cercarono di far fronte alla situazione estrema che si trovarono a sostenere durante la guerra. Rumkowski pervade con la sua figura, con la sua immagine e con azioni tutta la vita del ghetto, giorno per giorno. Persino le banconote speciali, le uniche che valevano all'interno del ghetto, avevano stampata al proprio centro l'immagine dello Judenelteste, dell'anziano. Rumkowski governava quasi come un sovrano d'ancien regime, scrive un testimone, come un sovrano assoluto del diciottesimo secolo, si lasciava portare in carrozza attraverso masse di persone giubilanti. O un altro, camminava lungo il viale Baluti, seguito da alcuni poliziotti della sua guardia del corpo. Certo sono immagini probabilmente esagerate che in parte riflettono anche una piageria, una cortigianeria che si andava diffondendo all'interno del ghetto a fronte della omnipotenza o della apparente omnipotenza di Rumkowski e dei suoi uomini. Rumkowski gestiva le amnistie, come per esempio in occasione di Hanukkah nel dicembre del 1941. Rumkowski gestiva distribuzioni speciali di cibo, di combustibili o di altri beni indispensabili. Rumkowski gestiva i sussidi, controllava con il suo volere e con il suo arbitrio la vita e la morte degli abitanti del ghetto. Ancora una testimonianza dall'interno del ghetto. Ai percettori di sussidi Rumkowski ha fatto una splendida sorpresa, aggiungendo alla normale tessera annonaria una tessera supplementare del valore di dieci marchi. Con la prima contromarca essi ricevono ora dieci chilogrammi di patate e un po' di verdure gratis. E anche la moglie di Rumkowski, sposata nel ghetto, una giovane segretaria di molti anni più giovane di lui, godeva apparentemente di questa aura quasi carismatica di cui godeva il marito, tanto che veniva chiamata, non si capisce bene se con ironia la presidentessa. D'altro canto la fama di Rumkowski e del suo autoritarismo paternalistico travalicò le mura del ghetto di Ucci. Arrivò sicuramente anche a Varsavia, come attestano testimonianze sia di Cerniakov, il suo pari grado nel ghetto della capitale, sia del diarista Emanuel Ringelblum e di altri. Testimonianze che riflettono la fama che Rumkowski si era costruito come di un uomo autoritario, dispotico, ma anche pronto a prendersi cura degli abitanti del ghetto in tutti i loro aspetti. L'elemento del paternalismo e l'elemento dell'autoritarismo che si miscelavano, per quanto riguarda quest'ultimo, vorrei ricordare che la politica di Rumkowski non fu affatto esente da critiche, così come lo era stata quella del suo pari grado a Varsavia, anzi suscitò fortissime proteste e fortissime critiche, soprattutto da parte di quella massa di operai e di operaie che Rumkowski mise al lavoro all'interno del ghetto, i quali vedevano con grande preoccupazione e con forte critica i privilegi e le differenze sociali che si andavano accentuando all'interno del ghetto tra la popolazione normale e l'apparato dello Judenrat. Era quindi un collaborazionista? Era un Robin Hood, come scrive qualcuno che toglieva ai ricchi per dare ai poveri? Era un illuso o era un fine politico? C'è una fotografia molto interessante. Il 5 giugno 1941 Himmler visitò il ghetto di Uc per pochi minuti e in questa fotografia la macchina di Himmler, il quale non scesa dalla macchina, circondata da funzionari ufficiali tedeschi e la macchia bianca dei capelli di Rumkowski che a capo chino ascolta la breve raccomandazione di Himmler. Lavorate, lavorate diligentemente e vedrete che non vi succederà nulla. Un'altra figura caratteristica che possiamo collocare nella categoria di pseudo messia è quella di Moses Merin, quarantenne, figlio di commercianti, questi sono gli unici elementi biografici di cui disponiamo, al quale le autorità tedesche affidarono, non sappiamo per quale motivo, la gestione di una serie di piccoli ghetti, molto ravvicinati gli uni agli altri, situati nella zona industriale dell'Alta Slesia. Complessivamente Merin aveva da gestire circa 20-25 mila persone. Per inciso ricordo che alcuni ghetti erano delle vere e proprie città. Varsavia, che arrivò probabilmente a superare i 420 mila abitanti. Vi erano poi sicuramente altri tre ghetti al di sopra dei 100 mila abitanti, naturalmente queste cifre sono stimate e valgono solo per un momento. Ucch con 150-160 mila, Leopoli e Minsk che avevano circa 100 mila abitanti e poi numerosi altri ghetti con 20 mila e più abitanti. Merin era mosso da forti motivazioni religiose, ma a quanto possiamo capire, egli aveva anche una visione politica. Secondo l'acuto osservatore della vita ebraica nella Polonia occupata, Ringelblum, in realtà Merin aveva un progetto di costituire una specie di distretto ebraico, una provincia ebraica nella Slesia, sperando che le autorità tedesche glielo consentissero. E anche nella politica di Merin, come in quella di Runkowski, troviamo una miscela inestricabile di paternalismo e di autoritarismo. Da un lato l'organizzazione di un sistema di mense che consentiva la distribuzione giornaliera di oltre 13 mila zuppe calde e inoltre razioni speciali, in particolare di latte, per bambini, anziani e malati. Dall'altro però repressioni e controlli per soffocare sul nascere qualsiasi ribellione, qualsiasi protesta e per far lavorare senza inciampi la popolazione chiusa nei ghetti. Anche di Merin, come di altri capi dei consigli ebraici, abbiamo testimonianze dirette dei loro discorsi, delle loro posizioni. E abbiamo tre citazioni di Merin che attestano come egli divenisse via via più consapevole della limitarsi e dell'attenuarsi delle sue possibilità di azione. Nel corso dell'estate del 1942 egli dichiarò, mi sento un capitano la cui nave sta per affondare e che è riuscito a raggiungere un porto sicuro gettando fuori bordo una gran parte del suo prezioso carico. Si riferiva al fatto di aver dovuto consegnare alcune migliaia di abitanti del ghetto ai tedeschi per la deportazione. La seconda citazione è ancora più tragica, siamo nel corso del 1943, i rastrellamenti si susseguono l'uno all'altro. Io sono dinnanzi ad una gabbia nella quale vi è una tigre molto affamata. Io le riempio le fauci di carne, carne dei miei fratelli e sorelle, per trattenerla nella gabbia e impedire che esca e ci sbrani tutti. Ma nel giugno di quell'estate anche Merin, assieme alla sua famiglia e ai suoi più stretti collaboratori, venne deportato ad Auschwitz. La tigre era uscita dalla gabbia. Il ghetto lituano di Vilnius era governato da un consiglio ebraico, nominato in un primissimo tempo dopo l'occupazione, dopo poco tempo eliminato e sostituito da un altro. Capo della polizia, su nomina tedesca, della polizia del ghetto, era un giovane ufficiale, ex ufficiale nell'esercito lituano, che si chiamava Jakob Gens e che aveva una formazione politica sionista, ma appartenente a quella corrente del sionismo che si chiama sionismo revisionista. Il sionismo revisionista, che secondo alcuni interpreti era addirittura fascisteggiante negli anni trenta, richiamandosi al suo fondatore Jabotinsky, si differenziava dal sionismo in generale perché guardava una soluzione del problema ebraico da dove le comunità ebraiche erano. Quindi non guardava alla terra di Sion, a uno spostamento verso la Palestina come il sionismo, ma proponeva una soluzione autoctona nelle sedi residenziali della questione ebraica. Gens riuscì rapidamente dalla sua posizione di capo della polizia a soppiantare il consiglio ebraico nominato e a nel posto. Ben presto anche egli divenne uno pseudo messia, non con motivazioni religiose, ma con salde e materiali motivazioni politiche. Un testimone del tempo lo ha chiamato idealista molto pratico. Il punto di vista di Gens era molto chiaro, far lavorare il ghetto, così come per Meren, così come per Runkowski, mantenere la disciplina all'interno del ghetto, impedire che all'interno del ghetto ci fosse una qualsiasi forma di ribellione o un qualunque disordine che potesse suscitare l'attenzione dei tedeschi e quindi mettere in crisi il precario equilibrio di sopravvivenza del ghetto stesso. Ma allo stesso tempo però Gens si preoccupò molto delle attività assistenziali, sociali e culturali all'interno del ghetto. Stando ai bilanci del consiglio, più di un quarto delle spese del consiglio era destinato ad attività assistenziali, sia le mense, asili e scuole, come negli altri casi, ma nel caso di Vilnius abbiamo in più anche una forte attenzione per gli aspetti culturali. Ricordo che Vilnius era chiamata la Gerusalemme di Lituania nella tradizione ebraica a causa della sua forte tradizione culturale del passato. Era una delle grandi capitali dell'ebraismo europeo orientale. E Gens in qualche modo cercò di tener conto di questa tradizione e quindi si premurò molto di organizzare e di gestire anche delle attività culturali all'interno del ghetto. Ad esempio una biblioteca, messa insieme accorpando lasciti bibliotecari di privati che magari erano scappati dal ghetto o che comunque non avevano più la possibilità di mantenere queste dotazioni librarie. E poi anche fu organizzata una intensa attività teatrale e musicale di alto livello. Non dimentichiamo che nel ghetto di Vilnius, come in molti altri ghetti, vi erano decine, centinaia di artisti, musicisti, pittori, giornalisti, attori, registi teatrali e quindi le attività culturali erano un elemento fondamentale nella vita del ghetto. Gens fu anche, come Merin, responsabile, si assunse la responsabilità di selezionare le persone, i contingenti che di volta in volta gli venivano richiesti dalle autorità tedesche e destinarli alla deportazione, con l'obiettivo di salvare almeno una parte della popolazione del ghetto. Da una dichiarazione che ci è stata tramandata di Gens, sembrerebbe che egli fosse consapevole che le liste che stilava e le persone che consegnava ai tedeschi alle porte del ghetto andavano verso la morte. Noi non siamo però affatto sicuri che egli fosse consapevole di questo. In generale non sappiamo quanto gli ebrei chiusi nei ghetti fossero consapevoli del destino che li stava aspettando. Le attività e le scelte dei capi dei consigli ebraici, anche dei più decisi e dei più autoritari come quelli di cui abbiamo appena parlato, erano guardate in generale dai tedeschi con un certo distacco. Sembra che le autorità tedesche fossero sostanzialmente poco interessate a ciò che avveniva all'interno del ghetto per quanto riguarda gli aspetti politico-sociali. Addirittura all'inaugurazione della stagione teatrale e musicale del ghetto di Vilnius, con grande stupore degli spettatori, si presentò il capo dell'apparato militare tedesco con il suo seguito, assistendo con punto al concerto. I tedeschi in effetti erano scarsamente interessati a ciò che avveniva all'interno dei ghetti perché sostanzialmente ritenevano di non dover temere nulla dagli ebrei chiusi nei ghetti. La visione antisemita radicalizzata nella mentalità dei funzionari civili e militari tedeschi era quella che gli ebrei fossero dei pusillanimi, fossero dei vigliacchi, impotenti e incapaci di reagire in alcun modo. Le stesse spie di cui i tedeschi disponevano in buon numero all'interno dei ghetti erano molto più interessate a individuare eventuali tesori nascosti, beni che gli ebrei cercavano di sottrarre ai tedeschi, piuttosto che a dare informazioni sulle vicende politiche, diremmo così, all'interno del ghetto. E le spie erano molte. I tedeschi erano convinti sostanzialmente che gli ebrei ghettizzati non fossero in grado di reagire. Tuttavia, all'interno dei ghetti, soprattutto in quelle situazioni che abbiamo appena visto in cui vi era una forte pressione autoritaria, ma anche a Varsavia, dove invece regnava una sorta di caotico mercato dove il più forte vinceva, iniziarono gradualmente, anche se faticosamente, a venire alla luce degli organismi, dei movimenti che potremmo, forse in maniera un po' esagerata, chiamare dei contropoteri. Il caso di Varsavia è particolarmente interessante e soprattutto vorrei ricordare quel fenomeno che si diffuse tra 1940 e 1941, che è quello dei comitati di caseggiato. Di fronte alla evidente incapacità dello Judenrat di gestire la situazione dell'emergenza, di fronte alla fortissima immissione di profughi, soprattutto nel corso del 1941, e anche di fronte al fatto che, dopo la dichiarazione di guerra da parte tedesca agli Stati Uniti, nel dicembre del 1941, era avvenuto meno anche la possibilità di ricevere aiuti dall'ebraismo americano, aiuti che fino a quel momento in qualche modo erano potuti arrivare, iniziarono a formarsi dei gruppi di mutuo soccorso, dal basso, in forme assembleari, che appunto assunsero la denominazione di comitati di caseggiato, perché erano organizzati caseggiato per caseggiato. Uno degli iniziatori, degli ideatori di questo movimento fu Ringelblum, il già più volte citato diarista di Varsavia, il quale ci ha lasciato alcune informazioni su questo movimento, naturalmente un po' idealizzandone le caratteristiche e le finalità. È certo tuttavia che questi comitati di caseggiato tentarono di surrogare alla debolezza, alla incapacità dello Judenrat di rifornire soprattutto i profughi che arrivavano nei ghetto ed erano completamente sradicati e senza aiuto. Basandosi su autofinanziamento, i comitati di caseggiato cercavano di aiutare appunto i profughi a trovare un'abitazione, una sistemazione e anche a trovare loro delle fonti alimentari. Certo si trattava di una iniziativa molto difficile che ben presto entrò in crisi a causa della carenza finanziaria. Quanto più il ghetto si impoveriva, tanto più si esaurivano le possibilità di autofinanziamento e direi ancora di più, tanto più si accentuava l'egoismo, il desiderio di cercare di far da soli per tentare di sopravvivere. Fenomeni di collaborazione con il nemico, di complicità, vi sono sempre stati in tutte le guerre da quando l'uomo ha iniziato a scontrarsi con le armi. Tuttavia nella seconda guerra mondiale il fenomeno della collaborazione assume delle caratteristiche e anche delle dimensioni completamente diverse. La seconda guerra mondiale è infatti una guerra anche e in misura crescente col passare del tempo una guerra ideologica, nella quale oltre al conflitto tra nazioni vi è anche un conflitto tra ideologie, tra posizioni politiche diverse e contrapposte. Quindi non sorprende che in questa contrapposizione tra ideologie, in particolare naturalmente tra il nazionalsocialismo e il fascismo da una parte, ideali della democrazia dall'altra e il comunismo dall'altra, vi fosse ampio spazio per fenomeni di collaborazione. Questo vale soprattutto nei confronti del regime nazionalsocialista che, come sappiamo, nei primi due o tre anni di guerra conquistò e occupò praticamente tutto il continente europeo, una parte anche dell'Africa settentrionale. Questa collaborazione, che assume nel corso della guerra le forme più diverse, è stata molto spesso bollata negativamente come collaborazionismo. Collaborazionismo come fenomeno moralmente deprecabile, nel modo più assoluto, perché bollato come un tradimento nei confronti della propria patria, degli interessi della propria patria. In effetti il fenomeno della collaborazione nel corso della seconda guerra mondiale assume le forme più diverse. Possiamo però individuare grosso modo tre linee, tre filoni, che si distinguono, anche se in parte si sovrappongono. Possiamo individuare una collaborazione per calcolo politico, per esempio quella che il marescello Petain fece nella Francia sconfitta e occupata, con l'intento non soltanto di salvare la Francia da una sottomissione più aspra, ma anche di costruire una Francia nuova, una Francia basata sui valori, nei quali Petain e i suoi credevano, che erano in contrapposizione con la Francia repubblicana, figlia della rivoluzione. Vi è poi, come abbiamo ricordato prima, ed è un filone molto importante e variegato, la collaborazione per affinità ideologica, cioè movimenti, partiti, gruppi politici che già negli anni 30 avevano posizioni vicine, affini a quelle del nazionalsocialismo o del fascismo italiano, i quali nel corso della guerra credono sia venuto il loro momento per realizzare uno stato nuovo, una razza nuova, l'elemento razziale è molto importante. Qui il simbolo di questo aspetto della collaborazione potrebbe essere Quisling, il collaborazionista norvegese, il cui nome è diventato poi negli anni della guerra e del dopoguerra, sinonimo di collaborazionista. Un terzo aspetto molto importante della collaborazione è quello invece che si potrebbe definire come una collaborazione motivata dal desiderio di mantenere in piedi le istituzioni vigenti, di mantenere una qualche solidità sul piano economico, sociale, amministrativo, di mantenere in sostanza il funzionamento della vita collettiva. Qui gli esempi sono molti, potremmo ricordare in particolare nei paesi dell'Europa occidentale occupata, l'atteggiamento di collaborazione verso gli occupanti mostrato da ampi settori dell'apparato burocratico, amministrativo, economico e anche giudiziario. Si può parlare nel caso dei ghetti ebraici di collaborazionismo? Sembrerebbe una contraddizione insanabile. Com'è possibile pensare che le vittime abbiano collaborato con i carnefici? Certo è da escludere assolutamente qualsiasi forma di collaborazionismo di tipo ideologico e anche di tipo politico perché in verità gli ebrei nei ghetti non avevano le possibilità per fare delle proposte politiche. Tuttavia vi è una collaborazione che si motiva con il desiderio di salvare il salvabile, di mantenere in piedi in qualche modo l'instabile equilibrio nei ghetti. Abbiamo già visto come l'atteggiamento dei consigli ebraici e soprattutto dei loro capi nei ghetti assuma in molti aspetti le forme della collaborazione con gli occupanti. Una collaborazione che era motivata essenzialmente dall'imperativo di cercare di salvare per quanto possibile le comunità rinchiuse nei ghetti, di mantenere dei livelli di vita o di sopravvivenza abbastanza accettabili. Dove la collaborazione è arrivata ai limiti estremi per così dire, dove il confine molto labile tra i carnefici e le loro vittime appare particolarmente tenue, è in quelle figure di cui sappiamo poco, in quelle figure marginali nella organizzazione complessiva dei ghetti che però sembra abbiano svolto un ruolo importante al loro interno, almeno in certi momenti, e soprattutto, direi, nell'atteggiamento e nei comportamenti della polizia ebraica nei ghetti. Per figure marginali intendo dei personaggi, dei quali abbiamo notizie sparse e molto superficiali, i quali sembrano aver svolto all'interno dei ghetti una funzione particolarmente ambigua al servizio delle autorità tedesche e soprattutto al servizio della Gestapo. Certo, le testimonianze di cui disponiamo sono soprattutto testimonianze di parte ebraica, poche testimonianze, e quindi è presumibile che esse abbiano particolarmente accentuato in senso negativo e quindi anche con una valutazione morale fortemente negativa i comportamenti di questi personaggi. Non sappiamo quindi se, quando un testimone ci parla di una persona che è una spia della Gestapo o che è stato messo in una determinata funzione, in un determinato ruolo dalla Gestapo, davvero questa sia la verità o sia piuttosto questa la lettura che ne viene data all'esterno. Fatto sta comunque che queste persone, molte delle quali sono negli apparati della Polizia del Ghetto, svolgono un ruolo particolarmente ambiguo e particolarmente accentuato di collaborazione con le autorità occupanti. Un caso, per esempio, interessante è quello di un tal Benno Lipzer, che nel Ghetto di Kaunas arrivò addirittura ad avere un tale potere, una tale influenza da farsi nominare comandante onorario della Polizia del Ghetto e da prendere la responsabilità di emanare delle ordinanze, di pubblicare dei proclami in cui parlava, come dire, a nome della collettività, pur non avendone alcun diritto. La figura più interessante e di cui sappiamo di più da questo punto di vista è però quella di Abraham Gantzweig. Sembra che Gantzweig fosse un giornalista proveniente da Ucce che arrivò nel Ghetto di Varsavia e a lui la Gestapo affidò ufficialmente l'incarico di costituire un corpo di polizia specializzato per combattere contro il contrabbando e la speculazione. Sembra ironia, naturalmente, perché la vita del Ghetto, la sopravvivenza del Ghetto, come abbiamo già visto, erano basate sul contrabbando e sulla speculazione. Gantzweig costituì un corpo di polizia chiamata anche Polizia Verde, dal colore delle uniformi, ma più nota come Il 13. Il 13 perché la sede di questo reparto di polizia era al numero 13 di via Lesno, una delle strade principali del Ghetto. Non solo, ma Gantzweig organizzò anche un servizio di ambulanza, un servizio di pronto soccorso, diremmo noi, che avrebbe dovuto intervenire per assistere i tanti feriti malati che giorno dopo giorno, a centinaia, a migliaia, cadevano per terra, esausti, nelle strade del Ghetto. Ma cosa faceva veramente Gantzweig? Cosa faceva veramente la sua polizia verde, così odiata dentro al Ghetto di Varsavia? A quanto ci è dato sapere, le attività del reparto speciale per la lotta contro il contrabbando e la speculazione sui prezzi guidato da Gantzweig nel Ghetto di Varsavia erano le più diverse e in realtà le più contraddittorie l'una rispetto all'altra. Sembra che il controllo dei prezzi in realtà si trasformasse in una partecipazione attiva al contrabbando, tra l'altro sfruttando questa ambulanza, un carretto trainato da cavalli ma coperto, chiuso, che era un ottimo mezzo per entrare e uscire dal Ghetto portando dentro e fuori beni preziosi e indispensabili per la vita della gente. Sembra anche che Gantzweig abbia giocato con grande abilità e certamente per il suo tornaconto personale le influenze che poteva avere con la polizia tedesca per estorcere agli abitanti del Ghetto sotto forma di denaro, beni preziosi, gioielli, eccetera, tutto ciò che era estorcibile. Qualcuno aveva bisogno di una tessera non aria? Qualcuno aveva bisogno di una tessera di lavoro? L'una indispensabile per sopravvivere di giorno in giorno, l'altra indispensabile per poter sfuggire poi ai rastrellamenti dai quali molto spesso venivano colpite le persone che non lavoravano, che erano quindi inutili e improduttive. Gantzweig aveva la tessera, la metteva a disposizione, naturalmente non gratuitamente, ma dietro pagamento, l'autopagamento. Sottolineo che abbiamo pochi elementi a disposizione per conoscere questa situazione, però gli elementi che abbiamo ci consentono di capire che Gantzweig e i suoi avevano una rete capillare di presenza nel Ghetto e attraverso i loro buoni rapporti con la polizia tedesca sfruttavano questa loro situazione per il proprio tornaconto personale. Però c'è anche un altro lato della medaglia. Colui che un diarista chiama ascesso aperto e purulento da un altro viene chiamato una specie di Robin Hood. Gantzweig infatti aiutava i poveri richiamandosi alle salde tradizioni dell'assistenza pubblica, del mutuo soccorso, caratteristiche delle comunità ebraiche nell'Europa orientale, aiutava i poveri con eragizioni di denaro o di cibo, aiutava con feste, era un vero e proprio mecenate. Tra l'altro anche un mecenate delle arti, molti intellettuali, rimasti completamente senza lavoro e difficilmente in grado di poter trovare un modo di lavorare, di sopravvivere, date le loro caratteristiche di formazione professionali, molti intellettuali, dicevo, vennero aiutati da Gantzweig, il quale a casa sua addirittura sembra abbia organizzato una specie di salotto letterario, dove si svolgevano letture, presentazioni e discussioni. E certamente Gantzweig, nel momento in cui elargiva del denaro, elargiva del cibo, era un filantropo, così come lo era Rumkowski nel Ghetto di Ucch quando dava delle razioni speciali ai membri del suo apparato. Ma in fondo, anche quando si faceva pagare, probabilmente a caro prezzo, per concedere una tessera annonaria o per concedere una tessera di lavoro, Gantzweig era uno speculatore o era un Robin Hood? O era forse entrambe le cose insieme? È molto difficile valutare, soprattutto perché abbiamo a disposizione pochi elementi, ma è molto difficile valutare perché la vita all'interno del Ghetto era così compressa e così condizionata dagli elementi basilari della sopravvivenza che tracciare una linea netta e chiara tra comportamenti positivi per la collettività e comportamenti negativi per la collettività era praticamente impossibile. Certo è che quando Gantzweig sparì, sembra nella primavera del 1942, molti tirarono un sospiro di sollievo e come lui sparirono gli altri uomini della Gestapo nei vari ghetti di cui abbiamo naturalmente informazioni, come il già ricordato Lipzer a Kaunas o come David Gertler a Ucce. Anche Gertler aveva un reparto speciale della polizia che avrebbe dovuto occuparsi del controllo del contrabbando. Un ruolo molto più cruciale nella vita dei ghetti rispetto a queste figure di ambigui e oscuri agenti della Gestapo che abbiamo ricordato prima è quello svolto dalla polizia ebraica. Se i consigli ebraici, i Judenrehte, erano figli di una antica tradizione di autogoverno delle comunità, non vi era invece alcuna tradizione di organismi di polizia all'interno dei ghetti. E questa istituzione viene imposta in modo del tutto nuovo, dall'esterno, dalle truppe occupanti. Scrive un diarista varsaviano «I residenti del ghetto stanno iniziando a pensare di essere a Tel Aviv, forti e onesti poliziotti scelti fra i nostri fratelli, ai quali è possibile parlare in yiddish. Un urlo ebraico non è la stessa cosa di un urlo di un gentile. Quest'ultimo è aspro, crudele, osceno. Il primo, anche se fa paura, contiene una certa gentilezza come a dire «Non mi capisci?». Questa citazione ci consente di aprire il capitolo relativo al comportamento e al ruolo della polizia, per la quale vale quanto ricordato prima, che tale ruolo giunge probabilmente ai limiti estremi del confine labile e indistinto tra difesa degli interessi della comunità e collaborazione con i propri carnefici. Secondo la volontà tedesca, i corpi di polizia nei ghetti avrebbero dovuto occuparsi in primo luogo dell'ordine pubblico. Alle autorità tedesche interessava soprattutto che il funzionamento della vita quotidiana nel ghetto non venisse in nessun modo messo in discussione, ostacolato da situazioni di instabilità o di incertezza. E quindi alla polizia vennero affidati fin dall'inizio compiti elementari, come quello di controllare la polizia nelle strade e nelle case, quello di controllare il traffico, naturalmente stiamo parlando soprattutto del traffico pedonale, qualche rara bicicletta, ma era un traffico molto caottico perché, come abbiamo visto, i ghetti erano altamente sovraffollati, di verificare che le norme per l'oscuramento antiaereo venissero applicate e soprattutto di reprimere la presenza fastidiosa e incombente dei mendicanti nelle strade e nelle piazze, di controllare e di reprimere il contrabbando, ma soprattutto ai corpi di polizia venne affidato l'incarico di reclutare di organizzare, accompagnare e sorvegliare fuori dal ghetto o alle porte del ghetto i gruppi di lavoratori, le corvè, che giorno dopo giorno venivano reclutati e venivano portati a lavorare fuori dalle mura del ghetto. Si trattava quindi di una serie molteplice di funzioni che alla polizia ebraica venne affidata, che aprivano, come dire, ampi spazi di azione ad essa e che in qualche modo corrispondono ai vaghi e generici limiti delle funzioni attribuite ai consigli ebraici. C'era quindi una sorta di autogoverno della polizia all'interno dei ghetti che era funzionale, pienamente funzionale agli interessi tedeschi, non solo perché così potevano affidare ad altri l'onere e la preoccupazione di gestire l'ordine pubblico, ma anche perché la vecchia norma, la vecchia massima romana, divide et impera, dividi e comanda, venne pienamente messa in atto anche nei ghetti dell'Europa orientale. Quanto più si riusciva a dividere, a frantumare la collettività, tanto più facile era la possibilità di controllarla, di opprimerla e di eliminarla. Abbiamo poche informazioni sul reclutamento dei capi della polizia, ancor meno di quanto ne abbiamo per quanto riguarda i consigli ebraici. I dati di cui disponiamo, scarni e soltanto provvisori, mostrano che ancor più che nel caso degli Juden Rete, i capi della polizia fossero degli uomini nuovi, delle persone largamente sconosciute all'interno della comunità, in cui non avevano svolto ruoli particolari. Anzi, è abbastanza interessante che sembra esservi una percentuale piuttosto alta tra i capi della polizia nei vari ghetti di profughi, cioè di persone che non erano nate e vissute in quella città e in quel villaggio, ma che vi erano immigrati a causa delle politiche di domino etnico messe in atto dai nazionalsocialisti. Vi sono tuttavia a questa regola anche delle eccezioni. È il caso ad esempio di Varsavia, dove la polizia ovviamente ebbe a svolgere un ruolo molto importante. A capo della polizia venne infatti nominato su richiesta tedesca, ma da Cerniakov, dal capo dello Judenrat, un ex alto ufficiale del corpo della polizia municipale della capitale, Josef Gerinsky, il quale tra l'altro era convertito al cattolicesimo. Su questo tema delle conversioni e della presenza degli ebrei convertiti dentro ai ghetti potremmo aprire una parentesi che però non apriamo. È un tema però estremamente delicato, perché queste persone sono una delle numerose categorie di particolarmente sradicati, perché già erano sradicati dalla comunità nel periodo antecedente alla guerra e quando poi vennero portati dentro ai ghetti si trovarono in situazioni generalmente ancora più difficili e ancora più insostenibili. Ma più che per i capi della polizia abbiamo elementi interessanti relativi al reclutamento dei componenti della polizia. Perché si entrava in polizia nel ghetto? Anche qui una citazione mi sembra piuttosto significativa. Scrive un testimone criticando il padre che aveva rifiutato per difendere il proprio onore di entrare a far parte della polizia di Ucci. Io ero attirato dalla bella uniforme che gli stava così bene e dalla prospettiva della razione straordinaria distribuita ai membri della polizia ebraica. Non vedevo nulla di male in poliziotti ebraici che facevano rispettare la legge e l'ordine all'interno del ghetto. Quindi si vede la miscela ingenua per certi versi tra una bella uniforme e una razione straordinaria. In più con l'elemento che la polizia che faceva rispettare l'ordine all'interno del ghetto se era ebraica era una cosa buona. Ma anche il primo punto mi pare da non sottovalutare. Abbiamo numerosi documenti fotografici su poliziotti in alcuni ghetti e cosa li contraddistingue? Beh, li contraddistingue di solito un cappello di tipo militare una fascia sul braccio diversa che li distingue dalla fascia gialla o bianca che dovevano portare tutti gli ebrei nel ghetto solitamente un vestiario piuttosto decente un cappotto solitamente di discreta fattura e poi gli stivali dei bei stivali neri luccicanti e ancora un bastone o una frusta un qualche segno piccolo segno distintivo di un potere di un piccolo potere che il poliziotto detiene rispetto ai suoi correligionari. Ancora una volta una citazione dal notissimo film di Spielberg Schindler's List anche qui ci sono dei poliziotti ebraici che hanno un certo ruolo nella parte iniziale del film e anche qui vediamo come il comportamento di questi poliziotti sia spesso un comportamento che è frutto proprio di questa sorta di divisa che essi portano. Quegli stivali quel bastone o quella frusta che hanno in mano in qualche modo ne fa delle persone diverse ne fa delle persone più potenti più rispettate e più temute. Come venivano reclutati i poliziotti nel ghetto? Un testimone del tempo Stanisav Adler che aveva proprio una funzione importante nell'ufficio reclutamento della polizia nel ghetto di Varsavia ci ha lasciato delle testimonianze preziose da questo punto di vista che poi trovano conferma in altre fonti per altri ghetti. Una parte forse una piccola parte di reclute erano delinquenti o comunque marginali persone violente aggressive che avevano un passato di delinquenza o ai bordi della delinquenza e per le quali entrare nella polizia e avere appunto in mano il frustino o il bastone in qualche modo rappresentava una specie di continuazione per certi versi naturale del loro comportamento precedente. Ma sembra invece che la parte più cospicua più consistente di reclute nella polizia fosse invece rappresentata da giovani appartenenti alla media borghesia urbana nei ghetti quella colonna portante della vita comunitaria nelle comunità ebraiche prebelliche figli di avvocati di professori di notai di artigiani di commercianti loro stessi in molti casi studenti a Leopoli per esempio un testimone ci parla di intellettuali assimilati avvocati studenti insegnanti e giornalisti e anche a Riga stando ad un'altra fonte la gran parte dei membri del corpo di polizia erano studenti e questo è un elemento significativo e stridente se per il delinquente per il bullo di quartiere entrare a far parte della polizia poteva essere una sorta di compimento della sua carriera del suo modus vivendi antecedente beh per i giovani studenti per i giovani figli di avvocati o di liberi professionisti come si spiega questo desiderio e questa forte pressione per entrare nella polizia una fortissima pressione Adler ci ricorda che pur di far entrare i propri figli nel corpo di polizia erano disposti a tutto i loro genitori a corrompere a pagare a fare di tutto pur di avere per i propri figli un posto un paio di stivali forse un frustino o un bastone è difficile dare una spiegazione generale a questa apparente contraddizione una spiegazione di natura sociale potrebbe essere ricercata nel fatto che come abbiamo più volte ricordato la vita nel ghetto era rappresentata soprattutto dal duro lavoro e il duro lavoro era l'elemento cruciale per la sopravvivenza o per tentare di sopravvivere e per i figli della borghesia urbana con le mani pulite curate inadatte a lavori manuali queste possibilità di sopravvivenza erano più difficili più limitate entrare nell'apparato dello Judenrat o entrare nei corpi di polizia era una una buona possibilità forse l'unica possibilità per farsi strada per stare a galla nella vita del ghetto nel suo marasma declinante verso un gorgo sempre più profondo in alcuni casi abbiamo anche dei reclutamenti che avvengono secondo rigorose linee di partito non dimentichiamo che le comunità ebraiche erano fortemente frantumate al loro interno da contrapposizioni religiose ideologiche e di partito nel caso del ghetto di Vilnius per esempio il già ricordato Jakob Gens che era capo della polizia prima di diventare il padrone del ghetto reclutò soprattutto sionisti revisionisti cioè coloro che appartenevano al suo stesso gruppo politico i motivi di una tale pressione per essere reclutati nei corpi di polizia sono ancora una volta molto concreti e materiali non era soltanto il ruolo ma tutto ciò che il ruolo gli stivali il frustino implicavano non era soltanto il salario o la zuppa un po' più densa un po' più saporita ma tutto ciò che quel ruolo e quella funzione comportavano e questa era fortemente intrisa di corruzione scrive ancora una volta un nostro testimone quasi nessun poliziotto faceva conto per mantenersi del solo stipendio ufficiale la corruzione sembra essere stato l'elemento caratteristico basilare del comportamento della polizia nei ghetti una corruzione pervasiva che faceva sì che in molti casi e da molti punti di vista i poliziotti finissero per essere più delinquenti dei delinquenti che avrebbero dovuto sorvegliare prendiamo ad esempio il contrabbando alla polizia venne affidato l'incarico di controllare il contrabbando di reprimere il contrabbando e per questi motivi i poliziotti venivano collocati nei luoghi nevralgici di collegamento tra il ghetto e il mondo esterno che erano le porte i cancelli del ghetto oppure lungo il suo perimetro esterno e proprio questa posizione alle porte del ghetto e lungo le mure ai recinti del ghetto offriva naturalmente ai poliziotti ampie possibilità di essere i protagonisti del contrabbando o comunque di trarne in qualche modo vantaggio chiudendo un occhio quando doveva passare un trasporto di un certo tipo aiutando persone e cose ad entrare e ad uscire ed il fenomeno era così vasto e così pervasivo che in alcuni ghetti dove la situazione era particolarmente difficile da questo punto di vista le autorità degli Uyudrat a un certo punto furono costrette a interventi drastici non solo a punire e in alcuni casi anche a licenziare a espellere dal corpo di polizia alcuni corrotti ma addirittura come nel caso del ghetto di Kaunas a spostare un intero reparto dalla zona sud del ghetto alla zona nord alternandolo con un altro reparto e viceversa in modo che non avendo tempo di fermarsi a lungo in quella determinata zona della confini del ghetto ai poliziotti fosse più difficile crearsi rapporti legami e costruire quindi anche la propria rete di complicità verso il contrabbando in effetti i poliziotti si facevano pagare per tutto si facevano corrompere per qualunque piccolo o grande privilegio essi erano in grado di concedere ad esempio l'esenzione dalle corvè per malattia o per qualche altro motivo veniva molto spesso pagata a caro prezzo ed erano i poliziotti che dovevano andare a controllare che le persone inserite nella lista si presentassero alla mattina presto alla porta del ghetto e quando non si presentava erano in grado di tranne un loro utile facendosi pagare per l'esenzione un altro aspetto paradossale ma estremamente interessante di questa capacità di corruzione pervasiva della polizia del ghetto era rappresentato dai cosiddetti bagni di disinfestazione nel tentativo vano di debellare e di prevenire le malattie le epidemie soprattutto nel ghetto di Varsavia le autorità sanitarie cercarono di organizzare in modo pianificato dei bagni caldi bollenti dove non soltanto le persone si potevano lavare ma venivano anche lavate bolliti i loro vestiti e gli effetti personali la biancheria taletto questi bagni di disinfestazione si rivelarono in moltissimi casi essere dei momenti terribili e traumatici per le famiglie nel ghetto perché costretti a uscire di casa con i pochi avere in mano per andare a fare il bagno molto spesso quando rientravano non trovavano più nulla e spesso erano gli stessi poliziotti a portare via quel poco di prezioso che trovavano nelle case essere esentati dai bagni di disinfestazione diventava a questo punto importante per cercare di mantenere in qualche modo inviolato il proprio appartamento il proprio seciglio e anche per questo i cittadini del ghetto erano disposti a pagare e i poliziotti erano disposti a farsi pagare raccontiamo brevemente una storia che potrebbe essere moltiplicata per mille o ancora più nel ghetto di Kaunas una ragazza viene inserita nelle liste per essere deportata e quindi viene chiusa in un carcere temporaneo prima della deportazione i genitori disperati vanno dal potente Penno Lipzer che abbiamo già ricordato un poliziotto che aveva dei legami piuttosto stretti con la Gestapo sono disposti a tutto Lipzer si fa dare dell'oro e libera la ragazza un'altra ragazza parte al posto suo sul treno che va verso lo sterminio è un po' la morale di questo comportamento generale e diffuso della polizia dei ghetti che poi trovò la sua più piena e più tragica realizzazione nel momento in cui i grandi rastrellamenti videro la polizia ebraica come protagonista almeno in una prima fase ma questo è l'ultimo momento della vita del ghetto nel giorno per giorno nella vita quotidiana ciò che appariva estremamente negativo ciò che suscitava grande indignazione da parte della gente era proprio la corruzione pervasiva di cui però alla fin fine tutti in un momento o nell'altro avevano bisogno la corruttibilità dei poliziotti e dall'altro i privilegi di cui essi godevano privilegi soprattutto di natura materiale e il più importante dei quali era sembrava essere essere esentati dalle deportazioni e dai rastrellamenti anzi essere loro a compierli non stupisce quindi che nei confronti della polizia del ghetto le critiche fossero feroci vorrei citare da un giornale clandestino nel ghetto di Varsavia che si chiamava El Al la polizia ebraica è delegata dei poteri ed esecutrice delle decisioni dell'occupante nella vita del ghetto serve volontariamente l'occupante senza costrizioni solo per la cupidigia di un profitto infame aiutandolo a realizzare le sue criminali decisioni le critiche sono feroci sono pervasive sono largamente prevalenti nell'opinione degli abitanti del ghetto tuttavia non mancano coloro che giustificano l'atteggiamento dei poliziotti c'è chi parla di una missione ingrata ma occorre pure che qualcuno la faccia e c'è chi comunque attribuisce in positivo alla polizia del ghetto la capacità di essere riuscita a mantenere un po' di ordine in quella anarchia in quel caos che era o che avrebbe potuto altrimenti essere la vita del ghetto certo è che queste critiche furono durissime da parte della larga parte dell'opinione pubblica nel ghetto e non è un caso che quando ne ebbero la possibilità i primi gruppi clandestini che si formarono nei ghetti cercarono anche di vendicarsi contro poliziotti capi della polizia capi dello juderrat d'altro canto i poliziotti erano tra l'incudine e il martello se non facevano ciò che volevano i loro padroni tedeschi rischiavano una punizione da parte dei primi se facevano ciò che veniva a loro richiesto suscitavano provocavano ostilità e desiderio di vendetta da parte dei propri coreligionari e alla fine da questa situazione di essere tra incudine e martello non ne uscirono vivi perché alla fine anche i poliziotti non furono esentati dalle deportazioni e finirono anch'essi in larga parte sterminati il punto culminante di questa difficile strada che i corpi di polizia dovevano percorrere all'interno della vita del ghetto è certamente quello dell'esecuzione di sentenze capitali in alcuni casi le autorità tedesche affidarono alla polizia ebraica l'esecuzione di sentenze capitali talvolta in presenza della popolazione del ghetto per accentuare l'effetto dissuasivo e simbolico e d'altro canto anche qui c'era chi osservava è meglio che siamo noi piuttosto che siano i tedeschi a fare queste azioni a punire i nostri coreligionari riprendiamo da una ennesima citazione dal diario di Emanuel Ringelblum lo storico di Varsavia che ha lasciato una delle più acute ed attente analisi della vita all'interno dei ghetti ebraici ci si lasci dire scrive Ringelblum che se anche siamo condannati a morte e lo sappiamo non abbiamo perso le nostre caratteristiche umane la nostra mente è altrettanto sveglia di come lo era prima della guerra un'attestazione di quanto vero fosse ciò che Ringelblum scriveva o perlomeno di quale impegno e di quale sforzo le comunità ebraiche abbiano dedicato a mantenere sveglia la propria umanità e la propria dignità la troviamo se andiamo ad analizzare ciò che avvenne nel campo della religione e della cultura i due campi sono naturalmente distinti in sé tuttavia all'interno della cultura e della tradizione ebraica vi è uno stretto legame tra religione e cultura e come ben noto la religione non è soltanto come talvolta può accadere in altri contesti un fenomeno riservato alla sfera spirituale ma è un fenomeno che in realtà impregna di sé tutta la vita individuale e collettiva e che rappresenta un collante indispensabile per la sopravvivenza e il fiorire della comunità stessa questo anche se nel corso del 8-900 una parte cospicua delle comunità ebraiche più alta in alcuni contesti più bassa in altri si era poi allontanata da una vera e propria frequentazione religiosa strettamente osservante ciò vale soprattutto per l'ebraismo russo e sovietico dopo il 1917 quando l'intervento coercitivo del regime comunista aveva di fatto tagliato le radici strettamente religiose delle comunità rispetto alla questione religiosa le autorità nazionalsocialiste sia in Germania prima del 1939 e poi dopo nei territori occupati assunsero un atteggiamento sostanzialmente indifferente dal punto di vista dell'ideologia nazionalsocialista gli ebrei erano prima di tutto una razza andavano quindi colpiti in quanto tali andavano tagliate le loro radici economiche e sociali delle questioni propriamente religiose il regime nazionalsocialista si disinteressò a lungo non è tuttavia un caso che in occasione della cosiddetta notte dei cristalli cioè nella notte tra l'8 e il 9 novembre 1938 quando milizie delle SS delle camicie brune scatenarono una violenza diffusa in tutto il territorio del Reich contro gli ebrei non è un caso dicevo che ad essere colpite fossero anche e in primo luogo sinagoge e luoghi di culto questo attacco nei confronti delle sinagoge aveva evidentemente una finalità soprattutto simbolica colpire gli ebrei laddove il nervo era più scoperto anche dopo l'occupazione della Polonia assistiamo in una primissima fase ad una violenza molto dura e credo anche qui con una finalità essenzialmente simbolica nei confronti delle sinagoge delle istituzioni religiose e dei rabbini che erano considerati i simboli la personificazione dell'ebraismo con tutti i suoi contenuti negativi in seguito però le autorità d'occupazione mostrarono sostanzialmente una tolleranza una tolleranza piuttosto ampia nei confronti dei fenomeni religiosi si arrivò addirittura nel governatorato generale nel 1941 a autorizzare nuovamente lo svolgimento delle feste religiose del calendario ebraico e addirittura nella ex capitale Varsavia il governatore Hans Frank antisemita rabbioso diede addirittura il permesso per la riapertura temporanea della grande sinagoga di via Tlomazie che era il simbolo stesso dell'ebraismo varsaviano improntata alla medesima tolleranza fu anche la concessione da parte delle autorità d'occupazione alle comunità di poter far produrre e distribuire in occasione della Pasqua ebraica Pesach il tradizionale pane azim di fronte a questa relativa tolleranza tuttavia vi erano delle enormi difficoltà di tipo strutturale materiale organizzativo che rendevano estremamente difficile la prosecuzione delle attività religiose e di culto erano problemi assolutamente banali ma fondamentali come era possibile in un contesto nel quale l'alimentazione andava via via perdendo di qualità e di quantità rispettare le rigorose norme relative al cibo kosher cioè al cibo religiosamente accettato e l'unico cibo consumabile da parte degli ebrei osservanti come era possibile in un sistema coercitivo come il ghetto in cui il lavoro era diventato l'elemento fondamentale essenziale per la sopravvivenza rispettare il sabato la festività ancora come era possibile là dove per lo più mancava acqua corrente gestire e tenere in vita il sistema dei bagni rituali anch'essi un elemento molto importante della vita collettiva sia religiosa che sociale nelle comunità ebraiche e infine si potrebbe ricordare la questione dei funerali la religione ebraica come tutte le religioni attribuiva una grande importanza alla celebrazione del rito dei funerali ma di fronte all'accumularsi delle migliaia e migliaia di morti fosse comuni epidemie malattie gente che cadeva per le strade morta uccisa dalla fame o da una qualche malattia come era pensabile riuscire a gestire il sistema dei funerali mantenendo il rispetto e la dignità previsti dalla religione quindi diventa cruciale all'interno di questa difficoltà di questa contraddizione diventa molto cruciale il ruolo dei rabbini abbiamo detto che inizialmente molti di essi furono eliminati spazzati via dalla violenza tedesca e non dimentichiamolo anche nei territori più orientali dalla violenza delle milizie nazionaliste i rabbini svolgevano nella comunità un ruolo fondamentale ad essi ci si rivolgeva per le richieste dalle più semplici e banali alle più cruciali della vita quotidiana della vita spirituale della vita familiare questo avveniva normalmente nella tradizione ebraica quale ruolo ebbero i rabbini nella vita degli ebrei chiusi nei ghetti è difficile parlarne in generale abbiamo pochi elementi un dato che salta gli occhi è che dalle testimonianze diaristiche e memorialistiche che abbiamo il fattore religioso appare poco significativo una delle scarse eccezioni in questo senso è rappresentata dal diario di Chaim Kaplan un intellettuale molto religioso di Varsavia Kaplan scrive ad esempio parlando dei cosiddetti minyanim che erano i gruppi di preghiera secondo la religione ebraica bisogna essere in dieci per pregare scrive Kaplan minyanim segreti a centinaia organizzano servizi per tutta Varsavia e non arretrano neppure di fronte agli indi liturgici più difficili solo preghiere sussurrate ma le preghiere vengono dal cuore la comunità è stata impoverita ed incrinata tuttavia esiste ancora e i rabbini continuarono in qualche modo anche se con crescente difficoltà a essere un elemento fondamentale della vita della comunità certo sparirono i partiti religiosi che avevano avuto un ruolo importante nella Polonia dell'anteguerra sparirono completamente ma i rabbini con la loro sapienza e con il rispetto che si erano conquistati all'interno delle comunità continuarono anche nei ghetti ad essere fonte di sapienza fonte di consigli per chi vi viveva proprio di fronte alle condizioni estreme del ghetto ai rabbini venne attribuita una responsabilità se possibile ancora più grande rispetto alla loro tradizione e alla loro storia ad essi infatti vennero poste questioni cruciali che riguardavano non aspetti accessori e marginali se vogliamo così ma che riguardavano la vita o la morte delle persone che stavano chiuse nel ghetto non è facile trarre valutazioni generali rispetto all'atteggiamento che i rabbini assunsero su queste questioni si può da un lato individuare una tendenza di molti rabbini a mantenere rigidamente fermi i punti i principi della religione dei dettami previsti dalle norme inflessibili rigorose e dettagliate della religione ebraica però è possibile anche individuare in molti casi interessanti una significativa flessibilità nelle prese di posizione dei rabbini queste prese di posizione assumevano la forma delle risposte erano chiamate responsa delle risposte scritte in parte che i rabbini davano acquisiti che venivano loro posti vorrei fare un paio di esempi relativi al ghetto di Kaunas nel quale abbiamo il rabbino capo Avraham Shapiro che più volte prese posizione in chiave di adattamento flessibile delle norme alla situazione estrema del ghetto Shapiro ad esempio emanò delle norme che esentavano dal rispetto del digiuno e di altri precetti alimentari per tutte le persone anziani persone ricoverate negli ospedali bambini che fossero indebolite dalla situazione della ghettizzazione la ghettizzazione secondo Shapiro costituiva un'eccezione tale visto che ne andava della vita o della morte da rendere non più valide in assoluto le norme alimentari così rigorose lo stesso Shapiro emanò più volte delle autorizzazioni per le donne ad abortire e lo stesso fecero come noto altri nei ghetti anche qui rompendo un precetto fondamentale della religiosità ebraica un altro rabbino di Kaunas il rabbino Oshri del quale ci è pervenuta una raccolta di risposte che diede ai quesiti dei suoi concittadini assunse atteggiamenti di grande flessibilità e di grande apertura mentale rispetto alla situazione del ghetto cercando di offrire a coloro che si rivolgevano a lui e alla sua sapienza degli elementi per rassicurarne la coscienza e allo stesso tempo per fare in modo che potessero tentare in qualche modo di sopravvivere nonostante tutto certo nonostante la flessibilità dei rabbini il contrasto di fondo la contraddizione di fondo tra la situazione della vita nel ghetto e i precetti della religione era enorme e tendeva sempre più ad approfondirsi prendiamo l'esempio dei matrimoni secondo le norme religiose ebraiche il matrimonio era regolato da un complesso sistema nel quale erano fortemente coinvolte le famiglie e per poter siglare i matrimoni dal punto di vista religioso occorrevano tutta una serie di condizioni di esami e di valutazioni di natura religiosa dei futuri sposi beh in molti casi il matrimonio del ghetto invece era una soluzione d'emergenza che poteva consentire ad un uomo e ad una donna sposandosi magari in modo fittizio di cercare di sopravvivere oppure di mettere insieme due razioni alimentari per tentare di campare e spesso accadeva che di fronte alla risposta negativa dei tribunali rabbinici che non accettavano matrimoni fittizi di questo tipo che non fossero corredati dalla necessaria documentazione troviamo semplicemente coppie anche religiose che si univano e quindi qui vediamo con chiarezza come la situazione del ghetto minasse lo stesso prestigio dei rabbini e rendesse la religione una pratica sempre più difficile nella concreta vita quotidiana si possono riscontrare tentativi davvero sovrumani al limite del possibile da parte di molti cittadini ebraici chiusi nei ghetti per rispettare nonostante tutto la precettistica religiosa ad esempio a Varsavia venne istituita un'associazione volontaria che si autotassava per prendersi cura almeno in un primo tempo dei funerali che andavano sempre più crescendo di numero fino a rendere poi impossibile la loro gestione al mercato nero fra le tante cose indispensabili che venivano vendute a caro prezzo si trovavano anche le candele necessarie per celebrare la festa di Hanukkah siccome non c'era farina nel periodo pasquale venivano usate le bucce tritate di patate per produrre il pane azimo era una religiosità che sembra essersi sempre di più concentrata nella sfera individuale ed intima sembra aver perso sempre di più il suo valore sociale e anche il suo valore di tenuta di collante della società ebraica per concentrarsi sempre di più sull'individuo e sulla sua sfera intima quindi un evento sempre meno collettivo e sociale ed un evento sempre più individuale d'altro canto anche l'atteggiamento dei rabbini da questo punto di vista venne a doversi scontrare con delle responsabilità assolutamente straordinarie i rabbini come abbiamo anche visto prima non avevano da decidere su futilità per dire così ma avevano da dare pareri assolutamente cruciali torniamo ancora una volta al rabbino Shapiro di Kaunas i cui funerali peraltro furono colti dalla comunità nel ghetto come un'occasione importante di manifestare partecipandovi in massa la propria fedeltà nei confronti della religione della tradizione e della cultura quando nell'autunno del 1941 il consiglio ebraico di Kaunas chiese a Shapiro cosa doveva fare di fronte alla richiesta tedesca anzi all'ordine tedesco di distribuire un certo numero di certificati di lavoro i cosiddetti certificati Jordan dal nome del responsabile dell'amministrazione del ghetto in cui numero era insufficiente rispetto al numero degli abitanti di fronte alla richiesta dello Junderrat cosa dovesse fare sapendo che coloro che non avrebbero ricevuto questi certificati si sarebbero trovati sicuramente in una situazione di grave pericolo per la propria vita beh Shapiro emanò un consiglio un responsa che pesava come pietra ed egli scrisse i capi della comunità devono raccogliere tutto il proprio coraggio ed assumersi la responsabilità di salvare quante più vite possibili alla responsabilità dei rabbini e del ceto religioso fa da contraltare la responsabilità degli intellettuali un'altra delle colonne portanti della comunità ebraica alla quale nelle situazioni difficilissima materiale e morale della vita nel ghetto furono poste sfide estremamente importanti e alla quale la cultura ebraica e gli intellettuali ebraici diedero delle risposte sulle quali ci soffermeremo la prossima volta si potrebbe pensare che in una situazione estrema nella quale gli elementi materiali della sopravvivenza del procurarsi del cibo o del combustibile per non morire di fame o di freddo ogni giorno la cultura rappresentasse un accessorio futile e insignificante così non è così non poteva essere nei ghetti ebraici a causa della fortissima straordinaria ricchezza della vita culturale che non era stata distrutta né da secoli e secoli di di segregazione e di diffidenza neppure come nel caso dell'Unione Sovietica dalla rigida politica di ortodossia culturale messa in atto dal regime comunista la cultura quindi ebbe un ruolo molto importante nei ghetti ebraici un ruolo nei confronti del quale fin da allora fin da quel momento si ebbero due atteggiamenti e due valutazioni diverse vi era chi riteneva che il mantenere in vita attività culturali degne di tale nome e degne delle proprie tradizioni rappresentasse un elemento importante per la tenuta morale e sociale della collettività vi erano invece altri che ritenevano che in quel momento proprio per la situazione di estremo bisogno e di estremo disagio materiale la cultura fosse una futilità o addirittura fosse dannosa a questo alcuni aggiungevano che continuare a vivere come se nulla fosse cambiato e quindi continuare anche a perseguire i propri interessi e le proprie tradizioni culturali rappresentasse in qualche modo un venire incontro alle attese delle autorità d'occupazione secondo le quali così in una lettura quasi marxiana della cultura come oppio dei popoli la cultura avrebbe rappresentato un utile strumento per distogliere gli ebrei dai loro problemi fondamentali che erano quelli della sopravvivenza oppure secondo alcuni della ribellione di fronte a questo dilemma si vengono a trovare tutti quegli intellettuali che nei ghetti persa la base materiale della loro vita vista la difficoltà di far funzionare le scuole e le istituzioni culturali come in tempi normali dovettero decidere se impegnarsi se cercare di darsi da fare per mantenere in vita una qualche attività culturale o meno si può dire che su questa decisione individuale abbiano inciso molti elementi anche di natura psicologica è certo tuttavia che in molti ghetti per lo meno nei ghetti più grandi per i quali abbiamo una documentazione abbastanza ricca le attività culturali continuarono continuarono anche se con grandi difficoltà materiali psicologiche e morali si domandava ad esempio un diarista nel ghetto di Kaunas in occasione dell'apertura della stagione teatrale per così dire organizzata all'interno del ghetto ognuno aveva la medesima sensazione era davvero giusto organizzare un concerto quando il sangue del nostro popolo era ancora caldo la risposta data a questo dilemma che però in qualche modo era ancora retorico venne nei fatti laddove vennero organizzate attività culturali e ricreative ai diversi livelli e di vario tipo possiamo trovare dovunque una forte partecipazione da parte della gente un grande interesse da parte degli ebrei chiusi nei ghetti i quali accorsero in gran numero alle attività concertistiche teatrali o affollando la biblioteca del ghetto di Vilnius costruita da Herman Kruk uno dei più grandi intellettuali di quella città che era conosciuta come la Gerusalemme di Lituania proprio per le sue alte tradizioni intellettuali e culturali non è un caso che le attività culturali venisse dedicata a una grande attenzione non solo da parte degli intellettuali ma anche da parte dei consigli ebraici ancora una volta il caso di Vilnius è assolutamente esemplare da questo punto di vista vorrei citare da una dichiarazione di Jakob Gens capo dello Judenrat noi desideravamo dare alla gente l'opportunità di liberarsi dal ghetto per qualche ora e abbiamo raggiunto l'obiettivo i nostri corpi sono nel ghetto ma il nostro spirito non è stato schiavizzato eccitazioni del genere si potrebbero moltiplicare sia per quanto riguarda i responsabili dei consigli ebraici sia per quanto riguarda gli intellettuali che si assunsero in prima persona l'impegno di portare avanti le attività culturali nei ghetti ancora una volta è Varsavia un laboratorio straordinariamente interessante anche perché nella capitale polacca c'era una grande tradizione culturale e a causa della grande dimensione della comunità ebraica c'erano strutture organizzative e materiali molto salde nel campo culturale a Varsavia assistiamo ad un interessante sviluppo della vita culturale del ghetto uno sviluppo che riflette e rispecchia quel conflitto che abbiamo più volte incontrato tra l'apparato del consiglio ebraico guidato da Cerniakov e quelle forme di auto organizzazione potremmo quasi chiamarla di democrazia dal basso che sono così caratteristiche del ghetto di Varsavia e che entrarono così fortemente in conflitto proprio con la gestione da parte dello Judenrat una testimonianza molto interessante in questo senso ci viene da Jonas Turkov discendente di una famiglia di teatranti lui stesso regista teatrale il quale sopravvissuto allo sterminio nei primi anni del dopoguerra scrisse una memoria in yiddish pubblicata a Buenos Aires e in questa memoria Turkov dichiara i motivi del proprio impegno nel ghetto a portare avanti un'attività teatrale noi siamo obbligati a portare avanti il nostro lavoro ed a combattere il nemico con le armi di cui disponiamo se riusciamo a costruire un nostro teatro daremo coraggio e gioia al ghetto e Turkov come altri si diede da fare e si impegnò in questo ambito arrivando a scontrarsi con lo Judenrat che voleva assumere il controllo anche delle attività culturali come di tutte le altre principali sfere di attività all'interno del ghetto e furono così allestiti centinaia di spettacoli teatrali di vario tipo in parte anche in lingua idisce l'antico linguaggio parlato nelle comunità ebraiche di tutta l'Europa orientale sappiamo che a Varsavia funzionarono più o meno regolarmente cinque teatri di cui due erano specializzati proprio in commedie e opere in yiddish e vi era poi una rivista o un musical che aveva il titolo molto americano di Melody Palace né mancavano nella capitale caffè o locali dove si suonava e si ballava naturalmente cultura intrattenimento non esiste una distinzione netta non esiste mai e non esiste neppure nel ghetto tra l'alta cultura e l'intrattenimento vi erano dei passaggi graduali e non sempre molto chiari ma soprattutto rispetto alla cultura di intrattenimento possiamo vedere una fortissima critica da parte proprio di quelle istituzioni democratiche come i comitati di caseggiato che abbiamo più volte incontrato nella stampa clandestina ad esempio troviamo un titolo molto significativo nei cimiteri non si balla era questa critica feroce nei confronti dei luoghi di intrattenimento che funzionarono fin quasi alla fine della vita del ghetto della capitale polacca in altri ghetti sappiamo che le attività culturali si svolsero in modo più intermittente e sporadico oppure invece furono vietate duramente da parte delle autorità d'occupazione quest'ultimo è il caso dei ghetti nella Galizia la Galizia era una provincia sudorientale della Polonia che venne occupata nell'estate del 1939 non dalla Germania hitleriana ma dall'Unione Sovietica di Stalin secondo l'accordo siglato tra Molotov e Ribbentrop nell'agosto del 1939 quindi le truppe tedesche entrarono in Galizia soltanto nel giugno luglio 1941 al momento dell'attacco contro l'Unione Sovietica in quel territorio vivevano più di 500.000 ebrei la gran parte dei quali erano quasi la personificazione dello stereotipo più negativo per gli antisemiti il cosiddetto Ost-Jude conformista ortodosso chiuso in se stesso che nel suo stesso vestire e apparire marcava nettamente una diversità secondo i nazionalsocialisti una inferiorità rispetto a coloro che lo circondavano beh in Galizia le autorità d'occupazione misero in atto una politica che uno storico recentemente ha chiamato un macello anche a causa della difficoltà di controllare una popolazione così vasta sparsa su un territorio molto ampio e potendo contare su un apparato di polizia civile piuttosto ridotto le autorità d'occupazione si dedicarono ad un massacro indiscriminato della popolazione ebraica galiziana con l'emanazione di durissimi divieti per qualunque tipo di attività religiosa o culturale e quindi a quanto è dato sapere soltanto in alcuni contesti fu possibile in forme clandestine e con un grande rischio portare avanti una minima attività culturale un altro esempio interessante è quello della città di Riga nel ghetto estone la popolazione per così dire indigena venne sterminata quasi subito per fare spazio a ebrei deportati dal Reich nell'autunno inverno 1941 1942 ebbene alla popolazione ebraica proveniente dalla Germania fu consentito dalle autorità tedesche di svolgere una qualche attività culturale e di mantenere sostanzialmente una struttura di attività religiose quasi normale mentre invece ai superstiti ebrei estoni venne vietato qualunque forma sia di tipo culturale che di tipo religioso complessivamente le contraddizioni che appaiono proprio rispetto alla questione della cultura sono evidenziabili attraverso due citazioni che vorrei portare qui Aouch un testimone dopo aver assistito ad uno spettacolo scriveva possiamo davvero affermare il futuro ci appartiene anche se al momento siamo stanchi e indeboliti dalla fame dal freddo e dalle botte un'altra citazione invece proviene ancora una volta dal ghetto di riga in un appartamento di via Sadovnikova il professor Dubnov siede nella sua stanza e scrive la storia ebraica nell'ospedale di via Luzas i medici continuano ad operare i loro pazienti con la forza della volontà e con la forza della ragione gli ebrei chiusi nei ghetti cercavano di sopravvivere e si può dire che qualcosa di loro è sopravvissuto nella cultura nella sfera religiosa nel ricordo se l'impegno culturale il mantenimento dei precetti religiosi hanno rappresentato un momento controverso lacerante ma probabilmente importante per saldare per quanto possibile le comunità ebraiche nei ghetti non si può negare che le necessità materiali giocassero un ruolo assolutamente cruciale e tra queste indubbiamente il lavoro il lavoro ha nel ghetto una centralità assoluta per inquadrare questo tema occorre brevemente richiamare la visione che le autorità nazionalsocialiste che l'ideologia nazionalsocialista attribuiva al lavoro per coloro che dal suo punto di vista sul piano razziale ideologico erano inferiori e sottomessi il lavoro era inteso e venne inteso e praticato dalla Germania nazionalsocialista prima della guerra ma soprattutto durante la guerra soprattutto come punizione come una degradazione fisica e morale arrivando addirittura al punto di usare il lavoro come strumento per sterminare i propri nemici e soprattutto gli ebrei d'altro canto però non mancava nemmeno il valore economico del lavoro l'importanza del lavoro soprattutto tenendo conto del fatto che in guerra l'economia tedesca era sottoposta ad una fortissima pressione ai limiti delle sue capacità e quindi qualunque risorsa esterna fosse possibile acquisire e rastrellare diventava cruciale e se noi consideriamo la disponibilità di milioni di lavoratori e lavoratrici praticamente gratuiti completamente sottomessi e passivi quali potevano essere gli ebrei in tutta l'Europa occupata ebrei per di più che disponevano spesso di capacità di talenti di esperienza lavorativa che poteva essere molto utile beh allora noi dobbiamo riflettere attentamente sulla contraddizione profonda che cogliamo nella politica di guerra del regime nazionalsocialista tra l'uso del lavoro come uno strumento di tortura di degradazione e di morte e l'uso del lavoro invece in termini razionali come uno strumento volto a migliorare e a rafforzare l'economia di guerra questa contraddizione è stata definitivamente sciolta dando la priorità al primo elemento e vorrei fare due esempi che sono molto diversi fra di loro che però attestano credo chiaramente il predominio e la priorità dei fattori ideologici rispetto ai fattori economici un primo esempio è rappresentato dal lavoro femminile nella popolazione del Reich vi erano milioni di donne giovani in età di lavoro capaci di lavorare potenzialmente che non lavoravano che non lavoravano perché la struttura sociale la stessa cultura del tempo attribuiva alla donna essenzialmente un ruolo domestico e familiare in particolare il regime nazionalsocialista vedeva la donna essenzialmente come madre e angelo del focolare analogamente a quanto faceva il fascismo in Italia e quindi il lavoro era visto soltanto come un ripiego malaccetto e non positivo per le donne le donne dovevano sostanzialmente svolgere un'attività precostituita sul piano ideologico e il lavoro non rientrava all'interno di questa lettura del ruolo della donna avvenne così che nonostante richieste pressioni all'interno dello stesso apparato nazionalsocialista alla fine fu lo stesso Hitler in persona a decidere che le donne non dovevano lavorare le donne tedesche non dovevano lavorare ma dovevano mantenere il proprio status di madre e di moglie e questo naturalmente rappresentava una contraddizione molto forte rispetto alla necessità di mano d'opera che c'era in quel momento in base alla concezione ideologica del nazionalsocialismo la donna moglie e madre non poteva lavorare neppure se l'economia di guerra ne aveva un grande bisogno secondo un pregiudizio ideologico opposto cioè negativo le autorità nazionalsocialiste trattarono i milioni di prigionieri dell'armata rossa catturati soprattutto nei primi mesi della grande avanzata nell'estate autunno del 1941 come se fossero dei sottouomini il cui destino era del tutto irrilevante rinchiusi in campi di prigionia per lo più fortunosi completamente disorganizzati di solito senza neppure un minimo di razioni di cibo una gran parte di questi prigionieri che erano giovani adulti in età e in forze per poter lavorare vennero lasciati morire di fame di freddo di malattie solo tardivamente quando ormai la gran parte di loro erano o morti o del tutto inadatti ormai a svolgere un lavoro pesante Hitler si convinse ad accettare l'idea che dei sovietici dei barbari comunisti potessero essere impiegati nelle attività necessarie per l'economia di guerra tedesca e quale fu l'atteggiamento nei confronti degli ebrei chiusi nei ghetti dell'Europa orientale ad una stima molto grossolana si può pensare che complessivamente nel corso della guerra circa due milioni di persone fossero chiuse nei ghetti in Polonia nei paesi baltici in Unione Sovietica di questi sicuramente una parte notevole era in età di lavoro ed era in grado di lavorare non dimentichiamo che le comunità ebraiche avevano grandi tradizioni ad esempio nel campo dell'artigianato pensiamo soltanto al settore tessile e quale fu l'atteggiamento delle autorità nei loro confronti vi erano delle pressioni provenienti da più parti e che miravano allo sfruttamento di questo potenziale notevole di mano d'opera che di fatto non costava nulla e che sostanzialmente era impotente e che quindi poteva essere sfruttata diciamo così senza limiti pressioni venivano sicuramente da parte delle autorità militari tedesche il cui interesse fondamentale era che l'economia di guerra funzionasse che le risorse tutte le risorse potenziali venissero messe a disposizione dell'economia di guerra tanto più in quanto la guerra si allungava e in quanto dopo l'entrata in campo degli Stati Uniti la superiorità materiale dei nemici era assolutamente preponderante vi era poi un interesse a sfruttare il potenziale lavorativo degli ebrei nei ghetti che proveniva dai funzionari a livello locale fossero essi militari come avveniva spesso nel caso dell'Unione Sovietica occupata o più più spesso civili qual era l'interesse che motivava i burocrati tedeschi che governavano i ghetti o le città in cui i ghetti erano collocati a far lavorare gli ebrei che vi erano rinchiusi certamente vi era un interesse personale talvolta questo interesse personale era materiale nel senso che speravano di trarne dei vantaggi e dei profitti personali e così sicuramente avvenne in molti casi ma più in generale l'interesse era quello che ogni buon burocrate ogni bravo burocrate ha di far funzionare bene l'apparato l'ufficio che gli viene dato di svolgere nel modo migliore l'incarico che gli viene attribuito e allora per molti funzionari che dovevano governare i ghetti era importante che i ghetti funzionassero bene che tutto andasse bene e che quindi anche ci fossero delle attività economiche produttive che facessero funzionare bene la vita nei ghetti lo coglieva molto bene un testimone dal ghetto di Kaunas il quale scriveva i tedeschi del commissariato territoriale lodano moltissimo il nostro lavoro non perché ci vogliono particolarmente bene ma semplicemente perché vogliono che i loro superiori vedano quali risultati siano stati raggiunti con gli ebrei l'interesse a sfruttare sul piano economico i ghetti era sicuramente condiviso anche da imprenditori privati tedeschi ma anche non spesso pregiudicati e senza scrupoli come Oscar Schindler reso noto dal film di Spielberg o come Walter Töbens un piccolo imprenditore tessile tedesco il quale ebbe la fortuna e l'intelligenza di impiantare una fabbrica a Varsavia nella fase finale della vita del ghetto diventò ricchissimo tornò poi in Germania e grazie anche alla protezione delle autorità americane continuò tranquillamente a fare i suoi affari e a vivere la sua vita senza che nessuno lo mettesse sotto accusa e vi era poi ultimo sicuramente ultimo per peso l'interesse degli Judenrethe dei consigli ebraici e dei loro capi del quale più volte abbiamo parlato questo interesse era forse in una piccola misura di tipo personale cioè di natura speculativa privatistica diremmo così sicuramente molto più importante era l'interesse che questi capi avevano di far funzionare bene la loro creatura di farla funzionare nel modo migliore e indubbiamente un peso notevole ha avuto nelle loro motivazioni e nel loro impegno in questo senso il desiderio di fare lavorare i ghetti di dare lavoro e quindi cibo un minimo di cibo alla popolazione ghettizzata in modo che la sopravvivenza di essa o perlomeno di una parte di essa fosse in qualche modo garantita all'inizio dell'occupazione militare in Polonia e poi anche in Unione Sovietica le autorità militari tedesche emanarono degli ordini molto serveri molto generici in verità che obbligavano tutti gli ebrei maschi in età dai 14 ai 60 anni a svolgere lavoro forzato secondo l'arbitrio degli occupanti era indubbiamente una forma punitiva che aveva soprattutto un valore simbolico un alto ed incisivo valore simbolico stava a significare nei confronti degli ebrei e in generale della popolazione della Polonia occupata siamo arrivati noi che siamo i padroni e facciamo quello che vogliamo da questo obbligo generalizzato di lavoro derivarono almeno in alcune aree tentativi piuttosto rilevanti da parte delle autorità d'occupazione di mettere in piedi una rete di campi di lavoro nei quali gli ebrei venissero sfruttati appunto sul piano lavorativo la forza lavoro venisse sfruttata ad esempio nel distretto orientale di Lublino fin dai primi mesi dell'occupazione fu una figura poi tristemente nota nello sterminio Odilo Globoznik che avrebbe terminato la sua carriera di macellaio a Trieste nella risiera di San Sabba a organizzare una rete di campi di lavoro nella quale gli ebrei erano costretti in condizioni durissime a vivere e a lavorare sulla questione dello sfruttamento del potenziale lavorativo degli ebrei chiusi nei ghetti si vennero a scontrare ben presto si vennero a formare ben presto all'interno delle autorità d'occupazione due linee e due pratiche di comportamento nettamente diverse le une dalle altre sono state evidenziate in particolare dallo storico americano Christopher Browning in alcuni studi molto importanti Browning distingue nettamente due opzioni che esistevano sulla carta e che poi vennero anche praticate in specifici contesti una era rappresentata da quelli che lui chiama i logoramentisti cioè coloro che consideravano il ghetto come un luogo in cui gli ebrei chiusi e lasciati a se stessi senza alcuna risorsa si sarebbero gradualmente rapidamente logorati fino a scomparire l'altra opzione era invece quella rappresentata da coloro che Browning chiama i produttivisti cioè coloro che per i motivi che abbiamo già in parte ricordato volevano invece sfruttare nel modo più razionale possibile il potenziale di mano d'opera rappresentato dagli ebrei ghettizzati il caso più eclatante della strategia logoramentista è sicuramente quello di Varsavia e lo abbiamo più volte ricordato più di 400.000 persone uomini donne bambini anziani chiusi in un minuscolo spazio senza risorse senza denaro senza cibo né medicine e almeno in un primo tempo senza alcuna possibilità di lavorare il caso invece più emblematico e più estremo e diremmo più efficace della strategia produttivistica è quello del ghetto di Ucch che anch'esso più volte è ritornato nelle nostre conversazioni a Ucch le finalità dell'apparato burocratico locale si incontrarono potremmo ironicamente dire si sposarono molto bene con gli interessi del consiglio ebraico guidato da Rumkowski capo dell'apparato d'occupazione nel ghetto era un piccolo industriale di Brema Hans Bibo che poi sarebbe stato condannato a morte giustiziato da un tribunale polacco a guerra finita Bibo teneva moltissimo e lo dimostrò in numerose occasioni al buon funzionamento del ghetto che egli considerava una sua creatura e certamente il suo interesse per il buon funzionamento della vita del ghetto non era assolutamente dovuto ad una benevolenza di Bibo nei confronti degli ebrei ma era dovuto invece alla sua visione alla sua speranza che facendo funzionare bene il ghetto egli sarebbe riuscito a fare carriera sarebbe stato ben valutato e ben giudicato dai suoi superiori per quanto riguarda il primo aspetto sappiamo da testimonianze certe che Bibo si rese responsabile dell'uccisione barbara e arbitraria di numerosi ebrei sia prima della loro chiusura nel ghetto che durante la ghettizzazione e fu per questo che Bibo venne poi condannato a morte nel dopoguerra egli tuttavia aveva sicuramente un interesse diciamo così di tipo burocratico di tipo funzionale al buon funzionamento del ghetto e si diede perciò da fare per organizzare insieme a Runckowski un sistema di lavoro all'interno del ghetto che era finalizzato all'economia di guerra questo sistema di lavoro vedeva una sorta divisione dei compiti tra il funzionario tedesco e il capo dello Judenrat il funzionario tedesco raccoglieva le commesse in Germania nel Reich e faceva poi un'attività diremo così di pubbliche relazioni Runckowski gestiva il ghetto senza intoppi come una grande macchina da lavoro abbiamo una documentazione fotografica estremamente interessante che mostra come ad un certo punto Bibo abbia organizzato una mostra fotografica di oggetti di beni prodotti all'interno del ghetto e abbia cercato di fare girare questa mostra in Germania soprattutto rendendo la nota ai suoi superiori ai vertici del terzo Reich l'interesse congiunto di Bibo e delle autorità ebraiche dei capi del Consiglio Ebraico diede indubbiamente dei risultati molto significativi se nei primi mesi del suo funzionamento all'interno del ghetto lavoravano circa 17.000 dei suoi 150.000 abitanti cioè circa un decimo nel momento finale della vita del ghetto nell'agosto del 1944 praticamente tutti i suoi 68.000 abitanti lavoravano nelle manifatture all'interno del ghetto e cosa producevano? producevano beni che erano indispensabili soprattutto all'economia di guerra tedesca l'ironia della storia è che nel ghetto gli ebrei producevano strumenti di morte strumenti che li avrebbero uccisi uno dei prodotti più importanti a cui si dedicò l'impegno dello Judenrat nel ghetto di Uc era ad esempio la produzione di scarponi di feltro o copri scarponi di feltro che avevano un'importanza vitale soprattutto nei freddissimi inverni sul fronte orientale solo per inciso ricordiamo che sovrascarponi di questo tipo non erano dati in dotazione ai nostri soldati ai soldati italiani sul fronte orientale il successo produttivo del ghetto leggibile attraverso la concentrazione di tutte le risorse possibili fino a bambini di 10-11 anni nelle attività lavorative è sicuramente rimarchevole leggiamo a questo proposito una testimonianza non esistono bambini nel ghetto i piccoli ebrei non vanno a lavorare prima dei 10 anni ma fanno la fila davanti alle cucine e alle panetterie ma ebrei di 11 anni vanno già a lavorare anziché correre per i prati o recarsi nei boschi a giocare con spade archi e frecce i bambini del ghetto lavorano ma questa concentrazione di risorse aveva un altissimo prezzo abbiamo detto che all'inizio gli abitanti del ghetto erano 170.000 alla fine 68.000 se noi togliamo all'incirca 45-50.000 persone morte per cause diremmo così naturali cioè sostanzialmente a causa delle epidemie e delle malattie rimangono svariate decine di migliaia di persone che invece furono espulse dal ghetto e come abbiamo ricordato a fare questo a stilare le liste a rastrellare le persone e a consegnarle alle autorità tedesche fu la stessa polizia del ghetto fu lo stesso Judenrath l'esempio opposto rispetto alla strategia produttivistica è rappresentato dalla capitale Varsavia nella quale come abbiamo più volte visto la gran parte della popolazione venne lasciata almeno per un anno dopo la chiusura nel ghetto sostanzialmente a se stessa fu solo gradualmente e non senza discussioni all'interno della burocrazia tedesca che si decise di avviare anche nella ex capitale polacca delle attività produttive ma queste avevano una caratteristica diversa rispetto a ciò che abbiamo visto per Uc mentre a Uc le attività produttive erano gestite centralisticamente da Runkowski e dal consiglio ebraico con tutte le conseguenze che ne derivavano una politica sostanzialmente dirigistica e anche fortemente repressiva e di controllo sulla forza lavoro a Varsavia invece predominò anche da questo punto di vista la posizione liberistica per così dire infatti fu lasciato spazio libero nel grande ghetto varsaviano sia a imprenditori privati tedeschi in qualche caso anche polacchi sia anche a imprenditori ebraici abbiamo più volte ricordato il film di Spielberg Schindler's List ebbene in questo film Schindler in una delle prime scene si fa dare del denaro e si fa dare anche degli operai da alcuni capitalisti ebraici c'era del denaro nel ghetto ce n'era ne era rimasto nonostante tutto c'erano dei capitalisti vecchi e nuovi ad esempio i contrabbandieri nel ghetto ebbene nel ghetto di Varsavia molti capitali per far partire queste attività produttive che nel gergo del ghetto venivano chiamati shops venivano proprio dalla comunità ebraica stessa benché impoverita e furono così istituite via via nel corso del 1941 fino agli inizi del 1942 decine e decine di piccole e grandi manifatture in parte gestite direttamente dagli ebrei che lavoravano sia per la vita interna del ghetto sia e soprattutto per l'esportazione le attività produttive nel ghetto di Varsavia vennero organizzate attraverso una dinamica complessa per così dire dal basso con la compartecipazione sia di capitalisti tedeschi forse anche di capitalisti polacchi e sia anche di capitalisti ebrei o di gruppi di ebrei che in qualche modo mettevano insieme in forme cooperative i capitali quel po' di attrezzature di cui disponevano per costituire officine manifatture che nel gergo del ghetto venivano definite shops in effetti i risultati produttivi del ghetto di Varsavia tra il 1941 e l'inizio del 1942 sembravano piuttosto promettenti tanto da far inorgoglire alcuni dei testimoni del tempo possiamo citare ancora una volta dal diario di Emanuel Ringelblum tutto ciò che prima della guerra era stato realizzato per il mercato ariano continuò ad essere prodotto anche dopo oppure una giovane diarista dalla capitale siamo indipendenti per così dire dal mondo esterno non solo non riceviamo più dall'esterno numerosi articoli ma esportiamo perfino alcuni prodotti come sigarette saccarina vino e liquori scarpe orologi e anche gioielli accanto all'attività all'interno del ghetto gestita o direttamente dallo Judenrat o come nel caso di Varsavia in forme miste con la compresenza diciamo così di organismi tedeschi ed ebraici l'altra forma principale di lavoro cui gli ebrei ghettizzati furono sottoposti era quella del lavoro all'esterno del ghetto lavoro di natura varia o in fabbriche o molto spesso in infrastrutture che portava contingenti colonne talvolta costituite da migliaia e migliaia di ebrei tutte le mattine all'alba fuori dal ghetto per rientrarvi alla sera vi erano poi altre corvè lavorative più distanti dai ghetti che invece si svolgevano non con una forma di pendolarismo ma con sostanzialmente con la residenza naturalmente in campi di fortuna degli ebrei costretti al lavoro per tutta la settimana per un fuggevole rientro a casa tra le braccia della famiglia per così dire per il sabato e la domenica naturalmente non dobbiamo pensare che si trattasse di un lavoro normale pur faticoso si trattava di un lavoro pesantissimo che veniva svolto in condizioni estreme molto difficili e che soprattutto veniva svolto senza che agli ebrei costretti a questo lavoro venissero messi a disposizione gli strumenti minimi per svolgere le proprie attività lavorative scrive ad esempio un testimone proprio relativamente a queste corvée fuori dal ghetto il lavoro nei campi di lavoro è per lo più estremamente duro sul piano fisico i lavoratori addetti a questi incarichi non ricevono né abiti adatti né stivaloni per l'acqua 8-10 ore al giorno in acqua fino alle ginocchia la loro razione consiste di caffè nero senza zucchero e forse mezzo chilo di pane stante la durezza di queste condizioni di lavoro stante le difficoltà logistiche più generali ma stante soprattutto la denutrizione cui erano sottoposti la grande maggioranza degli abitanti nei ghetti non può stupire che la produttività l'efficienza del lavoro nei ghetti fossero molto basse di questo erano consapevoli gli ebrei stessi scrive ancora una volta un testimone da Varsavia le branche produttive del ghetto che dipendono da questi ordini sono legate a circostanze particolari esse non hanno basi sicure e crolleranno e spariranno non appena le mure del ghetto crolleranno ma ancor più la questione della efficienza dei ghetti e delle attività produttive al loro interno stava al centro di dibattiti e di discussioni che si svolgevano negli apparati burocratici tedeschi si può dire che tra 1941 e 1942 in sede locale la strategia dei logoramentisti alla fine ebbe ragione ebbe il sopravvento i ghetti erano inefficienti costosi comunque rappresentavano una minaccia sul piano sanitario e possibilmente anche sul piano politico quindi qualunque attività produttiva che si svolgeva al loro interno non poteva salvarli la cronologia precisa delle decisioni che sfociarono nello sterminio definitivo della popolazione ebraica nell'Europa occupata è ancora oggi oggetto di discussione tra gli storici la data che in qualche modo viene presa di solito come punto di riferimento quella della conferenza svoltasi in una villa nella periferia di Berlino lungo le rive del Vansee il 20 gennaio 1942 è probabilmente una data poco significativa per chiarire la svolta che la politica nei confronti degli ebrei ebbe nel terzo Reich più in generale si deve tenere conto di molteplici fattori uno dei quali probabilmente è proprio rappresentato dal fatto che pur con l'impegno terribile faticosissimo da parte delle popolazioni costrette nei ghetti le autorità locali fossero del tutto insoddisfatte dell'efficienza nei ghetti stessi e fossero del tutto insoddisfatte di come le cose andavano nei ghetti e quindi prevalse ad un certo punto nettamente l'opzione di eliminare comunque tutti gli ebrei senza nessuna eccezione questa decisione che in realtà è un insieme di decisioni su cui probabilmente neppure Hitler disse la parola decisiva ma questo naturalmente non esenta per nulla il Führer nazionalsocialista dalle sue terribili responsabilità dicevo questo insieme di decisioni non venne rovesciato neppure dall'impegno di importanti esponenti del regime ricordo per esempio Albert Speer che all'inizio del 1942 venne incaricato da Hitler di gestire il ministero per gli armamenti dopo la morte del suo predecessore l'ingegner Fritz Todt Speer l'architetto del Führer forse l'unico del suo entourage nei confronti del quale Hitler nutrisse un sentimento di rispetto in qualche misura di amicizia ben presto iniziò a gestire non soltanto gli armamenti ma l'intera economia di guerra tedesca l'intento di Speer era quello di razionalizzare l'economia e di sfruttare tutte le risorse per raggiungere l'obiettivo fondamentale che era quello di prolungare la guerra e in qualche modo arrivare ad una soluzione politica magari un accordo con gli angloamericani contro l'unione sovietica in modo da non far uscire la Germania sconfitta dalla guerra nonostante l'impegno di Speer ma anche nonostante l'impegno di molte autorità militari ricordo ad esempio le autorità militari di Minsk che pur di evitare l'eliminazione di tutta la popolazione ebraica nel ghetto tenero chiusi per ben 5 giorni gli operai che stavano nelle loro fabbriche per evitare che cadessero nelle mani del rastrellamento nonostante questi ed altri tentativi di intervento complessivamente il destino degli ebrei chiusi nei ghetti era ormai segnato nonostante l'impegno ansioso e spaventoso della popolazione che lavorava nei ghetti questi non potevano essere salvati non potevano essere salvati da Speer men che meno potevano essere salvati da Rumkowski il loro destino era segnato tuttavia questo destino si evolvette in modo complesso e articolato non fu deciso da un giorno all'altro con un atto unico e preciso ci furono invece una serie di atti e di azioni di selezione e di eliminazione di cui ancora una volta il caso di Ucch è abbastanza significativo ma dappertutto nei principali ghetti dove la popolazione era occupata in attività lavorative per i tedeschi vennero via via introdotte forme di tesseramento che discriminavano i produttivi dagli improduttivi così a Vilnius vennero introdotte tessere gialle a Kaunas vennero introdotte le già ricordate tessere di Jordan a Leopoli vennero introdotte tessere siglate con una W tessere siglate con una R erano quelli che venivano chiamati passaporti per la vita da molti testimoni ricevere una tessera W piuttosto che una tessera R poteva significare sperare e poter sopravvivere alla luce dell'eliminazione definitiva e senza eccezioni degli ebrei nell'Europa orientale come possiamo giudicare come possiamo valutare storicamente i tentativi messi in atto dai consigli ebraici a Ucch e altrove di lavorare per i tedeschi di mettere a disposizione tutte le loro risorse per l'economia di guerra dei loro oppressori e dei loro carnefici se guardiamo i dati più nel dettaglio possiamo sicuramente riconoscere che la strategia del lavoro non era una strategia irrealistica e qualche risultato lo diede certo parziale i ghetti più produttivi i ghetti nei quali le attività lavorative a favore dei tedeschi furono organizzate nel modo più razionale furono gli ultimi ad essere liquidati il ghetto di Minsk rimase in piedi unico in tutta l'Unione Sovietica occupata fino all'estate del 1943 i ghetti di Bialistock e di Vilnius vennero liquidati soltanto nell'agosto e nel settembre del 1943 il ghetto baltico di Kaunas venne liquidato nel luglio 1944 e come abbiamo ricordato all'inizio di queste nostre conversazioni il ghetto di Ucch venne liquidato alla fine di agosto del 1944 e nel ghetto di Cestocova dove 10-15 mila ebrei vennero concentrati in attività produttive in fabbriche siderurgiche addirittura quella popolazione lavorativa venne liquidata soltanto nel gennaio del 1945 cioè pochi mesi prima che la guerra finisse credo sia significativa la valutazione espressa da uno dei massimi studiosi della tema peraltro uno studioso ebreo il quale dice le politiche dei consigli ebraici e in particolare di coloro che cercarono di salvare la propria comunità per mezzo del lavoro non possono essere denigrate come irrealistiche e addirittura come traditrici nonostante il fango che è stato gettato poi sui capi dei consigli ebraici nonostante il disprezzo che è stato espresso dalla cultura ebraica nei loro confronti ed il silenzio che per lunghissimo tempo è stato steso su di loro come li valuteremmo se la guerra fosse andata un po' diversamente se l'armata rossa fosse avanzata più rapidamente verso occidente se fosse riuscita ad arrivare nel ghetto di Uc o nel ghetto di Cestocova o nel ghetto di Kaunas qualche mese prima che l'ultima liquidazione avvenisse che l'ultimo restrillamento venisse messo in atto certo sono delle domande assolutamente pleonastiche perché così non è avvenuto tuttavia ci aiutano a capire un po' di più quanto complessa quanto ambigua quanto difficile fosse la politica di coloro che avevano nelle loro mani la vita dei ghetti i destini di decine e di centinaia di migliaia di loro correligionari forse si trattava di persone meschine forse si trattava anche di persone che erano state improvvisamente conquistate dal senso del potere dall'idea di poter disporre dei loro concittadini a loro piacimento di poter girare con i loro calesse o magari con un frustino in mano forse però si trattava anche di persone che si sono assunte sulla loro testa sulla loro responsabilità si sono assunte la gestione della vita e della morte di tante persone e hanno cercato probabilmente con l'estremo delle loro forze di evitare ciò che a un certo punto diventò inevitabile il rastrellamento e la liquidazione del ghetto infine non possiamo dimenticare un elemento assolutamente fondamentale noi oggi sappiamo come le cose sono andate noi oggi sappiamo che non c'erano possibilità di sopravvivenza che il destino degli ebrei in Europa era segnato anche se poi per fortuna alcuni di essi sono riusciti a sfuggire a quel destino ma allora cosa sapevano gli ebrei nei ghetti isolati chiusi chini sul loro lavoro sulle loro fatiche e sulle loro preoccupazioni quali erano le loro conoscenze reali di ciò che il destino riservava dobbiamo metterci dal loro punto di vista per cercare di capire i comportamenti dei consigli ebraici ma dobbiamo metterci dal loro punto di vista anche per cercare di capire i comportamenti di coloro che a un certo punto troppo tardi decisero di ribellarsi se noi vediamo in estrema sintesi la vicenda del ghetto simbolo quello di Varsavia possiamo individuare uno schema abbastanza semplice una fase di turbolenze e di violenze di modeste dimensioni all'inizio prima della ghettizzazione poi la chiusura nel ghetto e quindi una fase lunga piuttosto lunga di sostanziale anche se instabile tranquillità ed infine il rastrellamento finale la liquidazione del ghetto questo schema è troppo lineare ed è troppo schematico non corrisponde affatto alla realtà di ciò che avvenne tra il 1939 e il 1944 nell'Europa orientale in effetti è più realistico individuare all'interno della vita dei ghetti che durò da poche settimane a quattro anni poco meno di quattro anni come nel caso di Hucci è individuare dicevo delle fasi delle fasi estremamente complesse articolate caottiche sovrapposte le une sulle altre determinate da fattori congiunturali locali specifici che non possono essere ricondotti in alcun modo ad un quadro generale fasi nelle quali a momenti di stasi di relativa instabile pericolosa tranquillità si succedettero invece turbulenze parossistiche fasi di rastrellamenti e di deportazioni nemmeno regge in termini assoluti lo schema che sembra essere attribuibile alle aree dell'Unione Sovietica occupate dopo il giugno 1941 e che pur ritroviamo in molti casi una fase molto violenta di eliminazioni sporadiche casuali o solo apparentemente casuali nelle prime settimane nei primi mesi dopo l'occupazione di quei territori seguita da un periodo di relativa stabilità legata anche al lavoro come abbiamo appena visto e conclusa infine da un rastrellamento e da una liquidazione definitiva del ghetto anche questo schema che potremmo applicare eventualmente all'area più orientale dei territori sovietici non regge in effetti perché anche in quei territori non mancarono pur nella lunga fase di stabilità momenti invece di rastrellamento momenti di violenza la cui logica la cui razionalità non è sempre facile individuare in alcuni casi furono rastrellati gli uomini ma in altri casi furono rastrellate le donne allora se nel primo caso una spiegazione logica sembra essere quella di far fuori una parte della popolazione pericolosa o potenzialmente pericolosa maschi e adulti che avrebbero potuto armarsi organizzare bande partigiane mettere quindi in crisi il sistema dell'occupazione la logica invece di eliminare donne bambini anziani malati sembra rispondere piuttosto a motivazioni di tipo produttivistico eliminiamo cioè quelle parti della popolazione che presumibilmente non saranno in grado di lavorare o non saranno in grado di lavorare secondo ciò che noi vogliamo secondo l'efficienza che noi ci aspettiamo ancora di più il caso della Galizia è poi assolutamente peculiare in Galizia si può parlare di una vera caccia all'uomo quasi ininterrotta che durò praticamente due anni e più in cui ebrei furono in parte rinchiusi in campi di lavoro presso le aree dove dovevano lavorare per esempio nei campi petroliferi oppure lungo una serie di cantieri costituiti per costruire una grande strada che avrebbe dovuto collegare il Reich con l'unione sovietica occupata altri ebrei furono chiusi nei ghetti dopo che una parte della popolazione era stata eliminata ma anche in questi ghetti non mancarono fasi momenti di violenza e di rastrellamento era una situazione assolutamente caotica e questo derivava dal fatto che la politica nazionalsocialista nei confronti degli ebrei orientali era caotica ed era senza un piano di fondo una situazione caotica di fronte alla quale possiamo seppur vagamente immaginarci quale disorientamento avessero gli ebrei che ne erano colpiti che fare come difendersi quale scelta compiere per sperare di potersi salvare lavorare non lavorare nascondersi suicidarsi come e da chi venne deciso lo sterminio degli ebrei d'Europa è un problema che nonostante l'immensa letteratura e i grandi sforzi che vi sono stati dedicati dagli storici rimane ancora oggi largamente inesplorato sarebbe una spiegazione semplice quella di attribuire ad un ordine emanato ad un certo punto dal dittatore da Adolf Hitler la realizzazione di questa immensa macchina dello sterminio ma non sembra che sia accaduto così non esiste un ordine di Hitler probabilmente non è mai esistito un ordine di Hitler non esiste un piano un progetto preciso e chiaro relativo allo sterminio degli ebrei d'Europa piuttosto gli studi e le ricerche che sono stati fatti mettono in evidenza la compresenza talvolta anche conflittuale di iniziative provenienti dal basso di natura locale volte a risolvere dei problemi specifici di sovraffollamento relativi a questioni sanitarie o di natura economica con decisione prese dal centro tuttavia dobbiamo liberarci io credo dall'idea che lo sterminio sia un processo lineare e semplice deciso dal centro dalla mente malata del dittatore tedesco certo alcune decisioni furono sicuramente prese da quest'ultimo non si può negare che Hitler al momento dell'attacco contro l'Unione sovietica abbia dato degli ordini molto chiari di eliminare tutti i nemici politici o i potenziali nemici politici che incorporavano quello che egli spregiativamente chiamava il giudeo bolshevismo il nemico per eccellenza e fra questi nemici vi erano in primo luogo gli ebrei e i comunisti che finivano poi sostanzialmente per coincidere e non possiamo dimenticare che a seguito di questi ordini emanati già nei mesi precedenti la preparazione dell'attacco contro l'Unione sovietica tra giugno e ottobre del 1941 siano stati eliminati in modi casuali con fucilazioni di massa dai 5 ai 700 mila ebrei sovietici e poi anche nei primi mesi del 1942 vi fu una successiva ondata di massacri di questo tipo questo è un processo che ha una sua caratteristica specifica e una sua genesi specifica e che riguarda la questione cruciale per Hitler di realizzare questo scontro e di vincere questo scontro di ideologie questo scontro con il regime giudeo bolshevico diverso invece il processo di decisione e il processo di realizzazione dello sterminio degli ebrei negli altri paesi occupati e soprattutto in Polonia in quel territorio cioè dove per la prima volta dall'autunno del 39 in poi abbiamo la costituzione di Ghetti molto spesso si parla della conferenza svoltasi nella villa di Vanze alla periferia di Berlino il 20 gennaio 1942 come del momento in cui venne presa la decisione di sterminare tutti gli ebrei d'Europa ebbene a quella data il 20 gennaio del 42 erano già stati eliminati come abbiamo detto centinaia di migliaia di ebrei sovietici e anche nella Polonia occupata la macchina dello sterminio era già in moto quindi anche la conferenza di Vanze che pur ha un'importanza organizzativa e di coordinamento tra le varie istanze di partito e di regime non può essere considerata come il momento genetico dello sterminio in particolare nei confronti della Polonia e dei circa un milione e mezzo un milione e settecento mila ebrei che vivevano nei ghetti polacchi quali sono i motivi specifici perché venne decisa ad un certo punto la loro eliminazione ne sappiamo poco abbiamo già visto nei precedenti incontri come tutti i tentativi di mettere a frutto i ghetti dal punto di vista economico fossero destinati a fallire e risultassero inefficienti a causa delle condizioni in cui gli ebrei stessi erano tenuti i ghetti erano considerati dalle autorità tedesche focolai di malattie di epidemie e potenziali focolai di rivolte si aggiunga poi un ulteriore elemento le risorse alimentari erano scarse e per quanto poco venisse dato ai ghetti per quanto basse fossero le risorse distribuite alla popolazione ebraica ghettizzata evidentemente queste disorse erano da concentrare per la popolazione del Reich e alla luce di questa complessa serie di fattori che deve essere presa in considerazione la vicenda finale dei ghetti all'interno dei ghetti la vita era difficilissima durissima a causa delle restrizioni economiche delle restrizioni alimentari a causa delle difficilissime condizioni igienico-sanitarie tuttavia sembra di poter dire che ad un certo punto all'interno dei singoli ghetti venne raggiunta una sorta di stabilità una sorta di instabile equilibrio di sopravvivenza ma non si può pensare comunque che questa stabilità fosse un dato acquisito una volta per tutte in effetti in molti casi soprattutto nei ghetti baltici ma come vedremo dopo anche nel ghetto di Ucch la vita dei ghetti fu caratterizzata invece da una incessante serie di rastrellamenti e di deportazioni violente da parte delle autorità tedesche come avvenivano queste deportazioni come avvenivano questi rastrellamenti e soprattutto qual era la percezione che di questi eventi avevano gli abitanti nei ghetti noi non possiamo dimenticare che nonostante tutti gli sforzi la popolazione di un singolo ghetto era sostanzialmente isolata rispetto al resto del mondo certo vi erano alcune possibilità faticose di comunicazione in particolare esisteva una rete di messaggere di staffette donne donne soprattutto perché per le donne ebraiche era molto più facile camuffarsi muoversi sul territorio gli uomini ebraici avevano una caratteristica fisica la circoncisione che in caso di una perquisizione li svelava senza alcuna difficoltà per le donne questo problema non esisteva e quindi sappiamo di una rete di coraggiose ragazze per lo più molto giovani che si spostavano pur tra mille pericoli da un ghetto all'altro portando notizie quindi una qualche informazione circolava tuttavia noi possiamo credo ragionevolmente ritenere che ciascun ghetto fosse una sorta di monade chiuso in se stesso nel quale non esistevano informazioni su ciò che avveniva al di fuori e nel quale ogni singolo evento che arrivava dall'esterno un rastrellamento l'entrata di un corpo di polizia tedesco o ausiliare all'interno del ghetto veniva percepito come un evento assolutamente straordinario ed incomprensibile qual era il motivo di questi rastrellamenti qual era il motivo di queste selezioni e qual era il destino di coloro che venivano selezionati per noi oggi è facile capire che queste selezioni e che questi rastrellamenti avevano un obiettivo quello di eliminare la popolazione ebraica ma non sempre era così certo in alcuni casi era evidente che le selezioni portavano alla morte prendiamo il caso caratteristico della città lituana di Kaunas nella quale dopo le prime durissime violenze giugno-luglio 1941 la popolazione venne chiusa in un ghetto il 29 ottobre 1941 si svolse un rastrellamento durissimo all'interno del ghetto tutta la popolazione venne chiamata nella piazza principale del ghetto piazza democratu e lì per ore allineata in file di dieci e riuniti secondo i luoghi di lavoro dei capi famiglia migliaia e migliaia di ebrei attesero la selezione e questa selezione avveniva in un modo assolutamente caotico un testimone oculare scrive erano troppi gli ebrei perché fosse possibile una selezione accurata l'ufficiale mandava a suo piacimento la gente da una parte o dall'altra a sinistra come ben presto capimmo significava la morte in effetti 9200 persone vennero incanalate verso sinistra e nei giorni immediatamente successivi nonostante i tentativi del capo del consiglio ebraico di liberarli questi vennero fucilati con le mitragliatrici e poi sepolti in fosse comuni in un forte zarista alla periferia del ghetto e quindi era del tutto evidente perché giorno per giorno si sentivano per lunghe ore il crepitio delle mitragliatrici era del tutto evidente qual era il destino di questi selezionati ancora una volta un testimone i sopravvissuti nel ghetto correvano tutto attorno come pazzi cercando amici e parenti si chiudevano le orecchie per non dover sentire il terribile rumore delle mitragliatrici nel caso di questo rastrellamento di Kaunas e in altri casi era evidente a tutti i sopravvissuti che la destinazione dei rastrellati era la morte ma non era sempre così anzi più in generale la popolazione del ghetto non aveva in realtà nessun elemento preciso per stabilire dove sarebbero andati i loro cari i loro amici i loro conoscenti selezionati e non dobbiamo dimenticare che questa ignoranza questa non conoscenza del destino dei selezionati era favorita da una precisa e chiara politica delle autorità tedesche queste infatti svolgevano con grande accuratezza e con grande attenzione una tattica di mistificazione e di depistaggio diremmo noi attraverso molteplici rassicurazioni che i capi che i comandanti tedeschi davano ai capi degli Judenrethe attraverso l'uso di trucchi come quello di far scrivere alle persone che venivano selezionate e poi portate ai campi di sterminio delle cartoline delle brevi cartoline di saluto che poi venivano recapitate all'interno del ghetto attraverso la rassicurazione e l'uso di argomenti che i rastrellati andavano a lavorare verso est c'era questo mitico verso est oppure che sarebbero stati portati in altre zone in colonie agricole attraverso questa molteplice serie di mistificazioni e di bugie le autorità tedesche cercavano di tenere la popolazione dei ghetti il più possibile calma in modo che i rastrellamenti si svolgessero non nel disordine o perlomeno in un modo relativamente ordinato perché questo avrebbe significato accelerare i tempi ed essere più efficienti del rastrellamento e quindi assistiamo all'interno di tutti i ghetti soprattutto nell'area baltica e anche in altre zone dell'Europa orientale assistiamo a queste folate di paura di fronte alla minaccia di rastrellamenti seguite a loro volta da rastrellamenti da selezioni la cui destinazione era il più delle volte ignote addirittura vi sono anche dei casi nei quali i rastrellamenti venivano effettivamente realizzati per portare la gente a lavorare altrove è il caso di Liga il ghetto Estone l'unico ghetto ebraico rimasto in Estonia dove dopo una durissima eliminazione di circa 25.000 abitanti nel ghetto svoltasi in due sole giornate il 30 novembre e l'8 dicembre 1941 nel ghetto di Rumbuli alle porte della città nei mesi seguenti il ghetto visse in qualche modo una situazione di relativa stabilità ma quando arrivarono richieste da parte tedesca di mettere a disposizione un paio di migliaia di uomini di maschi in grado di lavorare per svolgere dei lavori fuori dal ghetto il ghetto fu preso dal panico e dal timore che si trattasse di una deportazione verso la morte questo caso è invece un caso in cui effettivamente poi grazie alle rassicurazioni date dalle autorità tedesche e di cui si fecero portavoci lo Judenrat e la polizia la deportazione effettivamente servì per svolgere corvè di lavoro fuori dal ghetto lo stesso ghetto di riga come è noto venne sciolto venne chiuso nel luglio del 1944 ma non venne chiuso attraverso lo sterminio dei suoi abitanti bensì i circa 8.000 sopravvissuti vennero presi caricati sui treni e portati verso occidente questa volta verso occidente per cercare di evitare che le truppe sovietiche l'armata rossa non era lontana dall'estonia che le truppe sovietiche arrivassero nel ghetto e liberassero la popolazione ebraica stessa quali possibilità avevano gli ebrei nel momento in cui si svolgeva un rastrellamento l'unica possibilità reale era quella di nascondersi nascondersi attraverso quelle che nel gergo del ghetto erano le malines cioè dei nascondigli che spesso venivano costruiti da gruppi di famiglie dagli abitanti di una stessa strada che si preparavano accuratamente e camuffavano accuratamente il loro nascondiglio nella speranza che al momento del rastrellamento al momento della deportazione il nascondiglio fosse un luogo sufficientemente sicuro per salvare loro la vita nascondersi nelle malines preparate con grande cura scavate e sistemate con grande cura tra una deportazione e l'altra tra un rastrellamento e l'altro era una possibile soluzione che molti ebrei vedevano per cercare di salvarsi l'organizzazione delle malines avveniva molto spesso in forme comunitarie e c'era gente disposta a pagare a peso d'oro per poter far parte del gruppo che vi si sarebbe potuto nascondere naturalmente la soluzione risultò poi alla fine una soluzione largamente inutile quando poi le autorità militari tedesche le SS e i loro complici compirono i loro controlli e le loro ricognizioni nei ghetti ormai vuoti i nascondigli vennero quasi tutti scoperti ed i loro abitanti subirono la stessa sorte di coloro che erano stati rastrellati precedentemente un'altra possibilità era quella di fuggire dal ghetto ma fuggire dal ghetto per andare dove fuggire dal ghetto prima del rastrellamento o cogliere l'occasione della confusione del rastrellamento per cercare di sfuggire al rastrellamento stesso scavalcare il muro il recinto la palizzata e mettersi in salvo ma mettersi in salvo dove? in quale contesto erano collocati i ghetti? in quale contesto non solo in termini territoriali ma in termini sociali? la popolazione chiusa nei ghetti era circondata da una popolazione disposta ad aiutarla? sensibile nei suoi confronti? compassionevole? pronta a dare una mano? io credo che complessivamente si debba dare una risposta negativa in questo senso vi sono molteplici indizi che mostrano come l'antisemitismo in qualche modo latente nelle popolazioni dell'Europa orientale già da prima dello scoppio della seconda guerra mondiale sia stato eventualmente accentuato dalle vicende della guerra e della ghettizzazione non dimentichiamo che in molti territori soprattutto negli stati ex sovietici occupati dall'URSS l'invasione tedesca venne considerata da molti come una liberazione e venne considerata come un'occasione per liberarsi del dominio comunista ma anche del dominio giudeo bolshevico quindi di liberarsi anche degli ebrei quindi dove fuggire? è una situazione difficilissima tanto che in molti casi addirittura gli ebrei che fuggivano da un rastrellamento finivano poi per tornare nel ghetto o per fuggiarsi in un altro ghetto perché in fondo il ghetto era l'unico luogo in qualche modo ironicamente sicuro di cui potevano godere leggiamo cosa dice ad esempio un testimone il quale venne rastrellato dal ghetto di Leopoli e caricato insieme a centinaia migliaia di altri suoi correligionari sui treni che andavano verso il campo di sterminio di Beusic e questo scrive agli ebrei che erano saltati dal treno non restava altro che rifugiarsi nuovamente nel ghetto sotto il vasto cielo di Dio non esisteva alcun posticino per loro dove potessero essere sicuri per almeno un giorno l'unica possibilità era loro offerta nonostante tutto dal ghetto dove avevano amici e conoscenti e dove potevano trovare qualcosa da mangiare e del vestiario e questa è l'ironia tragica della condizione degli ebrei chiusi nei ghetti che non avevano luoghi nei quali rifugiarsi nei quali sentirsi al sicuro se non il ghetto stesso che era il luogo del loro massacro e del loro destino nella primavera del 1942 Himmler in persona diede ordine di eliminare completamente i ghetti nel governatorato generale la parte centrale della Polonia con capitale Cracovia ma nella quale si trovava anche il gigantesco ghetto di Varsavia con più di 400.000 abitanti venne così avviata a partire dal marzo 1942 quella che è passata la storia come l'Aktion Reinhard dal nome di Reinhard Heydrich il vice capo delle SS a lui intitolata in modo postumo Heydrich infatti cadde vittima alla fine del maggio di quell'anno due mesi dopo di un attentato compiuto da partigiani ciechi nel governatorato generale il centro della Polonia occupata dai tedeschi vivevano ormai da un paio d'anni chiusi in decine di ghetti grandi e piccoli il più grande di questo Varsavia più di un milione e mezzo di persone da Berlino a quanto sembra arrivò la decisione di liberare definitivamente i ghetti della Polonia occupata di spazzare definitivamente e completamente via la popolazione ebraica questa decisione sembra sia stata presa personalmente da Himmler aducendo svariate motivazioni tra cui in primo luogo quella che gli ebrei comunque costituivano una peste pericolosa che doveva essere eliminata per lasciare spazio libero ai piani tedeschi si svolse quindi tra il marzo e il settembre del 1942 una complessa operazione di rastrellamenti e di stermini all'interno dei ghetti che passa appunto sotto il nome complessivo di azione Reinhardt questa operazione venne compiuta provincia per provincia zona per zona con caratteristiche diverse in parte diverse da una zona all'altra ma sostanzialmente con un elemento comune era una deportazione mirata essenzialmente e prioritariamente allo sterminio per questo obiettivo furono costruiti tre campi il campo di Beusec il campo di Treblinka e il campo di Sobibor che si andarono ad aggiungere al campo di Chelmno già creato nel dicembre 1941 nelle vicinanze di Ucci questi quattro campi sono effettivamente gli unici campi di sterminio nel senso proprio del termine il campo di Auschwitz che è il più famoso tristemente famoso era anche un campo di sterminio ma allo stesso tempo un campo di lavoro e un campo di detenzione questi quattro campi invece furono costruiti esclusivamente come fabbriche della morte il procedimento è molto noto nella sua semplicità nella sua crudezza i treni arrivavano al campo nel campo c'erano gli spogliatoi le docce queste docce funzionava il gas nel caso di Chelmno il gas veniva usato in camion piombati ma la differenza è puramente tecnica e i cadaveri venivano poi eliminati o in pire all'aperto oppure in una fase successiva e più elaborata nei forni crematori la deportazione degli ebrei del governatorato generale avvenne quindi in modo razionale ed organizzato nei mesi che vanno dal marzo del 42 al settembre dello stesso anno si iniziò con il distretto di lublino il distretto orientale di lublino e poi ci fu una successiva un appendice dell'operazione reinhardt nella primavera del 1943 venne liquidato il distretto più occidentale del governatorato il distretto di radom con circa 400.000 vittime le vittime complessive dell'azione reinhardt in questa sua fase centrale marzo settembre 1942 sono circa 750.000 la metà delle quali concentrata nel ghetto di Varsavia ci soffermeremo adesso sulle vicende nella capitale polacca che sono anche le meglio note e le più accuratamente descritte da numerosi testimoni il grande ghetto di Varsavia aveva vissuto una sostanziale relativa tranquillità fino alla primavera del 1942 naturalmente una relativa tranquillità considerato come abbiamo visto negli incontri precedenti l'altissimo numero di morti per malattie e per fame una prima scossa lieve ma che lasciò un segno profondo nella popolazione del ghetto a questa tranquillità venne da una retata compiuta dalla Gestapo nella notte tra il 17 e il 18 aprile del 1942 questa retata colpì 52 persone dirigenti di associazioni giovanili all'interno del ghetto che si stavano organizzando da tempo non solo per attività di tipo assistenziale e sociale per aiutare i tanti indigenti e i tanti disperati ma che stavano anche incominciando ad elaborare faticosamente e gradualmente una qualche coscienza di rivolta di reagire a questa situazione ed iniziarono a seguire da quella retata uno shock per il ghetto iniziarono a diffondersi lentamente ad insinuarsi voci di una possibile chiusura del ghetto di un parziale trasferimento della popolazione del ghetto verso oriente come era avvenuto nella fase di costruzione del ghetto due anni e mezzo prima molti testimoni del tempo erano scettici ritenevano che fosse impossibile chiudere un ghetto di queste dimensioni e spostare la sua popolazione addirittura Mary Berg che ci ha lasciato un diario molto dettagliato sulla vita nel ghetto di Varsavia riteneva che le autorità tedesche avessero diffuso ad arte voci su un possibile trasferimento del ghetto per creare panico e per creare insicurezza e scrive un'altra testimone vi era una diffusa inquietudine ma non panico non ancora invisibilmente e senza farsi sentire con passo vellutato la paura iniziò ad insinuarsi in noi e con insidiosa abilità a ficcare le sue zanne feroci nelle nostre carni iniziarono ad arrivare nel ghetto anche le notizie che provenivano dal distretto di Lublino dove già a partire da marzo le autorità tedesche guidate da Odilo Golboznik il futuro massacratore della risiera di San Sabba avevano avviato in modo pianificato la liquidazione di tutti i ghetti di quel distretto ma non era assolutamente noto non c'era assolutamente chiarezza su quale finalità avessero questi eventi che si stavano svolgendo a Lublino arrivò quindi credo come una doccia fredda la notizia il 22 luglio del 1942 che le autorità tedesche avevano emanato un'ordinanza che prevedeva uno spostamento a oriente di una parte della popolazione del ghetto in effetti l'ordinanza prevedeva anche una serie molto precisa di esenzioni di abitanti del ghetto da questa ordinanza di espulsione di spostamento verso oriente sarebbero stati esentati i lavoratori gli addetti alle organizzazioni assistenziali i membri dello Judenrat i membri della polizia e di loro familiari quindi sembrava in qualche modo un'ordinanza che avrebbe organizzato uno spostamento pianificato e limitato ma il giorno dopo Cernyakov si suicida il capo del consiglio ebraico si suicida e con questo come dire apre la strada alla consapevolezza che questa espulsione era tutt'altro che limitata e circoscritta nelle sue dimensioni il giorno successivo al suicidio di Cernyakov iniziò il rastrellamento che era organizzato in modo pianificato e molto chiaro all'esterno del ghetto il muro era sorvegliato dalla polizia polacca la cosiddetta polizia blu che avrebbe dovuto evitare fughe in massa dal ghetto stesso nel ghetto entravano invece milizie ucraine e lettoni ma almeno in questa prima fase il compito di rastrellare la popolazione strada per strada casa per casa venne affidato alla polizia ebraica stessa ebrei che rastrellavano ebrei questo era avvenuto in tutti gli altri ghetti sarebbe avvenuto anche successivamente nei pochi ghetti rimasti in piedi e si cercò in un primo tempo di convincere la gente a recarsi volontariamente alla deportazione questa deportazione avveniva nel cosiddetto Umschlagplatz una grande piazza un grande piazzale vuoto siamo in piena estate tra l'altro un'estate molto calda un piazzale vuoto completamente privo di qualunque struttura logistica nel quale si accumularono uno dopo l'altro migliaia e migliaia di persone ammassate senza acqua senza cibo senza nessuna possibilità di essere curate un convoglio ferroviario era pronto per caricare gli ebrei che vi venivano portati e poi partire verso una destinazione che era in quel momento ignota nel noto film Il pianista di Roman Polanski uscito un paio di anni fa vi è una scena piuttosto lunga nella parte iniziale del film che è proprio ambientata nell'Umschlagplatz di Varsavia dove la famiglia del pianista viene portata insieme a migliaia di altri sventurati volontari dicevo volontari che vengono attirati con un premio che nel ghetto in quel momento aveva un grande valore un testimone dice un vero tesoro a chi si recava volontariamente all'Umschlagplatz venivano dati tre chili di pane e un chilo di marmellata per il viaggio e molti sembra almeno in una primissima fase si illusero che davvero si trattasse di uno spostamento verso oriente e che questo cibo concesso per il viaggio fosse il viatico per un destino di sopravvivenza scrive uno dei tanti testimoni che hanno descritto giorno per giorno quasi il rastrellamento nel ghetto di Varsavia la volontà di vivere era così forte che essa riuscì a creare l'illusione necessaria per sostenersi gradualmente però con il passare dei giorni iniziò a diffondersi la paura e poi la consapevolezza che questo destino non era un destino fausto ma che si andava verso un destino terribile e negativo scrive un altro testimone Moshe Levin che ha descritto quasi giorno per giorno le vicende nel ghetto gli ebrei corrono come pazzi con in braccia i figli o fagotti di coperte e lenzuola la polizia sta effettuando il rastrellamento e funzionari della comunità ebraica con bracciali bianchi li assistono i testimoni esprimono critiche feroci nei confronti dei poliziotti che erano i protagonisti di questo rastrellamento almeno in una prima parte a partire dal 9 agosto infatti le autorità tedesche diedero ordine di stilare liste di dipendenti dello Judenrat e dei loro familiari e di stilare le liste dei familiari dei poliziotti a questo punto era evidente che l'esenzione per i privilegiati per gli esecutori non esisteva più molti poliziotti smisero di collaborare cercarono di mettersi in salvo di fuggire di nascondersi e quindi le autorità tedesche dovettero intervenire in prima persona da questo momento in poi il rastrellamento venne affidato alle milizie ucraine elettoni sotto la guida delle SS tedesche la crescente durezza dei rastrellamenti che di giorno in giorno si accentuava provocò nella grande massa della popolazione del ghetto di Varsavia una reazione di apatia non c'era più la forza di reagire non c'era più cibo non c'era più acqua non c'era alcun luogo dove potersi rifugiare e dove potersi nascondere a differenza senza che nei ghetti baltici dove da tempo la popolazione ghettizzata sapeva di rastrellamenti feroci e aveva quindi organizzato le malines a Varsavia il rastrellamento arrivò davvero come un fulmine a ciel sereno scrive un altro testimone la maggioranza di coloro che avevano perduto le mogli aveva smarrito anche l'energia e la voglia di vivere non avevano il coraggio di suicidarsi ma vivevano per forza di inerzia senza badare a nulla e si arrendevano al volere del fatto questa apatia sostanziale rese molto più facile e molto più efficiente nella seconda parte il rastrellamento rastrellamento che si concluse di colpo così come di colpo era iniziato il 12 settembre del 1942 le cifre ufficiali parlano molto chiaramente ufficialmente vennero deportati 253.741 persone nel campo di sterminio di Treblinka 11.500 vennero deportate invece in campi di lavoro esterni dalle 6 alle 10.000 persone caddero vittima di violenze per armi da fuoco nel corso del rastrellamento e quindi possiamo anche capire che tanta apatia poi in fondo non c'era per tutti e secondo le cifre circa 3500 persone morirono semplicemente di fame e di sete nell'Umschlagplatz ufficialmente restavano all'interno del ghetto poco più di 35.000 persone in realtà si stima che circa 10-15.000 fossero riusciti a nascondersi in qualche modo nelle settimane precedenti e rimasero quindi illegalmente all'interno del perimetro di quello che era stato il più grande ghetto ebraico d'Europa che venne trasformato radicalmente venne trasformato a questo punto in una specie di campo di lavoro alcuni di un'interno del perimetro di un'interno del perimetro alla sua vita originaria in quest'ultima fase della vita del ghetto sembra addirittura che si sia poi gradualmente e faticosamente iniziata a ricostituire una sorta di sempre più precaria normalità ma questa volta era una normalità che scontava il fatto che circa 300.000 persone erano state deportate praticamente senza reagire in poche settimane da qualche centinaio di miliziani ucraini lettoni e tedeschi non possiamo naturalmente dimenticare un brevissimo accenno al ghetto di Uc dal quale sono iniziate le nostre conversazioni il ghetto di Uc venne liquidato definitivamente nell'agosto del 1944 ma pur essendo il modello per così dire del produttivismo e dell'efficientismo ebraico non si può dimenticare che il ghetto venne percorso da numerosi rastrellamenti anche questi effettuati dalla polizia ebraica per volontà di Rumkowski che stilava le liste e che cercava in qualche modo di liberarsi delle persone considerate meno produttive e quindi anche all'interno del ghetto più produttivo e più efficiente in realtà la vita era caratterizzata da un'incessante paura da un'incessante panico ma vorrei chiudere con una citazione da un momento di conclusione di uno di questi numerosi rastrellamenti siamo nel giugno del 1944 alla notizia che Rumkowski aveva dato ordine di porre fine al rastrellamento scrive un testimone il ghetto il ghetto non è mai stato tanto felice la gente si abbraccia per le strade si bacia nelle fabbriche nessuno riflette che si trattasse soltanto di una breve interruzione ancora una volta una speranza nutrita dalla voglia di sopravvivere aveva preso il sopravvento due mesi dopo il ghetto l'ultimo ghetto non esisteva più le vicende del ghetto di Varsavia dove in poco più di 40 giorni le autorità tedesche piccoli reparti poterono deportare più di 300.000 persone oppure del ghetto di Uc dove sicuramente un centinaio di migliaia di ebrei vennero rastrellati e deportati dalla polizia ebraica stessa sacrificati sull'altare della produzione mettono lo storico ma direi anche il cittadino qualunque di fronte ad una grave questione di natura morale perché gli ebrei non si sono difesi perché gli ebrei non si sono ribellati è una questione estremamente controversa ed estremamente delicata che mette in campo problematiche fortemente attuali io credo che non si possa capire la politica attuale del governo dello Stato di Israele molto dura e molto violenta nei confronti di qualunque minaccia dall'esterno se non si considera proprio quell'antecedente storico quella passività e quella impotenza delle masse ebraiche che come pecore al macello si lasciarono deportare e massacrare questo termine pecore al macello si ritrova molto frequentemente come un riferimento critico autocritico nel mondo ebraico beh bisogna cercare di contestualizzare per capire un po' meglio la questione un grande storico israeliano Yehuda Bauer ha posto il problema capovolgendolo ci come mai un paio di milioni di prigionieri sovietici soldati dell'armata rossa catturati dalle autorità tedesche nei primi mesi dalla grande offensiva chiusi in campi di fortuna dove stavano morendo di fame e di sete praticamente quasi senza sorveglianza esterna anche perché non c'era la disponibilità di truppe per sorvegliare queste enorme masse di prigionieri come mai non si ribellarono e si trattava di una massa di giovani soldati ufficiali fisicamente e spiritualmente atti a combattere non certo le masse chiuse nei ghetti formate da anziani donne bambini persone che tutto nella loro vita avevano fatto forché imbracciare un'arma allora deve stupirci e deve suscitare ammirazione quel poco di resistenza che c'è stato dobbiamo essere sorpresi che una qualche forma di reazione ci sia stata teniamo presente almeno due elementi fondamentali a mio parere un primo elemento rappresentato dal contesto nel quale gli ebrei chiusi nei ghetti erano costretti a vivere lo abbiamo già detto era un contesto ostile o indifferente nei loro confronti era un contesto dal quale essi difficilmente potevano avere aiuto sono questioni controverse ma proviamo a riflettere sul fatto che il movimento di resistenza polacco organizzatissimo capillarmente diffuso sul territorio e che era riuscito tra l'altro a mettere in salvo e a custodire un numero di armi piuttosto significativo già nel momento della sconfitta del 1939 si rifiutò di fornire armi agli ebrei quando questi dal ghetto di Varsavia chiesero il loro aiuto o ne consegnò molto poche un ragionamento che per certi versi riflette lo stesso stereotipo di cui si diceva prima che dare armi agli ebrei che chiedevano di potersi ribellare in realtà sarebbe stato sprecare queste armi perché gli ebrei per loro natura non sono in grado di combattere non sono in grado di reagire le cose erano forse in parte diverse nei territori ex sovietici occupati dove i rapporti tra mondo ebraico e regime comunista erano dei rapporti più stretti ma anche qui ci troviamo sicuramente di fronte all'esistenza di vaste sacche di antisemitismo talvolta molto radicale pensiamo all'ucraina o pensiamo ai paesi baltici in un contesto così ostile come era pensabile che le comunità ebraiche ridotte agli stenti isolate senza informazioni e senza notizie fossero in grado di organizzarsi per ribellarsi il secondo fattore da tenere presente era rappresentato dalla non conoscenza dei fatti la popolazione nei ghetti era avida di notizie nei ghetti circolavano e regnavano le voci più strane e più fantasiose ma reali informazioni precise ne avevano estremamente poche e non credo che i capi degli Juden Rete avessero delle informazioni più precise l'avidità di notizie è rappresentata in forma letteraria dalla novella di Jurek Becker Jakob il bugiardo che ha avuto una trasposizione cinematografica recente protagonista Robin Williams Jakob casualmente ascolta una trasmissione radiofonica nella parte tedesca del ghetto rientrato all'interno del ghetto diffonde la notizia e a un certo punto sotto la pressione dei suoi correligionari che vogliono avere ulteriori informazioni si inventa di avere un apparecchio radiofonico e costruisce così una leggenda basata sull'ottimismo e sulla convinzione che gli alleati ormai stiano vincendo la guerra che l'armata rossa sia molto vicina questa scassa conoscenza dei fatti era ulteriormente accentuata dalla politica tedesca di camuffamento oltre alle cartoline che si diceva venissero inviate dai deportati ai familiari rimasti nel ghetto assicurando loro che tutto andava bene le autorità tedesche provvidero con grande attenzione a ripulire i vestiti che provenivano dai campi di sterminio prima di rispedirli all'interno del ghetto in maniera da togliere ogni accenno e ogni riferimento ai loro proprietari nonostante questa coltre di silenzio e di ignoranza molti elementi qua e là trapelavano e anche delle conoscenze piuttosto precise nel momento del grande rastrellamento di Varsavia non pochi riuscirono a sfuggire ai treni o addirittura riuscirono a scappare dal campo di Treblinka da cui riportarono informazioni dettagliate scrive un diarista quando la gente usciva dai treni veniva picchiata selvaggiamente venivano poi portati in grande baracche per cinque minuti si sentivano urla terribili poi il silenzio i corpi venivano estratti orribilmente gonfi alcuni giovani vengono scelti come vecchine e il giorno seguente vengono uccisi anche loro che orrore ma qual era la reazione prevalente di fronte a queste informazioni che pur qua e là trapelavano con una certa precisione come abbiamo visto la reazione prevalente era quella di non volerle accettare di respingerle sulla base di un fondamentale senso di sopravvivenza l'illusione di poter comunque sopravvivere l'illusione di poter essere non toccati da quel destino faceva sì che la rassegnazione prevalesse definitivamente tuttavia rompere questo muro di rassegnazione non era per nulla facile una rassegnazione basata sul terrore come abbiamo visto gradualmente e faticosamente si andarono comunque organizzando gruppi piccoli gruppi soprattutto di giovani i quali volevano in qualche modo reagire a questa situazione di impotenza e di inazione perché giovani forse si potrebbe dire perché i giovani hanno più voglia di vivere forse si potrebbe anche dire che i giovani ebrei chiusi nei ghetti erano meno oberati rispetto ai più anziani dalla mentalità del ghetto dalla passività dall'impotenza della sua fazione allo stare chiusi nel ghetto certo è che all'interno dei ghetti sono i giovani che si rendono protagonisti per primi del senso di reazione e della volontà di reazione scrive una di questi ora dobbiamo decidere per noi stessi i nostri genitori non si prenderanno cura di noi e sono proprio i giovani i protagonisti della resistenza inutile ma eroica nei ghetti c'è una data di inizio della resistenza ebraica nei ghetti e questa data può essere ricondotta al capodanno del 1942 quando un giovane ma già noto poeta di Vilnius Abba Kovner prese pubblico all'interno del ghetto un appello che con estrema lucidità coglieva il disegno hitleriano e chiamava alla rivolta scriveva Kovner 23enne Hitler progetta di distruggere tutti gli ebrei d'Europa destino degli ebrei lituani è quello di essere i primi della lista non lasciamoci condurre come le pecore al macello è vero che siamo deboli e indifesi ma la sola risposta agli assassini è la ribellione armata a partire dall'appello di Kovner a Vilnius iniziò a essere costituita un'organizzazione clandestina chiusa in se stessa formata tutta di giovani che iniziarono a raccogliere armi per il momento della rivolta certo le condizioni nelle quali operavano erano difficilissime i circa 300 militanti che a un certo punto vennero a far parte della organizzazione partigiana di Vilnius disponevano in tutto di 5 mitra leggeri 5 bombe a mano 30 pistole qualche decina di fucili poche centinaia di proiettili ma non è solo questo la visione che nei loro confronti c'era all'interno del ghetto era una visione assolutamente negativa scrive un testimone proprio riferendosi a loro solo persone codarde e confuse possono pensare di introdurre armi nel ghetto la paura degli loro corregionari che poi è dovunque simile era quella che qualunque azione che essi avessero progettato o compiuto avrebbe potuto rompere quel precario equilibrio nel quale il ghetto sopravviveva e noi sappiamo che questo non vale soltanto per la resistenza ebraica ma vale in generale per la resistenza nel corso della seconda guerra mondiale molti abitanti dei territori occupati dalle autorità tedesche erano convinti che fosse meglio aspettare stare fermi sperando che la guerra sarebbe prima o poi finita senza gravi danni per se stessi in più si aggiunga che le stesse autorità ebraiche erano contrarie alla organizzazione di questi gruppi di partigiani che minacciavano non soltanto la stabilità ma che in qualche modo minacciavano anche il potere dei Judenrethe e della polizia il caso di Vilnius è assolutamente straordinario Gens il capo della polizia dà ordini precisi di colpire i partigiani ebraici viene fatta una vera e propria caccia al capo dell'organizzazione partigiana Jakob Wittenberg il quale ad un certo punto di fronte alla minaccia di una rappresaglia tedesca finisce per consegnarsi alla polizia ebraica e viene poi da questa consegnato alla Gestapo il 16 luglio del 1943 e sarà giustiziato nel ghetto di Vilnius non vi fu insurrezione lo scioglimento del ghetto avvenne senza una reazione armata ma in qualche modo il seme lasciato da Abba Kovner e dai partigiani di Vilnius passò anche attraverso una rete di coraggiose staffette che andarono verso gli altri ghetti verso le altre città ebraiche passò ad altri contesti passò a Kaunas passò a Bialystok in quest'ultimo caso abbiamo l'organizzazione di una vera e propria rivolta nel momento del rastrellamento finale che si svolse nell'agosto del 1943 una rivolta eroica e coraggiosa ma che come ricorda una delle sue protagoniste si svolse nell'impotenza e nella passività della massa della popolazione non avevamo le masse dietro di noi ricorda questa testimone ad attestare come la popolazione avesse troppa paura e fosse assolutamente incapace di organizzarsi per sostenere i rivoltosi i rivoltosi in tutti i contesti dei quali abbiamo informazione si vennero a trovare completamente isolati o largamente isolati rispetto alla popolazione del ghetto nella quale prevaleva indiscutibilmente un atteggiamento di passività terrorizzata e rassegnata abbiamo addirittura un caso assolutamente straordinario in questo senso paradossale nel ghetto galiziano di Varanovice un gruppo di ragazzi avevano iniziato ad organizzarsi avevano raccolto delle armi e si stavano preparando a ribellarsi naturalmente quando ribellarsi era un punto cruciale quando ribellarsi era legato secondo la valutazione di questi eroici giovani al rastrellamento finale l'idea che nel momento in cui ci fosse chiara consapevolezza che quello era il rastrellamento finale dal quale il ghetto sarebbe stato completamente distrutto avrebbe in qualche modo a quel punto suscitato una reazione collettiva da parte della gente ebbene nel ghetto di Varanovice le autorità ebraiche la popolazione del ghetto era talmente terrorizzata e talmente preoccupata che questo gruppo di ragazzi di teste calde dal loro punto di vista facessero un atto sconsiderato che nel momento in cui le autorità tedesche annunciarono che nei giorni successivi ci sarebbe stato un rastrellamento per deportare la popolazione a oriente a lavorare come normalmente veniva dichiarato in questi casi presero questi giovani e li chiusero dopo averli disarmati li chiusero in un bunker quando il rastrellamento si svolse non ci fu perciò nessuna reazione da parte della popolazione la gente si lasciò portare semplicemente ai convogli e quindi al destino di morte e rimasero vivi questa è l'ironia della storia rimasero vivi proprio solo quei ragazzi chiusi in un bunker che avrebbero voluto ribellarsi con le armi e che avrebbero voluto comunque sacrificare la propria vita almeno per dare un segnale di rivolta e di ribellione ci furono a quanto sappiamo altri casi di rivolta nel momento dei rastrellamenti finali ci furono anche in alcuni casi tentativi certo disperati di fuga di massa dal ghetto nel momento della rivolta in alcuni casi per esempio in Bielorussia ed in Ucraina sappiamo di gruppi di ebrei che terrorizzati al momento della deportazione cercarono di dare fuoco alle proprie case alle case del ghetto sperando nella confusione dell'incendio di potersi mettere in salvo tutti quanti fuori dal ghetto ma naturalmente fuori dove? questo era ancora una volta il problema cruciale andare nei boschi era l'espressione che si usava in quel momento che corrisponde al nostro andare in montagna dell'Italia del 1943 1945 ma andare fuori dove? e per fare cosa? certo soprattutto nei territori sovietici occupati vi era una ramificata organizzazione di partigiani ma non tutti i reparti partigiani erano disponibili ad accettare degli ebrei al loro interno molte bande partigiane in realtà erano fortemente antisemite e poi più in generale come si poteva pensare anche dal punto di vista di una banda partigiana di dare accoglienza a gruppi magari numerosi di uomini donne anziani bambini che fuori dai ghetti non avevano nessun'altra possibilità di sopravvivenza ma che avrebbero rappresentato un onere organizzativo per la banda partigiana stessa la resistenza ebraica trova la sua concretizzazione simbolica più alta certamente nell'insurrezione del ghetto di Varsavia dell'aprile e maggio del 1943 la decisione faticosa e sofferta di un certo numero di giovani nell'ex capitale polacca di reagire è sicuramente figlia della constatazione di ciò che era avvenuto in occasione del grande rastrellamento quando come abbiamo visto praticamente senza alcuna reazione da parte della popolazione più di 300.000 persone erano state deportate davvero come pecore al macello verso il campo di sterminio di Treblinka uno di coloro che poi avrebbero dato vita alle prime organizzazioni partigiane così riflette su quello shock la nostra colpa è stata di non aver reagito immediatamente dopo il primo giorno iniziando una guerra senza tregua con la polizia ebraica saremmo riusciti a salvare della gente? no assolutamente no ma senza la polizia ebraica i tedeschi non avrebbero avuto la possibilità di condurre a termine così facilmente e rapidamente il loro lavoro e Ringelblum scrive adesso ci vergogniamo di noi stessi siamo disonorati ai nostri stessi occhi e agli occhi del mondo intero dobbiamo opporre resistenza a questa constatazione Amara fece seguito il tentativo nell'autunno inverno 42-43 di organizzare i primi gruppi di partigiani armati all'interno del ghetto di Varsavia furono così costituite due organizzazioni che rispecchiavano due diversi orientamenti politici che pur avevano continuato a vivere all'interno del ghetto una riuniva i sionisti e gruppi di varia natura diciamo di area della sinistra ebraica mentre l'altra organizzazione militare era l'emanazione dei sionisti cosiddetti revisionisti queste organizzazioni furono costituite da alcuni giovani per lo più erano formate da ragazzi ventenni o poco più che ventenni che iniziarono febbrilmente ad organizzare nascondigli a preparare armi e soprattutto a prepararsi spiritualmente per la lotta finale nel ghetto la loro convinzione forte non era che ribellandosi con le armi sarebbe stato possibile salvare la popolazione del ghetto ormai il ghetto era diventato soltanto l'ombra di se stesso era in realtà un insieme di dormitori e di fabbriche in cui lavorava un esercito di automi ma l'idea forte era quella comunque con un atto di ribellione di poter riscattare la dignità ebraica abbiamo già accennato alla difficoltà estreme dei rapporti con la resistenza polacca al di fuori del ghetto è un tema molto controverso su cui ancora oggi la letteratura si scontra con posizioni contrapposte sta di fatto che gli aiuti dall'esterno furono molto ridotti sul piano numerico non c'era assolutamente la convinzione da parte della resistenza polacca così ben organizzata che gli ebrei davvero sarebbero stati in grado di reagire anche i polacchi fuori dal ghetto avevano visto la passività e l'impotenza con cui il grande rastrellamento era stato effettuato fu perciò una sorpresa straordinaria all'interno di ciò che restava del ghetto ma all'interno della capitale Varsavia ciò che avvenne il 18 gennaio del 1943 Himmler che pochi giorni prima aveva visitato ciò che restava del ghetto aveva deciso che la sua popolazione era ancora troppo ampia e che doveva venire ulteriormente ridimensionato il 18 gennaio alcune centinaia di miliziani ucraini e qualche poliziotto tedesco entrarono nel ghetto con l'intenzione di compiere il solito rastrellamento convinti che lo avrebbero potuto fare senza opposizione furono accolti a colpi di fucile e a lanci di bottiglie Molotov i colpi di arma da fuoco con i quali il rastrellamento del 18 gennaio venne accolto nel ghetto di Varsavia segnano davvero una svolta cruciale nella vita e nella percezione di sé che l'ebraismo europeo aveva e che avrebbe avuto anche nel futuro ha scritto uno storico credo correttamente quel giorno fu una vittoria morale per gli ebrei di Varsavia così come per gli ebrei in generale la lotta durò circa cinque giorni il rastrellamento venne sì compiuto ma i suoi risultati furono assai più modesti rispetto alle aspettative fu possibile catturare e deportare soltanto 5500 ebrei un migliaio vennero uccisi in combattimento certo non tutti con le armi in mano anche perché le organizzazioni partigiane non disponevano assolutamente di un numero così alto di armi ma il segnale in qualche modo era stato dato e il segnale fu colto anche dalle autorità tedesche Himmler decise una volta per tutte che il ghetto di Varsavia doveva essere cancellato definitivamente in quanto focolaio di ribellione della peste ebraica come egli si esprimeva e la successiva azione da parte tedesca venne compiuta a questo punto come una vera e propria azione militare organizzata in modo pianificato con l'intento di spazzare definitivamente via tutto ciò che restava del ghetto e di spazzare anche via la resistenza ebraica armata che a questo punto ci si aspettava anche le organizzazioni partigiane dentro al ghetto iniziarono naturalmente a organizzarsi febbrilmente continuarono a accumulare armi a preparare nascondigli nella convinzione che quella sarebbe stata la loro ultima battaglia e l'ultima battaglia iniziò il 19 di aprile quando una serie di contingenti armati pesantemente armati tra l'altro con cannoni carri armati autoblindo entrarono nel ghetto sotto la guida del generale dell'SS Stroop e vi fu come le autorità tedesche si aspettavano una durissima reazione una lotta ormai per la vita e per la morte da parte di alcune centinaia di partigiani si calcola che erano all'incirca un migliaio probabilmente con nemmeno un'arma da fuoco a testa la lotta durò casa per casa sappiamo che le autorità tedesche furono costrette ad usare i mezzi lanciafiamme i carri armati i cannoni per demolire una dopo l'altra le case nelle quali i partigiani avevano organizzato i loro nidi di resistenza e la lotta durò fino all'8 maggio del 1943 con il suicidio di Mordechai Anielewitz il giovanissimo capo della resistenza a Varsavia e di alcuni altri esponenti della resistenza stessa una settimana dopo a siglare anche in modo simbolico la distruzione dell'ebraismo varsaviano la distruzione definitiva dell'ebraismo varsaviano le autorità tedesche minarono e fecero saltare in aria la grande sinagoga di Viat Lomazie simbolo dell'ebraismo varsaviano poche decine di combattenti poterono mettersi in salvo soprattutto attraverso il sistema delle fognature in parte aiutati dai partigiani polacchi ma nel ghetto ormai non esisteva più nessuno vivo era tuttavia significativo che ci fosse stata questa resistenza e credo che se anche forse è apocrifa credo tuttavia che una famosissima citazione del testamento spirituale di Anielewitz in realtà non ne abbiamo traccia documentaria attesti comunque con molta chiarezza lo spirito di quest'ultima resistenza in questo testamento Anielewitz avrebbe scritto il sogno della mia vita è ormai realizzato l'autodifesa ebraica è un fatto compiuto la vicenda dei ghetti ebraici nell'Europa orientale che è stato oggetto di queste conversazioni può essere ricondotta ad una semplice anticamera dello sterminio ad un passaggio poco significativo verso l'eliminazione definitiva di milioni circa 6 milioni di ebrei europei io non credo i ghetti in realtà devono essere considerati un fenomeno complesso ed articolato caratterizzato da una propria dinamica anche se in alcuni casi la vita dei ghetti è durata poche settimane o pochi mesi ma molti di essi sono rimasti in piedi per anni due tre quattro anni non dimentichiamo che è una vicenda che ha coinvolto circa 3 milioni di ebrei e che un gran numero di essi sono morti dentro ai ghetti prima di essere sterminati quindi i ghetti devono essere considerati come un fenomeno significativo e dotato di una sua dignità e di una sua autonomia questo non è avvenuto generalmente né da parte dell'astrografia né da parte della percezione collettiva dell'opinione pubblica ovviamente ebraica in primo luogo ma internazionale in senso più ampio perché? ma io credo che questo sia dovuto al fatto che la vita all'interno dei ghetti è stata caratterizzata da moltissimi elementi di compromesso adattamento rassegnazione passività corruzione scrive un diarista a valsaviano il mondo del ghetto si basa su tre cose su corruzione su corruzione e ancora su corruzione un altro testimone scrive gli ideali di fierezza di onore nazionale sono sostituiti da un ideale supremo il pane anche se questo pane è tutto inzuppato del veleno della viltà gli occhi affamati del ghetto lo fisseranno avidamente i denti si affonderanno con delizia nella massa odorosa per mangiare per calmare la fame una vita senza orientamenti senza valori in parte sì ma in parte anche una vita nella quale gli orientamenti e i valori delle vecchie società da cui gli ebrei ghettizzati provenivano continuarono ad avere peso ad avere forza pensiamo alla religione pensiamo alla cultura pensiamo alle attività economiche e che pur furono costretti a modificarsi anche profondamente a causa del contesto della pressione poderosa da parte degli occupanti che vedevano i ghetti come una soluzione malaccetta provvisoria un male minore comunque da sfruttare d'altro canto se molti giudizi hanno messo in luce anche da parte dei testimoni coevi il venir meno il corrompersi il degradarsi dei valori tradizionali bisogna anche sottolineare come sia stato altrettanto forte forse ancora più forte la volontà in qualche modo di reagire di darsi da fare per sopravvivere scrive un'altra testimone che poi è diventata una grande storica la schiacciante maggioranza portò la decenza e la preoccupazione fraterna nel ghetto essi preservarono la propria umanità cercando di portare avanti la routine quotidiana di una normale esistenza in un periodo di crisi proteggendo la famiglia educando i fanciulli nutrendo gli affamati curando i malati soddisfacendo esigenze intellettuali e culturali i dilemmi morali che la condizione del ghetto impose alla popolazione che vi venne sottoposta sono stati brillantemente riassunti da Oscar Rosenfeld un giornalista viennese deportato nel ghetto di Ucci che ci ha lasciato un diario molto profondo e molto attento nell'analisi della vita nel ghetto scrive Rosenfeld noi viviamo dicono alcuni perché abbiamo impostato la nostra vita secondo i criteri più primitivi noi viviamo dicono altri perché siamo riusciti a conservare in vita le sensazioni verso ciò che è grande giusto verso ciò che ha un futuro noi viviamo dicono i primi perché tutto quanto è stato finalizzato a tenerci in vita noi viviamo dicono i secondi perché abbiamo ancora una sensibilità verso il metafisico noi ci siamo adattati al presente ma nel nostro intimo siamo pronti a ciò che il futuro ci riserverà nei ghetti grandi e piccoli aperti o chiusi di lavoro o no incontriamo i nuovi ricchi e le signore alla moda che scavalcavano corpi seminudi di uomini e donne morenti o già morte di fame di freddo per raggiungere i ristoranti e i caffè in cui era possibile bere e mangiare abbondantemente ma troviamo anche le centinaia migliaia di persone che dedicavano ogni loro energia ad aiutare i più sfortunati organizzando ricoveri infermerie cucine pubbliche gratuite gli egoismi più sfrenati si accompagnavano al sacrificio di sé e dei beni più preziosi quanto deve essere costato alle madri far uscire dal ghetto i propri figli affidandoli a qualche generosa o interessata famiglia ariana con la consapevolezza che non li avrebbero mai più visti nei ghetti migliaia di persone mettevano al centro della loro esistenza quotidiana la spasmodica incessante ricerca del cibo di un luogo dove dormire di un rifugio di un nascondiglio di una tessera che offrisse possibilità di sopravvivenza ma altri scrivevano studiavano pregavano componevano poesie e racconti nutrendo il proprio spirito nei ghetti in cui migliaia di ragazzi e ragazze venivano fatti studiare clandestinamente e con grandi sacrifici altri loro coetanei vivevano la giornata di furti di sotterfugi sospinti dai bisogni più elementari molti di loro rischiavano la vita per contrabbandare cibo o altri beni preziosi tutti i protagonisti della vita nella società del ghetto presentano ambiguità e duplicità i contrabbandieri erano eroi ora paci sfruttatori i capi degli juden rete erano attenti custodi della comunità o non piuttosto arrivisti disposti a tutto pur di salvare se stessi e i propri familiari ma anche i partigiani giustamente eroicizzati poi dalla tradizione ebraica ed israeliana erano splendidi eroi estremi difensori dell'orgoglio nazionale ebraico e antessiniani dell'orgoglio nazionale israeliano oppure erano dei giovani delle teste calde irresponsabili che con le loro azioni mettevano a repentaglio la precaria stabilità raggiunta dal ghetto la dura vita nel ghetto ha fatto emergere nuove gerarchie nuovi valori ma ne ha indeboliti altri come la fede religiosa e la famiglia ha rappresentato una prova durissima per le comunità ghettizzate a cui non tutti sono riusciti a reggere preservando se stessi e la propria dignità ma occorre anche chiedersi cosa sarebbe accaduto in simili circostanze ad altri popoli magari di più salde tradizioni nazionali dai ghetti sono usciti vivi pochi e molti dei vivi che sono usciti dai ghetti sono morti subito dopo nelle foreste di Ripponari nelle fosse comuni di Rumbuli nei campi di sterminio però dai ghetti sono usciti vivi anche ebrei ed ebree che poi sono andati faticosamente a ricostruire al di là dell'Atlantico oppure nel neonato stato di Israele la propria vita e i propri valori abbiamo trasmesso alle otto della sera in redazione Nella Ottolenghi regia di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli alle otto della sera chiocciolarai.it per riascoltarci www.radiodue.rai.it www.radiodue.rai.it